ed eccoci qua you are live siamo in diretta siamo in diretta dopo la prima maratona che fu già di per sé una piccola grande follia ci siamo detti perché non rifare una piccola grande follia e farla anche con qualche qualche diciamo così qualche ambizione in più quindi ciao ovviamente a Michele e ciao a Lucrezia che adesso andrò a presentarvi perché non credo che in molti su questi canali l'abbiano l'abbiano già conosciuta e io ovviamente sono Riccardo dal ferro e siamo qua per di nuovo proporre delle riflessioni coinvolgendo esperti di vari campi intorno alla convivenza col coronavirus la differenza con la volta precedente con la live di due settimane fa due settimane fa esatte è che intanto ci sono un po meno ospiti e gli ospiti sono stati scelti con criteri anche un po più tecnici quindi infatti se andate a vedere la l'infografica che abbiamo diffuso in questi giorni sui social vi accorgerete che stavolta la ripartizione degli argomenti è proprio legata a dei discorsi dei ministeri cioè c'è il ministero dell'istruzione c'è il ministero delle finanze il tesoro c'è il ministero insomma è questa un po quindi è una sorta di consiglio dei ministri di liberi oltre che cercheremo di mediare e lo faremo ovviamente io Michele che però sarà anche partecipante a uno dei consigli ministeriali e poi Lucrezia Ercoli che ringrazio veramente di essere qua perché non solo è una mia cara amica non solo è una filosofa vedete che i filosofi servono i filosofi dovevano fare questo mediare i consigli dei ministri che non sono veri consigli ministri ma sono meglio dei consigli ministri allora Lucrezia ti direi di presentarti al pubblico visto che insomma non so in quanti ti conoscono quindi chi sei e cosa ci fai qua ma allora intanto grazie a tutti voi che ci state ascoltando a Rick Dufer dirò grazie eh solo se sopravviverò insomma fino a stasera alle dieci perché avermi coinvolto in questo progetto mi metterà a dura prova sono contenta però di di partecipare nel ruolo che spettano i filosofi cioè fare un po' di domande quando non siamo competenti in in materia eh io mi occupo insomma di di filosofia da da sempre per formazione ho eh messo in piedi un festival che si chiama Pop Sofia quindi sono anche curiosissima di parlare di prospettive legate anche al nostro mondo al mondo del turismo e degli eventi culturali e insegno l'Accademia di Belle Arti quindi ho consigliato a tanti artisti che non si occupano di economia di partecipare a questa eh live così magari espandiamo un po' gli orizzonti a cui siamo abituati di solito. Giustissimo giustissimo quindi insomma oggi abbiamo tanti tecnici in balia di due filosofi ci divertiremo un sacco in questo senso hai detto una cosa importantissima il lavoro dei filosofi sarebbe sarebbe fare domande quando non sappiamo quello di cui si sta parlando e questo è un punto importante che magari credo durante questa live riemergerà qua e là varie volte visto che spesso i nostri colleghi non si rendono conto di questa cosa ma non partiamo subito dalle polemiche che sennò veramente finiamo molto male e ovviamente l'altro che è qui con noi insomma lo conoscete anche perché stiamo trasmettendo anche sul suo canale Mike come stai Mike anzi Michele 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 come stai? Oh signor eh no sto bene sto bene benvenuti grazie eh mi fa molto piacere sì l'idea è adesso vabbè gli ministri ah ecco per due due tre cose così tecniche tanto ha giusto la la camera che vuole spostarsi eh abbiamo scelto un numero di esperti cercando anche di stare compatibili col tempo quindi mh già 40 minuti per due persone è abbastanza poco per parlare seriamente noi potremmo andare oltre quindi parleremo perché come alcuni mi hanno scritto ma non parlate dell'agricoltura non parlate dell'ambiente ma non c'è nulla su non mi ricordo più il commercio certo che c'è eh cercheremo di farlo star dentro chi ci ascolta sa come funzionano le regole YouTube siccome queste cose le facciamo su quattro canali e ringraziamo Alberto Forchielli e Fabio eh Scacciavillani che partecipano come esperti fra un poco spuntano e hanno messo anche a disposizione quindi il loro canale eh Inglorious Globusters esattamente qui pure stiamo trasmettendo è il quarto canale su cui si trasmette quindi quello di Rick quello di Liberi Oltre è quello mio a nome mio e quello di Alberto e Fabio Inglorious Globusters quindi siccome ricordate le regole mettete like mettete like mettete like lo ho imparato esattamente bravo bravo Michele bravo l'idea di fondo è che secondo noi questo paese ha proprio bisogno di ritornare a vivere e che dalla cosiddetta classe dirigente politica chiamatela come vuoi ma anche dal mondo dell'informazione ufficiale arriva meno di quello che dovrebbe arrivare in termini di informazioni di dibattito di proposta di cose che vanno fatte è un paese che ha un enorme bisogno di essere come dire eh informato no? Ha fatto sentire capace di fare le cose che mi sembra chiuso terrorizzato e quindi noi facciamo la nostra piccola parte con la collaborazione di 22 persone bravissime è assolutamente top nel loro campo se qualcuno può fare di meglio benvenga assolutamente peraltro io ho ricevuto un sacco di messaggi in questi giorni che ci dicono beh fate quello che non fa la televisione cioè un buon servizio di informazione ecco quello che cercheremo molte volte devo dire esatto quello che cercheremo di fare oggi è proprio portare delle analisi e sarà per chi ha già partecipato alla precedente maratona sarà una sorta di di approfondimento più tecnico su cose già emerse durante quella e comunque con un sacco di spunti anche alla luce di quello che è successo nelle ultime due settimane e sì ovviamente come l'altra volta io sono il dittatore dei messaggi da mettere in evidenza quindi questo questo non potete farci nulla ragazzi va così va così va così questo è il mio privilegio esatto esatto nel frattempo siamo già 1300 persone fra tutti i canali unificati quindi siamo abbiamo cominciato molto bene voi condividete la live mi raccomando e non so io michele tu hai già già lanciato il link ai primissimi ospiti ho lanciato il link ai nostri primimi due ospiti ho detto di arrivare sulle due dieci sono le due nove e adesso io sto anche cercando di andare sul mio canale per permettere perché per qualche ragione non vedo non vedo commenti e quindi siccome di solito le persone commentano magari ho sbagliato qualcosa nel setup guarda dovresti vederli qui di fianco nella finestra dove siamo noi tre dovresti vedere c'è proprio allora arrivare tutti è che lì arrivano tutti per cui arrivano anche quelli di mani liberi oltre arrivano tutti sì ma nessun problema non preoccupatevi dire posso dire una cosa cercheremo di chiedere io almeno vorrei chiedere dove è possibile come avete visto sono usciti due non so come chiamarli pseudo studi perché non sono una cosa seria a me hanno abbastanza da parte del governo quello con la stima no no stanno funzionando i commenti i commenti i commenti io che avevo aperto la pagina sbagliata e ecco quei due studi non so se voi lucrezia eric ne avete avuto copia se non ce l'avete ve lo passo sì credo che alcune cose che sono scritte libri era chiederle mano a mano che arriveranno colleghi più esperti perché rifanno un po spavento fanno un po spavento nel senso che prendere decisioni politiche di così tanta portata sulla base di analisi così semplicistiche direi degne di un term paper di un ragazzo bravetto per carità capace perché poi magari prende 110 e lode però insomma ecco una tesi di laurea ben fatta scusami allora non sei d'accordo scusa dico non sei d'accordo con conte che per la prima volta ha reso onore a noi che abbiamo fatto il classico no che nel mondo del lavoro siamo gli ultimi però almeno abbiamo capito doxa e episteme cittadino dal presidente del consiglio quindi tutta questa questa verità scientifica in realtà fondamenta abbastanza per fangose mi pare di capire ha scoperto la differenza fra doxa e episteme bravo bravo e la cosa ha detto che quello che in che contesto ha usato questa classica ha detto noi inutile inutile classica classificazione ma lui ha detto noi non usiamo le le opinioni così prese dalla strada ma tutte le nostre decisioni hanno a fondamento l'episteme quindi ah lui è l'episteme e immaginavo avrebbe già fatto fatto in realtà è la differenza fra doxa è impasteme perché tutto un impasto di cazzo scusatemi no divento già scurrile non è il caso diventare scurrile subito io farei entrare i primi due ospiti ci sta proprio è veramente impasteme no per la parola che dicevo dopo ma 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 diventeremo scurrile sicuramente dopo allora direi di fare entrare i primi due ospiti che ne dici che ci parleranno sì ce li ho qua ce li ho allora controlli tutto tutto sei controllo tutto io cioè non avete possibilità anzi io vi ricordo vi ricordo che nella live precedente io ho chiccato Elsa Fornero cioè nel senso letteralmente cacciato dalla live Elsa Fornero che non riusciva quindi nessuno ha più potere di me mi sento un po come Giuseppe non c'è un po perché aveva degli impegni un po perché cambiamo anche un po non c'è nessuna non c'è nessuna come dire isolarsi a sto punto questa della maratona magari non bisettimanale perché non ce la facciamo eh ragazzi bisogna anche respirare è brava però insomma visto che è gradita vai dai allora facciamo entrare i primi due ospiti che verranno coinvolti in una discussione sul problema finanziario italiano sulle finanze e quindi Dario Stevanato e Costantino De Blasi benvenuti ciao ragazzi buongiorno buongiorno è veramente un piacere è veramente un piacere avervi qui eh allora eh beh io mh veramente eh agli ospiti lascerei una presentazione in autonomia ovviamente conoscete entrambi se seguite bene o male i canali di Liberi Oltre Costantino è imprenditore eh Dario è eh lavora presso l'Università di Trieste e lascerei qualche secondo a voi per introdurvi nel caso qualcuno non vi conoscesse quindi Dario raccontaci brevemente di cosa ti occupi. Eh sì eh mi occupo di di fiscalità di diritto tributario a doppio titolo cioè come come studiose docente della materia e e anche facendo un po' di professione come avvocato tributarista. Questo proprio. Benissimo. Benissimo. Costa? Eh io mi occupo di consulenza aziendale poi da qualche annetto conosco quel signore che vedo lì sulla destra e con lui abbiamo fatto un pezzo di strada un pezzo di vita e e ci ritroviamo a fare quello che sai che è divulgazione. Io ho una maledetta insana passione e devo dire anche drammatica passione per eh la macroeconomia e i bilanci dello Stato per cui non so perché non so per come eh quando esce qualche documento pubblico di bilancio eh sono attirato da quello. Mi attirano poche cose o pochi vizi. Uno di questi è appunto. Ognuno ha le sue perversioni. Non siamo a capire per giudicare e lo accettiamo. Ti accettiamo così come sei. Ti accettiamo così come sei. Allora no grazie veramente per aver voluto partecipare a questa cosa anche perché il l'argomento che andiamo a toccare è delicatissimo. Anzi credo che sia uno dei più problematici anche perché è uno dei più tecnici che andremo ad affrontare. Ehm e allora io vorrei iniziare subito coinvolgendovi con una prima domanda riguardante proprio le finanze entrando nel nel discorso delle finanze dello Stato e chiedendovi qual è dal vostro punto di vista il dato più preoccupante oggi nella situazione che stiamo vivendo. Eh comunque io vado io vado io. Ok ok grazie Allora secondo me eh ce ne sono tanti i dati preoccupanti effettivamente tirarne fuori uno eh non è affatto semplice. Per quanto mi riguarda secondo me il dato più preoccupante in questo momento è il fatto che non si conosca la direzione. Cioè noi sappiamo che stiamo andando verso una contrazione del dei redditi eh violentissima ma non ne sappiamo alla profondità. Sono uscite le prime stime e mh tutte quante convergono su una sul fatto che sarà una una recessione molto pesante probabilmente come non l'abbiamo mai visto. Eh se non se non in tempi lontanissimi che sono quelli della seconda guerra mondiale però non conosciamo quanto sarà profonda la contrazione dell'economia. Eh le stime che sono uscite parto da quella del governo che secondo me è abbastanza ottimistica parla di un meno meno otto per cento eh poi via via si cresce a seconda della dell'istituto che ha fatto le stime si arriva fino a un tredici e mezzo mi pare di Goldman Sachs però poiché non conosciamo ancora quanto durerà ehm lo stop parziale totale minimo massimo della delle attività economiche e noi non sappiamo ancora quale problema e quanto grande da un punto di vista di dimensione proprio di profondità eh dobbiamo affrontare. Ci sono una serie di eh strumenti che sono in campo che sono stati messi in campo e altri ne arriveranno però non sappiamo quanta misura in quanta misura devono essere utilizzati per far fronte a una crisi che è una crisi di domanda di offerta è una crisi enorme e drammatica di liquidità eh non sappiamo quanta aziende resteranno in vita e questo per l'Italia ma non soltanto per l'Italia con un aggravante che essendo una crisi di carattere mondiale che colpisce ehm un po' più violentamente l'economia europea in generale e e soprattutto quella italiana quello che ci troveremo quando sarà passata la crisi del covid saranno le macerie le macerie economiche naturalmente non i palazzi crollati bombardati le macerie economiche perché qualunque sia la cifra che prenderemo a riferimento sarà una cifra ripeto compresa tra il meno otto il meno dieci il meno quindici forse anche di più con un effetto ehm che è domino eh che il fatto che ci troveremo tutti quanti Italia soprattutto per le note ragioni che conosciamo tutti ehm ci troveremo con dei fondamentali di economia che saranno che ci mh restituiranno un'economia che così com'è non è sostenibile secondo me il vero dramma non è tanto quello che stiamo vivendo adesso seppure sia drammatico ma quello che ci troveremo alla fine eh perché ci sarà da ristrutturare tanto e oltretutto come sai eh sai come la penso ehm eh le i segnali che arrivano da chi poi avrà la la l'onere di di prendere decisioni di politica economica secondo me non sono affatto positivi Dario tu cosa ne dici? Ma per non ripetere le stesse cose detto da Costantino che mi sembrano condivisibili eh diciamo più sul versante del bilancio pubblico eh credo che eh ci sarà sicuramente un'esplosione del rapporto debito PIL e eh una caduta delle entrate tributarie cioè il fatto che eh attività economiche non stanno lavorando quindi la caduta di redditi in generale e del valore aggiunto impatterà penso temo pesantemente sulle entrate pubbliche quindi ci troviamo in una sorta di di spirale eh viziosa per cui eh in una fase come questa dove forse si giustificherebbe eh credo in una visione comune la un intervento pubblico dal lato della spesa l'Italia si trova spiazzata perché ha già un debito molto alto quindi gli errori del passato eh oggi ce li troviamo pesantemente tutti quindi non avere spazi di bilancio lato lato eh indebitamento e quindi non poter fare grossi interventi sul lato della spesa se non eh facendo esplodere il rapporto e eh fronteggiare un calo delle entrate tributarie quindi il peggiore dei mondi possibili eh la la eh questo mi sembra la cosa più preoccupante Dario lascia che entri lì un po' a gamba tega e non è che mi aspetti che tu possa averlo abbiamo un brutto ritorno però da qualche parte c'è qualcuno che è il ritorno di audio forse è Costantino prova a disattivare il microfono ecco grazie Costa sì sì era di Costantino grazie Costa eh a naso riesci a fare una stima io ci ho provato e devo dire mi trovo un po' confuso ah al momento guardando dati eh mi piazzerei se continuano così a una calo del dodici tredici per cento di pilla su base anno tu riesci a fare una hai un'idea di quanto possa essere il crollo fiscale? Ah il crollo fiscale? Fiscale? Beh potrebbe essere dello stesso ordine perché il no siccome c'è progressività cioè quello che non riesco bene a sì però la progressività si incide non lo so quanto andrà a ecco questa è una bella domanda nel senso che dovrebbe chiedersi quanto i cali dei redditi andranno a colpire quel quella sparuta quei centomila soggetti adesso sono molto approssimativo ma sono sono più o meno quelli che che dichiarano redditi elevati che pagano aliquote progressive o quanto andrà invece di più a incidere sui redditi sui redditi bassi può darsi che vada anche molto a incidere sui redditi che già non non pagavano IRPEF o che erano sulla soglia di sussistenza temo che ci sia anche questo effetto quindi una ulteriore polarizzazione anche verosimilmente nei redditi cioè con con quindi un tema di disuguaglianza importante mi mi inserisco allora io per così tracciare un po di di futuro no adesso siamo nel nel mezzo della così della rilevazione del del dramma e della crisi e quello che vi chiediamo è così darci qualche apertura sulle misure da prendere insomma è stato evocato l'inevitabile innalzamento del debito pubblico cosa eh si può fare e eh aggiungerei anche se se potete eh un commento per comunicare questa cosa cioè al momento la comunicazione è polarizzata no salvare l'economia o salvare vite chi parla di economia eh eh ci vuole distrarre dai problemi più importanti cioè cosa possiamo fare noi insomma lo stiamo facendo il nostro piccolo però anche per eh così far comprendere che queste cose riguardano riguardano tutti no no non solo un gruppo riscretto di di tecnici ecco vi 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 lancio questa palla a partire da misure e e debito pubblico ecco eh vast programma ehm aggiungo una cosa a quello che diceva Dario sulla domanda di Michele allora il governo stima un calo di entrate fiscali dirette tributarie eh dirette indirette di circa cinquantacinque miliardi io che ho un modello che ho utilizzato per fare le mie stime oramai più di un mese fa mi veniva fuori una settantina di miliardi ma prendendo per buone le stime eh le stime del governo col DEF che tra l'altro sono parziali perché tengono conto soltanto della prima parte eh della della crisi ovvero quella che ci ha colpito nel mese di marzo eh viene fuori un indebitamento netto a fine anno di cento dici cento diciassette miliardi tenete conto che 2019 si era chiuso con ventinove miliardi quindi è un'esplosione di dimensioni veramente clamorose ripeto con stime che sono parziali e secondo me anche un pochino ottimistica quindi ci troviamo veramente di fronte all'armageddon sì eh fine anno abbiamo un debito sul PIL del cento cinquanta cento cinquantacinque per cento cento cinquantacinque secondo il governo secondo altri siamo cento sessantacinque cento settanta e poi vedremo che cosa succederà nei da qui a qualche settimana o mesi al massimo quando avremo sicuramente i dati un pochino più 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 attendibili però questo per dire le dimensioni sono sono della della crisi sono veramente enormi dicevo armageddon proprio allora che cosa fare ehm è complicato eh è complicato perché la crisi di liquidità su un sistema che come diceva Dario non ha spazio fiscale è un dramma cioè non è che abbiamo la situazione della Germania che può fare centoventi cento trenta miliardi di eh aiuti proprio diretti sussidi all'economia no quando parti con un piede zoppo anzi con una gamba sola eh beh poi la corsa è complicata c'è poco da fare se fossimo Germania o qualunque altro paese con un conto un pochino più a posto avremmo enormi spazi in aggiunta a quelli ci sono ci sarebbero ci sono sicuramente anche gli aiuti che arrivano dall'Europa i quei aiuti eh di di cui quelli secondo me più interessanti nel senso che hanno possono avere un impatto sul medio periodo più importanti sono sicuramente quelli che sono già in atto da parte della BCE che cosa farei io approfitterei di questo mh di questo Armageddon per fare quelle riforme eh profonde che si fanno e si riescono a fare soltanto quando c'è una situazione di crisi e purtroppo la pensa così anche una parte del governo come dicevo prima soltanto quelle riforme che sembra voler fare vanno nella direzione esattamente opposta cioè invece di liberare l'economia invece di rendere le procedure più semplici più facili invece di creare un ambiente più favorevole per lo sviluppo economico si mettono pali paletti corde e catene eh quindi io farei esattamente il contrario approfittando della situazione d'emergenza ripensare l'intero sistema e e qui poi lascio la parola a Dario ne approfitterei anche per eliminare delle strutture di carattere fiscale e tributario che sicuramente ci sono perché il nostro sistema fiscale e tributario ma Dario ne sa infinitamente più di me è un sistema che nella migliore delle ipotesi è cervellotico nella peggiore delle ipotesi è distorsivo e e e ottiene effetti veramente gravi sul sull'economia e su chi vuole fare impresa eh sì eh assolutamente vero io mi sono segnato tra quattro punti ma li sviluppo veramente in qualche minuto ehm analizzando un po' quelle che mi sembrano eh ad oggi le possiamo chiamarle idee veramente poche del governo sul 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 tema e di forse invece che cosa si potrebbe provare a immaginare mi sembra che non so se mi sbaglio ma che al momento eh le uniche eh risorse e le e l'unica attenzione che che c'è da parte governativa è legata alla tempistica di pagamenti cioè non ho visto circolare da parte diciamo del decisore politico alcunché eh di quanto eh correttamente indicato da Costantino quindi l'unica cosa di cui si stanno preoccupando è rinviare i pagamenti questa cosa è un'arma a doppio taglio perché perché l'intenzione ovviamente è lasciare liquidità nelle tasche di famiglie e imprese ma ci può essere un rovescio della medaglia cioè lasciando i soldi a disposizione delle persone e delle imprese eh queste anche del tutto in buona fede potrebbero poi non riuscire a a pagarle mai più quelle imposte quindi questo potrebbe addirittura aggravare il tema delle entrate anche in relazione a redditi progressi o a operazioni IVA già poste in essere quindi risorse che a rigore dovrebbero affluire alle casse erariali e rischiano di non arrivarci mai il secondo punto è una cosa che abbiamo già discusso con Michele l'altra volta ma è un vedo che è un'idea che c'è nel dibattito internazionale più più ampiamente è quella di concepire imposte solidaristiche a parità diciamo eh concepite in termini di neutralità finanziaria ovvero recuperare imposte da alcuni settori sociali per dirottarle a sussidiarne altri questa è un'idea buona in in astratto che incontra limiti progettuali su cui eh abbiamo parlato e scritto e qui sarebbe un po' lungo entrare in dettagli ma in estrema sintesi bisognerebbe reimmaginare l'imposta sul reddito l'imposta sul reddito è un'imposta che ha la caratteristica di essere calcolata e pagata annualmente e ogni anno è una storia a sé rispetto a quello che è successo gli anni precedenti invece qua bisognerebbe immaginare un meccanismo che collega eh l'imposizione fiscale di un determinato anno ad accadimenti progressi non so se Michele volevi forse intervenire ti ho visto alzare o finisco e poi ok un'altra ecco forse su questo punto potrebbe aver più senso e forse minori problemi progettuali immaginare un addizionale all'IRES cioè a carico di quei settori magari non sono tanti però alcuni ci sono ad esempio uno di questi è il settore alimentare della grande distribuzione che sta avendo incrementi a doppia cifra e anche superiore il 20% in alcuni casi rispetto agli andamenti pregressi e questo avviene certamente a scapito di altri settori non so i ristoranti sono chiusi le mense sono chiuse e tutti noi andiamo a fare molta più spesa nei supermercati lì forse eh un addizionale IRES su quei settori ci potrebbe stare non non che mi aspetti che si recuperino chissà quali cifre ma qualcosa si può fare e forse non è l'unico settore l'altra idea che circola in ambito internazionale è ma è sempre il refrain dell'imposta patrimoniale ma non mi pare il momento più adatto perché il settore immobiliare è in crisi o sta per entrarci ancora più pesantemente quello finanziario non ne parliamo con i crolli dei mercati so come si possa pensare oggi di progettare seriamente una patrimoniale se non secondo le solite logiche un po' un po' ideologiche che però non non portano grandi risultati il terzo punto e questo lo liquido in pochi secondi l'unica idea che vedo sui giornali è combattere l'evasione fiscale ma se non si dice come è tempo perso e inoltre l'evasione in italia è soprattutto diffusa tra micro imprese e lavoratori autonomi che guarda caso sono i settori più in difficoltà quindi anche questo è il momento più difficile più complicato per inasprire ancora di più invece il quarto punto che secondo me meriterebbe maggiore attenzione e penso che lì si dovrebbe andare a lavorare è fare interventi di tipo come dire per correggere quelle distorsioni di cui parlava anche costantino perso soprattutto al settore della determinazione dei redditi di impresa che contiene molte norme di tipo ciclico che in questo momento ci danneggiano cito alcuni esempi i limiti alla deducibilità degli interessi passivi collegati ad una redditività ordinaria che in questo momento sta accadendo quindi imprese che ci sono già indebitate o che si indebiteranno ancora di più rischiano di non poter dedurre interessi perché ci sarà un calo dei redditi caratteristici i limiti alla all'esercizio di attività di impresa legata a una normativa che in italia prende il nome di normativa sulle società di comodo e che rischia di colpire in modo indiscriminato società che invece sono svolgono realmente attività di impresa e semplicemente avranno una caduta nei loro redditi quindi il sistema fiscale in questo momento rischia di distruggere ancora di più capacità produttiva se non lo si mette a posto il terzo punto è quello di liberalizzare la compensazione tra crediti e debiti tributari ad esempio assurdo che lo stato ancora non paga o anche crediti e debiti di natura non tributaria penso ad esempio alle pubbliche amministrazioni che non pagano i fornitori ma dall'altra parte pretendo la riscossione delle imposte e poi l'ultimo punto che mi ero appunta che mi ero segnato era se si ritiene che questo sia un momento in cui occorre favorire l'investimento tecnologico e gli investimenti produttivi più in genere immaginare o misure di immediata deduzione dei cespiti strumentari secondo le logiche della cash flow income tax oppure introdurre altri meccanismi di detassazione di utili reinvestiti o di tassazione redditi imprese soltanto al momento della distribuzione in modo da incentivare il fatto che le persone e i soci utilizzino le loro risorse per l'attività produttiva anziché per altri per altri fine mi pare che tutte queste misure avrebbero sicuramente un impatto negativo sul gettito però a fine bene cioè almeno una roba sensata cioè rinuncio un po di gettito ma rimetto un po' in carreggiata il sistema produttivo e la domanda sì no io volevo intervenire aggiungere qualcosa forse più metodologico che altro a quello che ha detto Dario in particolare che mi ha molto condivido e nel frattempo approfitto siccome seguo anche le domande sui canali ragazzi e ragazze e lo so che l'abitudine la tradizione no delle live di youtube si domanda un po quello che ci passa per il cervello però visto che è lunga dura otto ore ed è divisa argomenti fate uno sforzino cioè voglio dire per me potete fare le domande rilevanti che volete ma un po frustrante continuare a fare una domanda che sai di sicuro che né ric né lucrezia né io ve la cagliamo perché in francese proprio però però scusa spezzo una lancia in favore sappiate che durante queste maratone eh una delle sfide che viene presentata agli ospiti è quello di mantenere ben lineare il discorso nonostante la distrazione dei commenti che seleziono io cioè nel senso è un allenamento mentale per gli ospiti siccome io cerco anche delle domande da fare agli ospiti a che vengano dalla chat se vuoi domande relative alla finanza eccetera io anche gliele pongo a Dario e Costantino però se mi chiedete cosa penso della sanitizzazione dei locali pubblici a sti due disgraziati non glielo posso chiedere lo chiederemo quando verranno quelli che si occupano di sanità ecco era un invito ma più che altro di generosità nel senso che poi essere ignorati non piacere a nessuno eh tornando invece a bomba qui c'è una questione di fondo eh io credo che mi piace mettere l'attenzione eh è vero che in situazioni di crisi non cambi il sistema quindi su questo Costantino forse ci ha fatto un po' prendere la mano no io ho molto anche perché queste tentazioni come vedete arrivano da parte governativa sono pericolose abbiamo ormai due o tre personaggi che fanno da consulenti al governo che che vorrebbero fare il socialismo del covid però è anche vero che una serie di eh cambi strutturali sono in corso e credo che Dario per la parte spettamente fiscale abbia osservato alcune cose cioè è vero che è inutile fare i finti ingenui i finti egalitari buona parte dell'evasione fiscale di massa con i grandi evasori super criminali che a volte spuntano ma certo sono grandi evasori sono da perseguire ma sono poi alla fine pochi la grande evasione di massa quella fatta da milioni di persone letteralmente milioni milioni non i cento cattivi è in questi settori piccolissimi di imprese microscopiche che sono forse fra le più colpite dalla dalla chiusura è vero e questo provoca una una è interessante una cosa su cui ricorre riflette l'interessante non è piacevole è un fatto che eh dovrebbe spingere a forse utilizzare questa occasione per ripensare il sistema dell'imposizione fiscale sul reddito a ecco a me sembrava che l'intervento di Dario su questo andasse a un livello che da nessuna parte governativa ho visto arrivare sembra che nessuno rifletta su alcuni temi di fondo che ci sono quando io ho fatto anche con l'aiuto di Dario in realtà la proposta poi scartata di redistribuzione a cui lei ha fatto effetto ho cercato proprio in riconsiderazione che in questi settori c'è una forte evasione fiscale quindi ho detto mandiamo un segnale nella struttura della proposta che chi ha pagato le imposte o almeno non ha evaso troppo negli anni precedenti ha un reward se hai fatto il furbo da sempre e poi perdi anche ecco questo è un livello di come dire utilizzo della crisi a cui io credo sarebbe necessario alzarsi sarebbe necessario che la discussione pubblica si alzasse e invece devo constatare tragicamente adesso non so se magari Costantino o Dario hanno altri fori dove si discuta di temi del genere ma io non li vedo nemmeno su sui giornali più 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 aggiungere una cosa Michele per ridare la parola Costantino e Dario no cioè uno mi pare che la questione evasori sia stata citata solo per populismo spinto cioè prendiamo i soldi da lì nemici nuovi nemici con cui confrontarsi due così rilanciavo il tema comunicazione con un titolo di oggi di fuoco amico no da dal foglio che di solito insomma molti degli ospiti di oggi ci scrivono che parla di economisti della gnagnera che ancora vogliono parlare di rapporto debito pil quindi l'aspetto diciamo comunicazione mainstream per gli economisti mi sembra il genio autore della gnagnera è il direttore direttore il foglio c'è rasa c'è rasa mi conferma che la scuola ferrara non si mentisce mai però è grave la cosa e il lancio la palla a Costantino che voleva anche replicare a Dario sì tra l'altro quello che voglio aggiungere a quanto diceva Dario si sposa benissimo quello che stavate dicendo voi in questo momento no c'è la comunicazione allora comunicazione a comunicazione su questo su questo tema segue molto le onde e segue molto le 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 ideologie purtroppo dicevate della patrimoniale dicevate della lotta agli evasori sentiamo tutti gli anni in tutti i mesi dell'anno parlare di lotta all'evasione di patrimoniale lotta all'evasione veramente sempre patrimoniale ogni tanto spunta però con una certa frequenza eccetera c'è una cosa però di cui si parlava tanto qualche tempo fa e adesso che servirebbero i soldi non ne parla più nessuno a me la cosa sconvolge abbastanza quantomeno mi sorprende perché anche i partiti che avevano fatto uno dei cavalli di battaglia non lo citano più che appunto eh il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione ma perché non se ne parla allora c'è uno studio di eh del centro studio di confidustria su dati eurosat che ci dice ci sono ancora cinquantasei miliardi da pagare da parte della pubblica amministrazione alle imprese e fornitori privati ma per quale motivo una parte di questo debito che comunque si sta facendo non viene utilizzato per saldare almeno quei debiti visto che le aziende hanno hanno fatto un lavoro e hanno bisogno di liquidità costa è semplice perché perché alcuni deve dare un miliardo e mezzo alle mascherine calmierate cioè è evidente è un miliardo e mezzo di qua ci sarebbe anche un'altra cosa c'è tutto il mondo degli appalti cioè chi ha fatto io l'avevo scritto in un articolo per per economia poi tempo dietro insieme al fatto delle della dei debiti della pubblica amministrazione da da saldare insieme alle compensazioni che andrebbero almeno facilitate eh c'è tutto il il sistema degli appalti che vive di stati di avanzamento per ottenere il pagamento dello stato di avanzamento lavori devi produrre una serie di documentazioni che sono oggi con gli uffici privati con gli uffici chiusi eh oppure anche con il 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 la l'assenza di liquidità delle aziende che magari ritardano il pagamento delle dei contributi tanto per dire no ritardano i 30 giorni non vanno vanno sì in in ehm ehm vanno a pagare l'addizionale però non sono non non è una cosa da reato insomma e rendere più facili queste queste procedure eh visto che si sospendono eh si sospende il codice degli appalti per fare la gara delle mascherine eh ok allora sospendiamo il codice degli appalti per pagare le aziende che hanno prodotto un un lavoro per la pubblica amministrazione cioè sono cose adesso non voglio dire che i soldi sono lì nel cassetto nessuno apre il cassetto perché abbiamo detto prima soldi ce ne sono pochi però in qualche modo bisogna trovarli ma se l'esigenza principale è quella della liquidità del sistema economico italiano in generale almeno si cominci a saldare quello che deve essere saldato non può deve essere saldato invece di rincorrere strane eh strane chimere come appunto la lotta all'evasione che poi si fa tutti gli anni ogni anno sappiamo che lo stato accerta 100 in cassa 10 o 12 o 14 quel che l'è eh però è comunque una cosa lunga si parte da quello che già c'è si parla tanto diritti acquisiti no? Hai il diritto acquisito alla pensione il diritto ma l'azienda che ha venduto eh un bene o un servizio alla pubblica amministrazione ha un diritto acquisito a vedersi saldata. Il problema è che l'opinione pubblica non ha la percezione di quel diritto acquisito è sempre il solito discorso cioè nel senso non fai tanta campagna elettorale dicendo forse è meglio pagare chi ha già lavorato non c'è nulla da fare non non crei consenso e purtroppo siamo io ho fatto l'esempio di Arcuri prima con le mascherine siamo di fronte a una politica che sta basando tutto quanto il discorso sulla percezione se l'opinione pubblica percepisce un problema allora noi diciamo di stare intervenendo lì perché in questo modo in qualche modo si convince la gente che il governo sta andando nella direzione giusta eh io sui discorsi che avete fatto per esempio eh dicendo sia Dario che Costantino hanno detto bisogna sfruttare questa congiuntura per fare delle riforme il problema è che purtroppo le riforme che eh stiamo cercando di proporre durante questa live sono riforme che non vengono percepite come priorità dell'opinione pubblica quindi si deve partire da una necessità di informare la gente informare la gente è difficilissimo per colpa dei cerasa della situazione che danno fiato alla percettività su cui gioca la politica e quindi si entra in circolo vizioso la gente non percepisce quei problemi quindi eh quindi insomma è una bella sfida quella che insomma sì è una bella sfida Dario se vuoi aggiungere qualcosa riguardo di quello che ha detto Costantino no più che altro ehm quello che ha detto Costantino è che l'aveva l'aveva detto anche all'inizio cioè la necessità di riformare è condivisibile e però anche io su questo sono pessimista come Michele cioè pensiamo all'IRPEF no tanto per tanto per citare il caso più eclatante eh l'IRPEF si è via via sempre di più incasinata se posso usare questa espressione un po' un po' banale ma eh con con regimi sostitutivi e quindi diciamo un'imposta sperequata che colpisce soprattutto il lavoro di cui è da anni e da anni che si parla di riformare l'IRPEF non è accaduto nulla e semmai i difetti dell'IRPEF tendono ad aumentare dall'attuale classe politica non so che cosa ci si possa aspettare francamente cioè proprio anche adesso idee non se ne vedono le idee l'uniche idee che si vedono qualche giornale solo 24 ore ha pubblicato alcuni articoli uno l'ho scritto anch'io sul tema di di qualcuno che sta cercando di di mandare qualche segnale qualche possibile idea di intervento ma mi sembra che ci sia l'encefalogramma a piatto dalle parti di di palazzo chigi insomma cioè è veramente drammatico dover vivere questa situazione con con un gruppo dirigente e quindi con dei partiti che non sembrano assolutamente all'altezza della situazione sì questa è la cosa lo sottolineo di che forse è la cosa che ha spinto me ma credo anche riche poi lucrezia ha pure se cortesemente messa a collaborare cioè esiste una tale pau povertà nel dibattito una tale estremizzazione ideologica cioè c'è questa mazzucrato che vorrei che avessi il coraggio ma venire a dibattere con noi continuo a predicare il socialismo verde insomma la conosco non è potrebbe anche degnarsi dibattere con con umili soggetti quali noi siamo c'è questa continua a rilanciare interviste a tutti i maggiori giornali del paese sul socialismo verde come se avesse alcuna rilevanza per risolvere il problema del turismo italiano che crolla o per risolvere il problema del del piccolo commercio italiano che per carità quando la gente come noi diceva che era inefficiente che occorreva cambiare la regolazione per favorire la competizione la concorrenza eccetera eccetera era era follia neoliberista però adesso è crollato a disgraziati e quindi perché tu gli proponga i mulini a vento letteralmente per fare la corrente elettrica non è che risolve il problema delle milioni di ristoratori e piccoli alberghi che hanno chiuso e dubito possono diventare produttori di pale eoliche no overnight cioè c'è un'itala discresia fra il livello del problema che il paese affronta e la capacità da tutti i lati è perché sia chiaro perché purtroppo sembra che se noi diciamo governo no è perché riteniamo che giorgetti o la meloni abbiano qualcosa a dire invece tragicamente quindi c'è una necessità enorme proprio di riflessione pubblica seria io non fa un po' avete letto voi due questi due studi che non sono girati non so di quale no di quale noi siamo il gruppo sant'anna è tremendo l'economico firma del gruppo sant'anna fa spavento è assolutamente spaventoso è una serie di banalità ridicole che descrivi con la mano sinistra con il teo ebriaco se la linea la linea di altri studi no di quel tipo michele niente di nuovo sotto il sole mi verrebbe da dire cioè qui in italia c'è una volontà nascosta che adesso sta emergendo di 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 controllo di 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 indirizzo alla produzione di indirizzo ai prezzi che fa veramente paura a questo a prescindere che si sia liberisti democristiani socialisti o di qualunque altro colore politico c'è la l'assenza di 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 conoscenza di basi poi di di come funziona un mercato efficiente c'è un ascoltatore che dice interessantissimo tira cinque persone sono d'accordo su tutto gran dibattito proponeteci qualcosa contro io non so cosa dire io ho anche cercato di dar torto a costa perché siamo amici quindi ma faccio fatica faccio fatica il problema è un po quello no cioè stare nella bolla noi oggi parleremo con tanta gente che che tutta d'accordo sostanzialmente anche chi ci segue problema incidere sull'immaginario secondo me oggi dovremmo porci io tento di farlo per mestiere per altri versi però l'immaginario eh extra economico importante vi faccio un esempio la la fiction che parla di finanza adesso più vista si intitola diavoli cioè eh il riferimento al no l'economia i i i liberisti da da divano che oggi purtroppo non sono su un divano e ci deludono a livello di immaginario eh stanno lì nel dell'inferno tra la tra le fiamme e quindi questo è e comunque vorrei aggiungere a questo che giustamente dice lucrezia ricordiamoci che la nostra bolla attualmente è circa 3.000 spettatori se invece fosse un video tipo ah il coronavirus il complotto socialistizziamo tutto quanto e facciamo debito eh saremo circa 750.000 spettatori quindi ma 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 de che ma de che de che cinque persone d'accordo stai stiamo parlando ma ma mia vabbè ma basta basta non scalgiandoci che vorrei anche sottolineare che hm io sto adesso leggendo rapidamente rapidamente il cocktail di Boldrin e qua era un caffè eh adesso non altro ecco il fondo della tazzina eh ringrazio ringrazio il dottore Arcuri ovviamente per la straordinaria pubblicità che ci ha fatto eh credo che forse di centinaia di ascoltatori in più lo dobbiamo a quello poi arriveranno anche i cocktail eh la cosa che è venuta fuori in realtà qualcuno diceva ma ehm non criticate fate le proposte a me sembra che ci sia state fatte proprio delle proposte no? Eh forse andrebbe riascoltato estraeremo eh le pillole dalla dalla parte in cui Costa e Dario parlavano ed è questa la la domanda che che va fatta pubblicamente costruire costruire dei forum dei luoghi dove persone come Dario come Costa e altri possono contribuire alla formulazione di riforme e e non invece queste scatole chiuse questi eh non lo so Dario tu se poi sei anche un grande tributarista esiste un dibattito di cui il Ministero delle Finanze tenga conto tra tributaristi e così chiudiamo? Ma tra i tributaristi anche loro insomma non è che se la passano tanto bene ma se posso una battuta su Arcuri cioè per cui è quello che ha fatto l'ordinanza sul prezzo imposto delle mascherine no? Non se non mi sbaglio ma noi siamo all'ABC del del diritto costituzionale c'è una misura del genere c'è l'articolo 23 la riserva di legge è un prezzo imposto devi farlo con una norma di legge cioè qui ormai dico una cosa che esula un po' dal panel che riguardava gli aspetti finanziari però non più di tanto però qui guardate che la cosa l'altra cosa preoccupante è che nel giro di due mesi sono stati smantellati tutti i diritti fondamentali individuali costituzionali senza colpo ferire con atti amministrativi cioè è una cosa drammatica ma è drammatica anche di come il paese non abbia reagito e non stia reagendo sottoscrivo l'abbiamo detto proprio di nuovo in questa bolla decine di volte la povera vitalba prima di tutte ma anche serena e anche altri e Dario lo sottolinea è vero e la cosa straordinaria cassese se ne è uscito qualche qualche giurista che un altro non mi ricordo il nome un altro articolo hanno detto guardate che state stravolgendo la costituzione ma a livelli da ridere e nessuno dice niente siete insorti per cose infinitamente più deboli e qui abbiamo di fatto la trasformazione del paese in un paese amministrato per via amministrativa da funzionari dello Stato che vi erano principi costituzionali e nessuno credo che l'unico commento sia l'effetto della paura per cui io credo che possiamo ringraziare sì direi di non anticipare troppo troppo i temi che comunque dopo verranno trattati quindi grazie mille a Dario e Costantino per aver aperto questa questa follia che ci accompagnerà per altre sette ore signori sì è appena passata la prima ora ma è volata è volata è volata non ho ancora detto a Michele che è spinoziano Michele Bodrin sappi che sei spinoziano quindi insomma io sono fiero te l'ho detto tutta la vita ed è una sai vabbè lasciare perché dopo dopo tanto tra l'altro sette maestre è una delle poche cose che ho imparato da Tony Negri ecco perfetto a sedicenne la prima volta capendoci poco poi ci ho ritornato perché Negri ne faceva grande iniziamo con i cattivi maestri finiremo malissimo malissimo se citiamo Tony Negri alle 14 e 50 di queste otto ore di live io non so cosa citeremo poi arriviamo alle 22 che citiamo chi citano non voglio neanche pensarci è vola è vola la 22 grazie ciao Dario ciao Costa grazie mille grazie mille beh insomma siamo intanto siamo giunti ai 3000 spettatori 3000 spettatori complessivi quindi quindi grazie a tutti quelli che stanno condividendo ma non è finita non è finita la bolla si espande dai che per ora delle 22 arriviamo i 750 mila diventiamo che ci attengono io su questo cercherò di stare zitto perché altrimenti mi metto in mezzo anzi approfitto dopo averli introdotti lascio mi alzo vado a farmi anche un micro un microfono un caffè ulteriore un cocktail un cocktail ah peraltro anch'io i caffè rigorosamente americano che noi in veneto nella bocca mettiamo qualcuno ha menzionato la china l'apero no mettiamo l'acqua devo andare a controllare ecco lo chiedo in apertura tutti conoscono filippo tra detto basso sono due economisti filippo è professore alla johns hopkins ha avuto anche una breve parentesi politica da cui si è poi emendato emendato come ha fatto anche io non è emendato riconosco limiti e risultati stai un po un effetto un po un effetto salone si stai un po più vicino al microfono filippo perché altrimenti ti viene ti viene un po in bomba e tommaso invece un economista puro non ha mai peccato come filippo e me e quindi lui fa bene allora abbiamo chiesto insomma dopo aver considerato l'aspetto fiscale quindi finanze nel senso l'antico senso amministrare finanze no quello che gestisce il fisco italiano a filippo e tommaso beh parliamo di mistero economia no tesoro banche debito quel lato lì e e io appunto adesso mi astengo e vado a farmi il caffè lascio 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 a dopo maica dopo dopo va bene quindi benvenuti benvenuti grazie per essere qua io chiederei a filippo filippo per caso tu hai delle cuffie con un microfono perché si sente molto rimbombo con il tuo microfono e si sente molto basso l'audio quindi vedi se hai vedi se hai delle cuffie con un adesso come va è sempre è molto basso è molto basso l'audio quindi se riesci a recuperare delle cuffie con microfono sarebbe perfetto ok benissimo il grande vantaggio è che cose interessanti da dire ce l'ha ci l'ha tomato quindi tranquillamente cominciare a vedere ok allora cogliamo l'opportunità vai lucrezia allora intanto partiamo grazie di essere con noi ormai il tono è colloquiale vi do del tu anche se non mi è stato già dato il permesso quindi procedo ti do il permesso perfetto e niente volevo partire per lanciare la palla da una citazione eh che ha eh sembra più filosofica che economica eh riguarda l'atto d'amore no l'atto d'amore eh delle banche eh insomma per 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 lanciare la palla su qual è eh il il futuro del rapporto del rapporto eh con le banche in Italia e magari guardando eh anche oltre i confini nazionali e qui si parla di eh più che altro qualcuno che regalerà soldi a qualcun altro per appunto problema di di affetti stabili ma eh non so se se forse si è andati un po' troppo oltre le banche come nuovi congiunti le banche come nuovi congiunti questo è quello che accadrà ci sarà quest'atto d'amore eh delle banche o siamo nell'iperulaneo delle delle idee no nella concretezza eh dell'economia no non ci sarà l'atto d'amore delle banche ve lo ve lo garantisco e sentir parlare di atto d'amore è deprimente cioè è retorico è sconfortante perché sembra che vada eh come indirizzo diciamo eh da parte delle nostre classi dirigente sembra che vada a colmare un vuoto no? C'è un vuoto sui meccanismi sulla trasparenza sulla sulla capacità di 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 prendere decisioni che funzionano di di trasmettere queste decisioni a a tutti le a tutti i segmenti eh diciamo delle delle del sistema economico che dovrebbero funzionare quindi non credo che sia un caso ora può darsi ehm che 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 Conte si sia espresso così perché ci tiene a questa sua eh a questa sua aurea da da classicista da un po' retorico eh ma in realtà credo che dietro ci sia il il un po' il vuoto ecco è la sensazione che ehm fondamentalmente c'è qualcosa che non funziona e purtroppo eh il il la situazione molto grave quello che vorrei cercare di 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 dirvi non non tanto a voi eh ovviamente oltre a voi ma a chi ci ascolta cercare inizialmente di spiegare perché la situazione molto grave cioè perché questa recessione questa crisi è diversa dalle altre e quindi questo perché eh 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 porti a dover eh immaginare interventi che siano grandi eh magari in un in un ambito eh nel quale si possa essere anche molto creativi e cogliere delle occasioni allora questa crisi è diversa dalle altre perché ehm è come un terremoto cioè eh diversamente da qualsiasi altra crisi arriva tutta subito no cioè eh non dispiega gli effetti in modo magari iniziale per poi aumentare e e vedere e vedere le le conseguenze negative magari nel medio periodo i propri effetti più grandi subito e allora ehm se dispiega gli effetti più grandi subito eh la necessità di intervenire con strumenti assicurativi proprio di di liquidità di assistenza per garantire che il il flusso di di reddito per imprese famiglie continui è estremo eh e questo fa sentire fortemente eh sulla eh sulla 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 carne la proprio delle delle economie delle persone eh l'effetto della crisi quindi primo elemento arriva tutta subito o il l'effetto grosso arriva subito il secondo elemento è che si autoamplifica i garantiti non so i professori universitari i i quelli che lavorano nel pubblico impiego e che quindi non vedono il loro reddito in questo momento azzerato e le altre persone invece eh quelle non garantite non so i portieri d'albergo ok il turismo è fermo non possono lavorare e poi immaginate che ci siano eh due tipi di aree di settori eh eh nell'economia eh i settori non essenziali le palestre ok e invece i settori essenziali non so l'alimentare il cibo la sanità lo shock iniziale che arriva è nel ehm chiudere i settori non essenziali cioè si chiude una parte dell'economia proprio si ferma le palestre si fermano i ristoranti i bar eccetera questa cosa qui chiude fermo nessuno guadagna più niente nessuno lavora questo è quello che si chiama uno shock di offerta soltanto che il se una parte dell'economia si eh si ferma cioè la parte delle palestre si ferma eh questo meccanismo tende ad amplificarsi ehm e a diventare poi anche come si si dice un uno shock quindi ad aggravarsi uno shock di domanda perché allora le persone garantite eh i professori universitari i lavoratori del pubblico impiego chiaramente se le palestre non funzionano eh non spenderanno più soldi in palestre la chiave di tutto è quanta parte di questi risparmi che i professori universitari eh li allocherà in spesa in consumi invece nei servizi alimentari la sanità necessariamente a rimanere aperti eh comprime completamente il settore eh non essenziale porti una parte della popolazione forzatamente a risparmiare a spendere di meno cioè i professori universitari i lavoratori del pubblico impiego forzatamente eh eh risparmieranno di più e quindi questo porta anche a una contrazione quindi questo essenzialmente è una forzata contrazione mente uno shock uno shock di contrazione dalla domanda e quindi si amplifica. Scusa Tommaso un secondo allora dalla chat mi segnalano tanti problemi di lag però sappiate non dipende da noi probabilmente dipende da YouTube sappiate che in questi giorni ovviamente le bande sono molto molto eh ci siano dei eh dei rallentamenti voi segnalatele in chat però sappiate che dipende da YouTube non da noi purtroppo. È grande con un meccanismo autonomo proprio di amplificazione è una recessione che richiede una crisi che richiede un massiccio intervento di assicurazione non è un massiccio intervento di eh stimolo della domanda lavori pubblici spesa pubblica eccetera richiede un massiccio intervento di assicurazione che permetta a eh ai lavoratori dei settori che eh sono sono eh completamente eh eh chiusi eh forzatamente chiusi di eh mantenere il loro flusso di reddito e alle imprese di continuare a poter sostenere i loro costi fissi a pagare gli stipendi eccetera ma è un un intervento grande da fare subito e quindi come tale è difficile no in questo eh vediamo eh la difficoltà che ha il nostro Stato proprio come sua architettura eh di fondo la difficoltà che ha difficoltà che ha nell'intervenire io credo che la la sfida che che noi eh avremo davanti non sarà tanto quella di reperire risorse perché non dimentichiamo che insomma il patto di stabilità e crescita è stato sospeso e chissà se tornerà per esempio avrà non non tantissimo ma insomma ce l'avrà non sarà tanto questo il il problema secondo me diversamente da cosa non eh eh non 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 avevamo spazio di incremento eh di collocamento di debito sul mercato e allora io credo che non ci saranno più tanti alibi per questo paese qua cioè eh facciamo vedere se siamo in grado queste risorse però lasciate fermi un attimo lasciate fermi un attimo Tommaso per due ragioni una di per permettere le persone di insieme non esserci effettivamente eh problemi con i canali YouTube eh io ho controllato due dei canali che controllo e vedo non mi è neanche chiaro che giri eh non so cosa vedi vedete voi sugli altri no no ho controllato grossi problemi di connessione con YouTube abbiamo perso mille spettatori praticamente nell'ultima nell'ultimi cinque minuti non è il mio audio non è il mio no 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 non dipende da non dipende dalla nostra trasmissione va benissimo però stavo guardando e vedo che i canali girano a vuoto sì infatti eh sono calati gli spettatori perché sì eh tutti dicono eh passare a Twitch è impossibile cioè poi non riusciamo andare su canali Twitch eh ma oddio eventualmente potrei ma bisogna buttare giù quelle di YouTube cioè bisogna smettere quelle di YouTube e farlo solo su Twitch è un casino è un casino eh oddio si registra comunque quello che noi stiamo facendo quindi siccome svariate migliaia anzi l'altra volta poi 120.000 persone sono venute dopo la live eh ma i problemi di connessione rimangono anche in trasmissione eh cioè anche nella registrazione temo dipende se bufferà eh adesso madonna sto parlando italiano comunque era solo per vabbè eh vediamo vediamo speriamo migliori in questo momento esatto c'è c'è un c'è un suggerimento provate spettatori a usare la rotellina delle impostazioni abbassare la live eh della definizione della live quindi potete abbassarla fino a centoquarantaquattro p lo so sembreremo dei pixel in movimento però almeno l'audio si sentirà bene senza blocchi purtroppo YouTube delude durante queste questi momenti di quarantena enormemente ho detto anche ripreso per quello delle volte aspettare può darsi che sia anche problemi di rete eh di sovraccarico di rete non è anche perché vedo reazioni differenziate cioè Lucrezia arriva bene Tommaso è quello che arriva peggio ah io arrivo a salti cioè sì insomma non è non è omogeneo ecco mi piace mi piace scusatemi gli analfabete che stanno dicendo in live che è colpa di chi trasmette no siete analfabeti no non è colpa di chi trasmette no è colpa di YouTube e da due settimane no non lo fa quindi smettetela di dire cazzate prego scusatemi l'intervista mai colpa di chi trasmette per definizione perché chi trasmette non ha alcun controllo sulla rete eh volevo approfittare dell'interruzione un po' per interrompere eh Tommaso e fare un po' un ragionamento ehm a pezzi anche perché la parte che aveva detto lui io sono d'accordo l'ho anche scritto che la lo shock di offerta diventa una shock di domanda vorrei però farti osservare Tommaso che lo shock di domanda principale viene dalla questo forse qua andiamo un po' nel tecnico ma forse a chi ci ascolta può interessare viene dal fatto che una la la fetta di persone che non può offrire non ha neanche reddito quindi tutta la loro domanda salta la domanda di chi invece rimane a reddito pieno eh dipende magari si riorienta su ben investimento e quindi al più c'è un problema di se vuoi eh cambiamento settoriale a al primo ordine infatti è già spuntato qui in Veneto ho visto dappertutto per carità è del tutto simbolico eh qui c'è un intervento assicurativo pubblico ma ho visto spuntare nelle varie catene di supermercati varie iniziative di aiuto a fare la spesa a chi non ha reddito perché effettivamente c'è una fetta grande di popolazione che da due mesi ha reddito zero e sono quelli a cui è stato vietato a fare offerta e mi sembra che al momento siano quelli su cui c'è una debolezza grandissima di intervento cioè dove il sistema eh del welfare state italiano mostra tutta la sua debolezza questo lo dico anche a Filippo lo butto lì come domanda visto che ci aveva lavorato in passato no cioè noi non abbiamo alcuno al di là di questi 600 euro che sono stati inviati non mi pare ci sia alcun altro sistema di sostegno del reddito dei milioni di persone a cui è stato detto non lavorate cioè quelli occupati di lavoro dipendente la cassa integrazione ma gli altri certo no e non solo io non conosco il governo italiano quindi e non solo però quello di cui ci sarebbe bisogno è convincere chi ha l'intervento di assicurazione sociale che 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 servirebbe in assenza del quale l'economia il punto di base è semplicemente questo l'economia sprofonda di più di quello che è diciamo l'impatto iniziale del terremoto è come se non solo essenzialmente il terremoto distruggesse gli edifici ma facesse sprofondare ancora ancora di più il terreno Lasciamo spazio un po' a Filippo? Sì sentiamo anche Filippo Per costruire su quanto in realtà di cui discutevate sperando che adesso vi sentiate bene Sentiamo sempre basso quindi magari alza un po' la voce e ci siamo Prova ad alzare un po' la voce e ci siamo senza urlare mi raccomando Sperando di non essere stati noi con i nostri problemi a farvi crollare i mille utenti, le mille visualizzazioni Quello che dobbiamo... Esatto Mi sa che sono stato io No, 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 secondo me ho contribuito Tranquilli va tutto benissimo, va tutto benissimo Diciamo che questa sessione funziona bene come il pacchetto di risposta fiscale Dei governi italiani, cioè insufficiente e in generale anche fuori bersaglio Ma perché? Perché lì risentiamo un problema Innanzitutto bisogna capire che tipo di intervento è Ed è un intervento che si focalizza su quello che Tommaso ha definito L'amplificatore dello shock Cioè non è lo shock, cioè non è la riduzione improvvisa O più o meno improvvisa della nostra capacità di produrre E in conseguenza di questo noi siamo più pessimisti sul futuro O magari non abbiamo reddito Abbiamo proprio alcuni senza reddito E allora c'è un problema di domanda Come risponde il governo italiano? Risponde con il primo decreto di marzo e questo di adesso Sono circa 70 miliardi La cui composizione è varia Ma qui l'obiettivo è unico Che è aumentare i trasferimenti E se voi ci pensate D'altra parte non c'è altra soluzione a questo tipo Perché? Perché parte da uno stato sociale Che è altamente settoriale Cioè che concentra moltissimo La sua sostegno Su alcune persone Che hanno Possono contare su una ragione valore e certezza Cioè per quanto sia drammatica questa situazione Se tu sei un lavoratore Della grande industria Di nostro paese Sei garantito Perché hai la tua cassa integrazione Protetta, estesa, derogata E andare avanti No Ovviamente il problema è che Quando tu cominciai lo stesso lavoratore Ma magari sei occupato Da un'impresa più piccola E che magari lavora nel settore dei servizi Sei di colpo fuori Questa discontinuità È esattamente quella discontinuità Che osservava Michele prima Per cui improvvisamente Ci sono persone Che avevano un lavoro ieri E oggi non ce l'hanno più E allora come fa Infatti se non ci pensate In intervento del governo Quale è stato Cassa integrazione interna Cioè strumenti che già esistono Ma non per tutti Per pochi ma non per tutti In questo caso per molti ma non per tutti Estesi a tutti È una reazione di emergenza E dobbiamo essere consapevoli Per quanto sia un numero Diciamo Insufficiente Nel confronto con gli altri paesi È comunque un modo di rispondere All'imperfezione preesistente Cioè precedente allo shock Del nostro Stato sociale Gente che aveva un lavoro Lavoratori autonomi senza nulla A questo gli dai 600 euro E lo dai con questo colpevole ritardo Ma non potrebbe essere altrimenti Perché immaginate Che tu hai un'infrastruttura Che è tarata Sulla grande impresa E improvvisamente Vuoi utilizzare quella stessa struttura Dell'Inps Per fare che cosa? Distribuire a Le singole partite IVA Che vanno Che vivono parcellizzate È ovvio che quella roba non funziona Ed è assolutamente clamoroso La differenza Se noi confrontiamo questo Con l'intervento americano Dove Il veramente Il check in the mail Che non è più check in the mail Perché la signora non arriva più per posta Ma arriva direttamente sul conto corrente Ha avuto una capacità di reazione Di 14 giorni Perché con tutto il suo sostegno Imperfetto È un sistema molto più universalista Le nostre Quindi la selettività Noi la paghiamo di più Ma vi do un attimo il carico Il carico da 90 Su questo Che è Oltre a Le imperfezioni che ci sono Ci sono le imperfezioni Che ti vai ad aggiungere Come voi sapete Perché Lo diceva Tommaso prima Lo spiegate greggiamente Tommaso prima C'è gente che Semplicemente non può lavorare Imprese che non possono lavorare Che si trovano Ad avere le cavi azzerati E costi che Ok Saranno ancora ben ridotti Ma non vanno a zero Sono più alti E quindi è questo bisogno di inquietà Da colmare nel breve E come lo colmi? A noi Come in tutto il mondo Lo colmi Facendo degli schemi Di fondamentalmente Credito agevolato Con garanzia Parziale Totale dello Stato Soldi nostri Soldi dei contribuenti E per inciso È Data la natura Dello shock De offerta È L'intervento Che devi fare Quindi non siamo in discussione Ma com'è che lo facciamo noi? Noi lo facciamo in una maniera Un po' stramba Che è Se tu vai a vedere Noi abbiamo messo giù Un sacco di garanzie Queste garanzie Non risultano nel deficit Sono Uno sbilanciamento finanziario Cioè sono soldi Che lo Stato garantisce In questo momento Per fare Credito Alla piccola e miglia impresa Ma che non stanno nel deficit Io vi chiedo Se domani Le cose vanno Un po' come diceva Tommaso C'è una ripresa Che dura poco Perché questa amplificazione Rende la crisi Molto persistente Quindi la ripresa Ci mette un sacco E queste garanzie Che lo Stato ha messo Per fare in modo Che le imprese Spessero la galla E non crollassero Vengono Richieste Dalle banche Che succede A quella spesa lì? Che oggi Non è contenciata nel deficit Ma che noi abbiamo messo Quando è che riappare? Guardate che lì Abbiamo una grande Un grande esempio Cioè Ricco Zanetti Scriveva qualche giorno fa Una cosa molto interessante È esattamente quello che è successo Lo dico per Michele Che il Veneto così È contento È quello che è esattamente È successo con le banche e vende Cioè Eurostat Nel contabilizzare Quando tu sei lo Stato Metti giù delle garanzie Per l'offerta di credito E la fai per Pensate il fondo di garanzia Per le piccole e medie imprese Lo facciamo continuamente Ordinariamente In questo momento Tutto questo è potenziato Bene Quando tu fai tutto questo Se le garanzie sono standardizzate Ti entrano direttamente nel deficit Nel caso in cui tu fai operazioni un po' strane Tipo Garanzia delle banche venete Che non hanno proprio operato No? A bolla Come Non succede Che quando ovviamente le banche collassero Le garanzie vengono richieste A quel punto Chiedono nel deficit Al momento A quel momento lì Vorrei Vi faccio costato un altro Nel momento in cui l'Italia Oggi Quest'anno Nel 2020 Dirà Metterebbe un deficit Da 10% del PI Ragionevolmente È Secondo me Difficilmente notato La tua cifra Ha senso per noi Nascondere Questo Queste garanzie E poi magari Mettere il deficit Nel 2021 Con il fatto che Averemo un effetto Un po' tipo No? È già successa questa cosa All'Unione Europea A un paese Che non è finito bellissimo Esattamente Un po' di questo È successo esattamente Alla Grecia Dove I professionali Sono comparse Boom Posto di finanza Grandi spese Il deficit Venuto fuori Non era quello che era Ma quello che non era Quindi Se vogliamo anche un po' Pensare Alla ripresa Oltre a capire Che Tutti i soldi Che stiamo spendendo Stiamo spendendo Sullo shock Accessorio Cioè quello della domanda E molto poco Sull'offerta Che però è centrale Dobbiamo anche capire L'importanza della trasparenza Perché dopo 2020 C'è il 21 E nel 21 Non vogliamo trovarci In una situazione In cui improvvisamente Diventiamo un caso Perché Puff Ci sono 100 miliardi Di questo stiamo parlando 100 miliardi di garanzie Che sono state Utilizzate Per lo scopo Per cui le garanzie Sono state messe giù Questo rischio È un rischio nascosto Però è un rischio Importante Perché E determina la nostra credibilità In futuro Che quando abbiamo più bisogno Perché adesso Vale tutto Lo capiamo perfettamente Può spender Spandere Ma poi c'è sempre La fine della crisi Il verso la fine della crisi Dobbiamo un po' pensarci Un po' affrezzarci Peraltro Prima di lasciare Alla prossima considerazione Volevo dire Alla chat Che Filippo Taddei Non è che sia incazzato È che doveva tenere La voce alta Però è molto bello Perché lui è una persona Molto pacata Molto tranquilla Invece qua Sembrava incazzatissimo Ma è soltanto Con il microfono Con il ragione Incazzarsi Ce n'è soltanto Le ragioni per incazzarsi Sarebbero Se volete Cambiamo Però Ammaso di io Più di ammaso di te Siamo persone Ma suena Se non sembra Il che è quello Che si dice Si Appena detto Una bugia Ma sono giovani E li perdono Vai vai Aggiungo una cosa Prima di lanciare la palla Perché tocca a Rick Secondo il nostro ping pong In realtà Il mio ruolo è quello Di fare esempi molto bassi Mi pare di capire Quindi continuo su questa scia Esempi molto pop Mentre voi parlate In tecnichese Cioè Mi ha colpito l'idea Di evocare Il nascondere Cioè Sono nascoste Alcune cose Per forza Diciamo Di cose E poi ricompariranno Ricompariranno dopo Quando meno ce lo aspettiamo Questa cosa Come va fatta a percepire Guardate Credo che sia un problema cruciale Mi faccio un esempio banalissimo E molto pop La cosa che più si vede Che più ha successo In questi mesi È la casa di carta Non so se qualcuno di voi L'ha vista Dove i soldi Stanno lì E io Li vado a prendere Con il sostegno Di tutti Compreso Dei telespettatori Li levo Ai ricchi Cioè alle banche Allo Stato Che se li tiene Nella sua cassaforte E li do A tutti Li creano Li stampano Li stampano Vanno lì E li creano Cioè Creo più soldi Così li do A tutti Questa è La percezione Primaria Bisogna secondo me dare Strumenti cognitivi Molto basic Per far sì che Questa percezione Se mi cominciate a far parlare Della casa di carta Dello stampare monete Eccetera Come Michele Filippo sanno Non finiamo più Ma È tanto che ne scriviamo Proprio sulla casa di carta C'è un lunghissimo articolo Che ho scritto L'anno scorso Proprio In cui ci No quando c'era ancora Il governo Salvini e Di Maio Sul foglio E L'immagine Scelta dal giornale Era di Salvini e Di Maio Con le tute rosse Dei Dei terroristi Della casa di carta In quarantena Sta tirando tantissimo Cioè Tornata a Robbenauge Sì Il punto E lì c'è un passaggio Per chi conosce Quella serie tv C'è un professore Che architetta Un piano perfetto Per In ogni dettaglio Per poter assaltare La zecca di stato E lì c'è proprio Una sequenza Nella prima stagione O nella seconda In cui Il professore parla proprio Della BCE Parla proprio del fatto Che Col Col QE Col Quantitative easing La BCE Nel 2011 Ha stampato Una quantità enorme Di soldi Stampato Già si usa un termine Errato E le ha date Alle banche E quindi L'idea L'idea Che Con cui si Solletica Sempre L'opinione pubblica È che ci sia Un possibile Rubinetto Lì Di risorse Illimitate Che 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 Noi Non andiamo Ad aprire Per cui ci sono Delle forze Occulte Che di volta in volta Hanno La Diciamo La denominazione Di Europa Di austerity Di poteri forti Eccetera Che Che impediscono Finalmente Di Aprire Il Rubinetto Di Far accedere Tutti Al paese Di Bengodi In modo Da risolvere Tutti i problemi Ecco Questa narrazione È pericolosissima E secondo me È in Italia Evidente Da anni Ed è Uno dei Diciamo Dei Pilastri Culturali Del sovranismo Economico Cioè L'idea Che Si potrebbe Se solo Volessimo Cancellare Il debito Pubblico Si potrebbe Se solo Volessimo Stampare Una quantità Enorme Di Moneta E Risolvere Tutti i problemi E Questa è una Delle narrazioni Che Che mi ha più Tenuto Contro la quale Cercare di argomentare Contro la quale Mi ha tenuto più In pista Sui Social Network Negli ultimi anni Guarda Posso dirti Perché adesso Lucrezia Pensa di essere Pop Con la casa di carta Ma adesso Butto io Butto io Il vero Azzo Pop Se vuoi una Narrazione Su cui scrivere Per i prossimi Anni Ti consiglio Un videogioco Che è Animal Crossing Che è il videogioco Della quarantena In cui tu Sei su un'isola Deserta E facendo cose Tipo vendendo Erbacce Vendendo fiori Strappati Vendendo Qualsiasi cosa Tu fai sempre I soliti soldi Non solo Non solo Hai anche dei personaggi Che ogni giorno Ti dicono Il prodotto del giorno È questo Tipo il prodotto del giorno È una lampada Se tu costruisci Anche diecimila Lampade Loro te le pagaranno Sempre la stessa cifra È il videogioco Del sovranismo Vero Perché c'è Leggermente Produzione di soldi Dal nulla Quindi Ed è un gioco Che mi diverte molto Però se vuoi Avere altro materiale Per un sacco di Un sacco di prossimi articoli Animal Crossing Che sta rendendo Un cattivo servizio All'informazione economica Certo Se hai pazienza Se hai pazienza Una settimana Te ne offrirò una Io Perché nella mia follia A provarvi Che io non ho Non ho limiti Ho accettato Un dibattito Con niente Un po' di meno Che uno dei loro auguri Dal avvocato Mori Che non sapevo esistesse Ma ho scoperto Esistere Da avere un seguito Fra i sovranisti Sembra sia uno Hai uno stomaco pazzesco Michele Cioè Uno si mette lì Ascolta l'altro E siccome se l'altro Dice stronzate Poi glielo spiega No Non ho nessun problema Non vedo l'ora Quando è che sarà Quando è che sarà il dibattito La settimana prossima Mi hanno cancellato il volo Perché la prossima Fatemi dire una cosa Io credo che Il punto qui È molto importante Ed è molto serio Cioè Alimentare l'idea Che non c'è limite Alla capacità di intervento Dello Stato E all'indebitamento Perché semplicemente Noi potremmo sempre Stampare moneta Per alimentare Questo Questo flusso Di risorse Ecco Questo Questo è un'illusione ottica Tremenda Perché si fonda Sulla Confusione Tra ciò che è nominale E ciò che è reale Cioè si fonda Sull'incomprensione Del fatto Che uno Stato Nel momento in cui Si indebita In realtà È vero che chiede In prestito Dei soldi Qualcosa di nominale Cento euro Ma in realtà Non chiede In prestito Dei soldi Chiede in prestito Delle mele Questo lo dico sempre Vale a dire Se io presto Cento euro Allo Stato Quando lo Stato Si indebita E mette BOT O BTP In realtà E gli presto Cento euro Io sto rinunciando Io cittadino Io famiglia Del signor Rossi Io sto rinunciando A comprare Dei beni reali Con quei cento euro Per esempio Delle mele O delle scarpe Da ginnastica Perciò Di fatto Quello che io mi aspetto Che lo Stato Mi restituisca Quanto meno Se gli ho prestato Di soldi Non sono cento euro Ma sono l'equivalente Di quella montare Reale Di risorse A cui io ho rinunciato Prestando cento euro Cento euro Allo Stato Cosa vuol dire Che se io Questo vuol dire Che le passività Dello Stato Sono sempre In termini Di beni reali Ok Quindi Se la moneta Si può effettivamente Stampare Adesso non entriamo Nei tecnicismi Sul fatto che In realtà Le banche centrali Non stampino moneta Ma stampino base monetaria Creino base monetaria Eccetera Che vuol dire Moneta delle banche centrali Non la moneta Che poi va Sui conti correnti E viene utilizzata Nei negozi Per fare acquisti Eccetera Ma il punto di fondo Fondamentale è questo Cioè Le passività Che uno Stato Cioè Quanto uno Stato È obbligato Poi a ripagare Col proprio debito pubblico Sono mele E se la moneta La possiamo effettivamente Stampare Tra virgolette Le mele no Le mele richiedono irrigazione Richiedono lavoro Richiedono Cioè Risorse reali Ok Ecco perché Non è possibile pensare Che uno Stato Se la cavi sempre Comunque Se solo noi ci mettessimo A stampare moneta Perché le banche centrali Stampano moneta Non stampano mele Ok Mentre lo Stato Deve restituire mele C'è un'ignoranza C'è un'ignoranza diffusa Su quella che è la natura Del denaro Io con Michele Ne ho già parlato Varie volte Cioè nel senso Non si capisce Che il denaro In realtà È rappresentativo Alla fine Dell'esistenza E rappresenta La quantità di scambi Che esistono Al mondo Quindi Però questa cosa Viene totalmente Sbagliata Perché si pensa Che il denaro Sia un bene in sé Per sé E questo Mi aprirebbe una riflessione Enorme sul fatto Che chi demonizza Il denaro Chi dice che il denaro È il frutto del diavolo Di solito è proprio Chi ha il denaro Dà un ruolo È gigantesco Cioè Chi dice che il denaro È frutto del demonio È chi pensa Che il denaro Sia un bene in sé Per sé C'è questa crasi mentale Che forse bisognerebbe Curare con Con cose che non hanno A che fare con l'economia Con altri Campi del sapere umano Ma che su cui Non possiamo dire nulla Perché non c'è Non c'è Gennaro Romagnoli Fammi dire un attimo Ma è appena arrivato Un ascoltatore A dire la solita Scusami Desso l'ho perso il nome Quindi non ti offendo neanche Perché voi La descrizione Le chiamate offese Quindi asino Chiunque tu sia Non mi ricordo il nome Ma sei un asinello Capisci Perché Perché Ripeti Come un pappagallo Le frasi che hai sentito dire Da qualcuno Che parlava Probabilmente anche lui Come un pappagallo È una serie di pappagalli E continuate a ripetere Questa cosa Che c'è la crisi di liquidità Perché hai appena scritto Hai ragione Diretto a Tommaso Il problema sono le mele Perché sono le mele Che mangiamo Quindi bisogna produrre le mele Il denaro serve semplicemente Per passarsi Però c'è una crisi di liquidità No Non c'è nessuna crisi di liquidità Trovato Liquidità nel senso di Denaro vuoto Potere d'acquisto Ce n'è Per fantastiliardi Letteralmente Per trilioni Capite Le banche Il mondo È pieno di liquidità Solo che Non ci sono oggetti prodotti Non c'è la gente che lavora Alcune persone che lavorano Non hanno Altri Che gli diano delle cose in cambio Perché se io non lavoro Non ho nulla a dare a Filippo In cambio del suo lavoro Qui non c'è nessuna crisi di liquidità C'è una crisi di Reddito Investimenti Rendimenti Chiamatelo come volete Produttività Questo ripetere Che c'è la crisi di liquidità E la confusione Appunto ottica Che Filippo e Tommaso Hanno cercato di spiegare E la ripetevano anche Fra chi Ovviamente Percepisce La produzione degli altri Sotto forma di denaro No O la propria E quindi Pensa che siccome Non ha reddito Perché manca la liquidità No Non hai reddito Perché non hai lavorato Esatto 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 Anche i meno sospetti Gli insospettabili Esempio che facevamo prima Che facevo prima Delle garanzie Che metti Ma nascondi Sono esattamente Un Sottoprodotto culturale Di questa Di questa illusione Perché Alla fine E cosa sono questi soldi Ci sono dei beni No ma È carta Sono garanzie Abbiamo messa lì A perdere i soldi Che arrivavano da qui a lì Non c'è bisogno Di pubblicizzarlo E il problema è che Lo Stato si sta impegnando Sta impegnando Per il denaro Dei contribuenti Tasse future Dei contribuenti Stiamo facendo Ma quanta Stiamo impegnando E ne stiamo impegnando E questo E questo è Abbastanza Abbastanza sorprendente Ma Tutto sommato Neanche tanto Ma rendiamoci Comunque conto Del problema centrale Stia anche ammettendo Che il problema centrale Sia tutta liquidità Se anche questo Tutta questa discussione Parla sempre Dell'amplificazione Dello shock No Teniamo la metafora Di Tommaso Che se non è modificato C'è un'iniezione Dello shock Poi c'è un'amplificazione Siamo tutti sull'amplificazione Amplificazione Amplificazione Ma il problema È L'iniezione Cioè Com'è che ripristini Le condizioni Di produzione Precedenti Com'è che torniamo a lavorare Perché io lavoro Come prima o più di prima Ma io sono Tommaso Stessa cosa Ma noi siamo assolutamente Marginali In un'economia E totalmente Eccezionali Nel senso di eccezione Se non siamo Nessuno standard Quindi la riflessione Dovrebbe essere su questo Quante delle risorse Delle mere future Che stiamo impegnando Che stiamo impegnando Per ripristinare La capacità di produrre Mere nel presente Quindi anche Nel futuro A questa domanda La risposta è Ahimè Vabbè Verrà dopo Ma non sarà Particuramente Avorevole No Sarà sicuramente Sarà sicuramente Problematica Io Credo che siamo arrivati Ho riso molto Per la chat Che continuava a dire Filippo Ma possiamo almeno Parlarne Non arrabbiarti Bellissimo Devo dire Filippo Che ci hai regalato Un momento meraviglioso Grazie Grazie Vorrei che mi fosse attribuito Qualunque incremento Del numero di visitatori Il calo iniziale è tutto mio Filippo Il calo iniziale Comunque siamo a 3.000 complessivi 2.000 e 2 su 2 canali Quindi secondo me Siamo di più Perché ho 712 su 1 1.560 su un altro Quindi Bene Bene Sì Attenzione Per poi ne parleremo Un'altra volta Ma Pensate A A quanto Nella percezione Dell'opinione pubblica Stiano diventando Importanti Le banche centrali Le aspettative Su ciò che le banche centrali Possono fare Ok Quasi un'istituzione Che fino a 10-15 anni fa Era una sorta di Convittato di pietra Sconosciuta Un'istituzione tecnica Ok Ed è paradossale Che nell'era del populismo No Si crei Questa Questa aspettativa Sull'onnipotenza Economica Di un'istituzione Tecnocratica No Da parte anche Del proprio Del pubblico Più comune No Ecco C'è veramente Una schizofrenina Da questo punto di vista Che dice molto Della crisi Delle altre istituzioni Politiche Economiche Eccetera Di politica fiscale Che dovrebbero essere Quelle più Connesse Con Con il Non so Con le decisioni Il sentire delle persone Sono così in crisi No Il sentimento Di 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 paura E così grande Di smarrimento Delle persone Che Che siamo In tanti Non noi Ma Il pubblico comune Quasi in ginocchio Di fronte a queste istituzioni Considerate Le banche centrali Considerate Percepite Come Onnipotenti E alimentare Questa logica E questa idea Che ci sia Un'istituzione Che potrebbe essere Onnipotente Ma In fondo Ancora C'è Qualche manetta Che viene Messa Da Qualche Potere forte È Tragico Io non riesco A evitarmi La polemica Interna Agli economisti Hai perfettamente ragione Tommaso E credo Che lo vado dicendo Della politica monetaria Delle banche centrali Possiamo ringraziare Noi stessi E il nostro silenzio Proprio come A macroeconomisti A fine anni 90 Durante i 2000 Alla creazione Del mito di Greenspan E della Onnipresente Negli anni buoni Noi Molti colleghi Più di Dei tre qua presenti Tre qua presenti Che non si siano O astenuti O abbiano timidamente Però va detto Va detto Va detto Che a livello mondiale C'è stata una forma Di ubriacamento No Specialmente negli anni 90 E il mito di Greenspan Ha Credo che abbiamo L'abbiamo costruito E abbiamo sbagliato Cioè avremmo dovuto Sgonfiarlo Era un buffone In realtà Devo dire Se questo Privatamente Da consulente Della federazione Di Mineapoli L'abbiamo sempre detto Anche al signor Greenspan in persona Ma l'abbiamo chiamato Buffone Ma gli abbiamo detto You're bullshitting More than once Posso Ho svariati testimoni Che gli è stato detto Comunque questa visione Mitica delle banche centrali È stata costruita Negli ultimi 30 anni Da noi Meglio che facciamo Autocritica Un po' di autocritica Forse Un po' di autocritica Attenzione Attenzione Perché Questo cosa vuol dire Soprattutto in Europa Crea una situazione Per cui Le aspettative Dei mercati Delle imprese Degli operatori Economici Rispetto a quello Che farà la banca centrale Vengono sistematicamente Deluse Perché si ha ormai Dell'idea Che c'è sempre Un bazooka più grande Sempre un Un intervento più grande Che potrebbe E non è vero Non è vero Non è vero I banchieri centrali Devo dire Non si tirano mai indietro A far finta Che sia vero Colmano un voto Colmano un voto In Europa Colmano un voto In Europa Secondo me Quando gli economisti Partono a parlare Di polemiche Non li fermi più Ma io devo Entrare a gamba tesa E fermarvi Fermarvi Perché dobbiamo rispettare La scaletta Non è polemica È una triste considerazione Vero Michele Tommaso Filippo Scienziati Fino a quando fa como Sto scherzando Ovviamente Stiamo criticando Noi stessi Cioè Sì E questo è un pregiudizio Di scienziati La scelta Avanta per dissenso Cioè Nessuno È più polemico Di scienziati Ma perché dobbiamo esserlo Per costruzione No Bella scusa Bella scusa È la grande Cosa che mi tiene Uno dei miei Padre Il padre Del mio Del mio Advice Perché è così Delicace Mi disse Tu non hai capito Qui non facciamo politica Non cerchiamo il compromesso Noi cerchiamo il dissenso Perché attraverso il dissenso Emerge Dove Veramente Dove sono le differenze Cosa stiamo dicendo La precisione Bene Allora Adesso Era un grande uomo Oltre a un grande amico Andiamo avanti Adesso Adesso Se non volete Che il dissenso Si trasformi nel Bung Di Tommaso Filippo Taddei Vi ringrazio Grazie 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 E buona continuazione Filippo Non arrabbiarti troppo Mi raccomando E ciao Ciao Tommaso Ciao 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 Bene ci siamo Allora Rapida presentazione Ad Alberto Oltre che un vecchio amico È professore di diritto Del lavoro E tante altre cose In quel di Venezia Dove dirige anche un master D'economia del lavoro Mi credo più il nome esatto È il master Ad Alberto Scusami Lo direi tu Esam Esam E niente Gli lascio L'autopresentazione Sì Mi hai mandato una mail Michele In cui c'erano alcune domande Che potrebbero essere Una specie di scaletta Su cui organizzare Qualche Qualche Riflessione No Sì ma queste le lasciamo A Rick e Lucrezia Che ci gestiscono Ah ok Diventiamo Diventiamo Dispondenti Siamo Eh Io volevo solo presentarti Allora Tanto per Tanto per Per il pubblico Ti hai presentato tu Esatto La presentazione è già Più o meno stata Stata fatta Siamo entrati Nella sezione Dedicata al lavoro Quindi siamo In quello che Fantasiosamente Ma non troppo Consideriamo In questa sorta Di consiglio dei ministri Il ministero Del lavoro Ok E quindi abbiamo Ad Alberto Perulli E Michele Boldrin Che si è tramutato Da moderatore Ad ospite Incredibile Questa Questo camaleontismo Di Michele Ehm Allora Io rido tantissimo Leggendo la chat Scusatemi Guarda Ric Che Michele Io lo invito Sempre alle cose Che facciamo noi Giuristi del lavoro Ah ah Ed è Viene Dice delle cose Pazzesche Ed è Apprezzatissimo Da tutti i colleghi Che Che dicono Che Deve venire Sempre lui Se no Non facciamo Più iniziative Giusto Giusto Sono 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 d'accordo Michele sta lavorando Tanto Indubbiamente Anche Rispondendo a chi in chat Dice che noi siamo Improduttivi In questo momento Ma in realtà Stiamo facendo le cose No Non è vero Non è vero Stiamo producendo 3000 spettatori Allora direi di Non perdere il tuo nome tempo E io Porrei la prima domanda Ai nostri due All'ospite e mezzo Perché ripeto Michele in questo momento È mezzo ospite Mezzo moderatore Ed è la seguente Quali misure Bisogna adottare Per evitare La disoccupazione Di massa Che tutti quanti temono Come conseguenza Più devastante Di questo periodo Ma allora Io adesso parlo Ovviamente Da giurista Non da economista La disoccupazione Di massa La evitiamo Se riusciamo A riprendere Evidentemente Perché se riprende In qualche modo L'economia La produzione Sostanzialmente L'occupazione In qualche misura Reggerà Poi dipende Dai settori E dipende Ovviamente Da come andrà Questa ripresa Stiamo Un po' Navigando al buio Insomma Non è che abbiamo Nessuna certezza E Diciamo Dal punto di vista Degli strumenti Che Che lo Stato Ha messo Che lo Stato E la società Diciamo Nel suo insieme Le parti sociali Insomma Tutto l'insieme Delle istituzioni Diciamo Del mercato Del lavoro Abbiamo Sostanzialmente Due Barra Tre Strumenti Il primo Sono gli ammortizzatori Sociali Tra l'altro Io ho mandato A Michele Delle slide Che Se Michele Poi Vuole diffondere In qualche modo Insomma Sono dati Molto recenti Che ci ha fornito Il presidente Dell'Inps Due giorni fa A un webinar Che abbiamo fatto A Ca' Foscari E Diciamo Ovviamente Il tema Gli ammortizzatori Sociali È cruciale Io credo Che al di là Di tante polemiche Che sono state fatte Anche in modo Un po' strumentale Il sistema Abbiaretto È un sistema Che evidentemente Ha subito Uno shock Pazzesco Perché ha dovuto Gestire Una quantità Enorme Milioni Undici Miliardi Eh Di Eh Di risorse Che sono in gioco Eh Per la prima volta Eh Non solo I lavoratori subordinati Ma anche Gli autonomi Abbiamo Eh Più di Quattro milioni Di lavoratori autonomi Eh Partite IVA Collaborazioni coordinate Continuative E poi Soprattutto I lavoratori autonomi Tradizionali Quindi Eh Piccoli artigiani Commercianti Eccetera Eh Che hanno Eh Diciamo Potuto Usufruire Di questo Bonus Eh Piccolo Bonus Di 600 euro Che poi forse Diventeranno Sette Ottocento Insomma Quindi C'è stata Un Una Forte Mobilitazione Di questi Istituti Di ammortizzatori Sociali È stata creata Una nuova Cassa Integrazione Ordinaria Specifica Per il Covid Che non Sostituisce Le casse Ordinarie Precedenti Quindi Se un'azienda Era già Per esempio In cassa Integrazione Straordinaria Sospendeva La cassa La cassa Straordinaria E attivava Questa nuova Cassa Covid Che ha una durata Massima Di nove Settimane Verrà Sicuramente Prorogata E Quindi Questo è Il primo Grande Pilastro Del Nostro Stato Sociale Cioè Diciamo Di ammortizzatori Sociali Poi Invece Il governo È intervenuto Con una norma Che ha fatto Molto Discutere Che riguarda Il divieto Di licenziamenti Economici Cioè Fino Al 16 Maggio E quindi Per il periodo Dall'entrata in vigore Del decreto Cura Italia Sino al 16 Maggio Sono sospesi I licenziamenti Per motivo Economico Sia quelli Collettivi Sia quelli Individuali Per giustificato Motivo Oggettivo Molto Probabilmente Anche Questa Diciamo Questo Blocco Dei licenziamenti Per motivo Economico Verrà Molto Probabilmente Prorogato Parlo Di licenziamenti Per motivo Economico Dopodiché Se uno Deve essere Licenziato Per altri Motivi Per giustificato Motivo Soggettivo Giusta Causa E quant'altro Può Può Essere Licenziato Parlo Solamente Dei licenziamenti Che hanno Un motivo Aziendale O Economico Terzo Terzo Diciamo Terza norma Anche questa Molto Discussa E E La norma Contenuta Nel decreto Quello Sulle Garanzie Che Condiziona La Garanzia Dello Stato Sui Crediti Bancari Alla gestione Dice la norma È una norma Un po' Fumosa Però Parla di una Gestione Dei livelli Occupazionali Attraverso Accordo Sindacale E qui Ovviamente Diciamo Una parte Degli osservatori Ha gridato Allo scandalo Dicendo Che Questa norma Viola L'articolo 41 E la costituzione Viola Il principio Di libertà Di iniziativa Economica E E Altri Che invece In qualche modo Difendono Questa norma Dicendo Che tutto sommato Gestire I livelli Occupazionali In modo Concordato In una fase Come questa È più Che opportuno Faccio presente Che norme Di questo genere Cioè Tutte Le Tre aree Che ho Che ho Detto Cioè Gli ammortizzatori Il divieto Dei licenziamenti E la gestione Dei livelli Occupazionali Attraverso Accordi Sindacali Per le aziende Che vogliono Beneficiare Dei Delle Garanzie O Dei Contributi Se ci sono E se ci saranno Contributi A fondo Perduto Sono norme Diciamo Di matrice Europea Nel senso Che Spagna Polonia Germania Andare avanti All'infinito Mi Inserisco Per dare La parola A Michele Che su questo Avrà molto Da dire Riprendendo E chiedendo Un commento Sulla questione Ammortizzatori Che sono Stati Diciamo Il governo Si è mosso Bene o male Cioè Questa frammentazione Che mi sembra Di percepire Nelle misure Crea Un caos Ulteriore Oppure È Gestibile E sulla Seconda Questione Che era emersa Anche prima Legata A Due nuove Categorie Cioè Non più I ricchi E i poveri E i poveri Che fanno L'assalto Ai forni Stile Promessi Sposi Ma Diciamo Garantiti E non garantiti Cioè Chi ha Ancora Lo stipendio Durante La quarantena E chi invece Ha Necessità Di Misure Ulteriori E oggi Leggevo Conte Non so se L'avete letto Per il primo Maggio Che cita Le lettere Che gli sono Arrivate Dall'estetista Di Pomezia Dal barbiere Di Potenza Diciamo Buttando Un po' La cosa A carte 48 Però Insomma La questione Del Della Doppia via Di cui Michele Mi sembra Abbia Parlato Tanto Anche Per Un Nuovo Equilibrio In questa Fase Con Una Ridistribuzione In qualche Modo Possibile Al Microfono Spento Però Credo Michele Ha il microfono Spento Lo so Il microfono Spento Stavo Guardando due Dati Quindi ero Su un'altra Pagina Sapevo Non ho detto Nulla Essenziale Ho detto Semplicemente Molte carne Al fuoco Allora Io Discuto Sulle cose Che ha detto Ad Alberto In parte Sono d'accordo In parte No Cos'è che Non sono Fondamentalmente D'accordo Perché Come Frequentemente Accade In Europa Ma soprattutto In Italia Si inventano Norme Eccezionali Per condizioni Eccezionali E poi Diventano Normali Anche perché Sono state fatte Vengono fatte In un contesto Con dichiarazioni Chiarissime Di parte Governativa Sia di ministri Che di Superconsulenti Superpagati Che Tutto questo L'occasione Utile per Introdurre Una forma Di programmazione Economica Di stampo Socialista Che evidentemente Il paese Manca Io su questo Vamo parlare Molto chiaro L'intenzione È chiarissima È chiarissima C'è una fetta Di mondo Che ha deciso Di utilizzare Anzi Di amplificare Di esagerare La gravità Dell'epidemia Per potersi Come dire Assoggettare Il sistema economico Quindi Quella parte Lì Io la trovo Francamente Poco condivisibile La discutiamo dopo Sugli ammortizzatori Sociali Non si può dare Tutta la colpa A questo governo Di per sé Adesso che In Italia Notoriamente Il problema Di ammortizzatori Sociali Non è mai stato risolto L'Italia Ha sempre Per scelte Sindacali Evitato Di avere Una Sussidio Di disoccupazione Comune Ha mantenuto Le casse integrazioni Eccetera Eccetera E quindi Di fronte a un sistema Che non è in grado Di assorbire Uno shock Complessivo Trattando In modo Uniforme Tutti Ma dovendo fare Continuamente Interventi ad hoc Se ne sono fatti Alcuni anche ragionevoli L'estensione La cassa integrazione In questo Caso Visto che lo strumento Che si usa in Italia È quello della cassa integrazione È stata una Scelta buona Il problema Drammatico È quello che pone Lucrezia Da un lato Nel breve E nel lungo Invece E un altro Ci vengo dopo Il problema Nel breve È che ci sono Gli have And gli have not C'è una Sette Otto Nove milioni Di italiani A cui è stato ordinato Di non lavorare E Ai quali Non si capisce bene Come si intende Provedere Perché I trasferimenti Avvenuti Sino ad ora Sono risibili Cioè Chiunque Non so cosa Vi ha scritto La parrucchiera Di Pomezia Al piccolo padre Di tutte le patrie Però Mi sembra Abbastanza ovvio Che Se è una Tipica Artigiana Eccetera Ha ricevuto Ben che le vada 600 euro E Probabilmente In cambio Di un negozio Che chiuderà Perché il problema Non è solo La chiusura Di tre mesi Che è tantissimo Ovviamente La vita di un artigiano Ma è il fatto Che con altissima probabilità Date le spese Eccetera Molti di questi Chiuderanno Questo tra l'altro Vale anche per questa idea Che sarà anche temporanea Di non licenziare Per motivo economico Io non voglio mettere So benissimo cosa la pensa Ad Alberto A questo punto di vista Ma La storia insegna Lo insegnerà anche questa volta Per l'ennesima volta In questo secolo Che i terribili Stati Uniti Dove ci sono stati 30 milioni di disoccupati Nel giro di un mese Ripartiranno E riassorbiranno Quei disoccupati Molto meglio Molto più rapidamente Dei paesi europei Che invece hanno imposto Le aziende Di tenerseli E quindi Di trovare come unico sistema Per uscire Dall'impossibilità Di pagarli Quello che avverrà E cioè il fallimento Qui c'è una mancanza Di comprensione Politica Generalizzata Del fatto che Quando un'impresa Si dissolve Si dissolve E c'è un valore Di questo match Che viene dissolto Cioè questo incontro Questa combinazione Di fattori di produzione Anche una piccola C'è anche una propria L'imbianchino Che ha tre dipendenti Lui e suo fratello E poi tre amici Quattro dipendenti Anche quella Nel momento in cui Dichiera fallimento Vende O cerca Di buttare via Le cose Poi ricostruirla Non è Non è facile E quindi Che il problema Del forzare L'impresa Al fallimento È un problema Che poi te lo ritrovi Nel lungo periodo Nel senso che È il fattore Che maggiormente Rallenta Rallenta Le riprese Quindi Questa Tragedia Che si sta Scaricando Sulla parte Più inefficiente Dell'economia Lo ripeto Lo ripeto oggi Già per la seconda volta A me fa ridere Non riesco a fare a meno Di ripetere Che sono Credo l'economista Che ha Da più tempo Da almeno 30 anni Messo in evidenza Che uno dei problemi Dell'economia italiana È che il combinato Disposto Di Legislazione Fiscale Legislazione Regolamentaria Atteggiamento Sindacale Eccetera Favorisce enormemente La microimpresa Inefficiente Però siccome c'è Noi la stiamo distruggendo Nella maniera Più sbagliata possibile L'Italia aveva bisogno Di andare oltre Alla microimpresa Ovviamente Nel turismo Nella distribuzione In molta parte Di servizio Ne ha disperato bisogno E condizione Essenziale Della sua crescita Ma farlo Col bombardamento A tappeto Perché questo è L'analogo Di un bombardamento A tappeto Per decreto presidenziale È la maniera Più erronea Io A questo Non so rispondere Mi rendo conto Che c'è Totale disattenzione Altra dal paternalismo Dal populismo A questo problema Negli ambienti Politici sindacali La pagheremo Io credo Tragicamente Con una stagnazione Del reddito Con incapacità Il settore di servizi Riprendersi E con tensioni sociali Che molto probabilmente Come al solito Avranno L'unico Via di sbocco In richieste Di ulteriori sussidi Di ulteriore Reddito di cittadinanza Eccetera Perché 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 La relativa povertà O la scarsa produttità italiana È concentrata In una decina Di milioni Di lavoratori Che sono Non solo a reddito Medio basso Sono a bassissima produttività E quindi A bassissima Scarsissima Flessibilità Cioè Quella roba Sanno fare Al più Una vicina Ad essa Ma non è che Il giorno Che riapriamo Facevo la battuta Prima la ripeto Li ritroveremo Tecnici In azienda A produrre Ma non lo so Come si chiama Pannelli solari Perché non ne hanno La capacità Perché dovrebbero Spostarsi Dovrebbero imparare E quindi Il problema Da un lato Della preservazione Dall'altro Della trasformazione Lenta Di quel settore Economico Così vasto In Italia È un problema Drammatico Da vent'anni Questo Botta Come l'ha chiamata Prima Tommaso Come terremoto Un terremoto Un bombardamento Giudiziario È improvviso Mentre quelle trasformazioni Devi farle lentamente Progressivamente E non vedo Consapevolezza Di questo Non lo so Questi non si possono Riassumere in fabbrica Capitemi Da un lato Perché le fabbriche Non ci sono Ne verranno Ma anche perché Gli manca Proprio Sono persone Che sanno fare Certe cose Sanno fare Il venditore ambulante Il piccolo artigiano Il barbiere Il fruttivendolo L'imbianchino A buon mercato L'idraulico E hanno 45 anni Sì Sì Aggiungo A quello che hai detto Aggiungo Non mi possono rioccupare Aggiungo A quello che diceva Michele Perché c'è una considerazione Di Daniele Del Monte Che dice Dai magari la volta buona Che ci liberiamo Delle micro e piccole imprese Così magari iniziamo A fare un po' di ricerca Seria Ma in realtà il problema È che Se ci liberiamo Di imprese Con questa crisi È il motivo Sbagliato Cioè non vengono Eliminate dal piatto Della bilancia economica Perché c'è Una spinta concorrenziale Perché qualcuno fa meglio Il lavoro di un altro No Qui c'è Le micro imprese Vengono eliminate Per una cosa Che in realtà Deve essere arginata C'è una crisi Che esula Da fattori economici Quindi questo Credo sia molto importante Però al netto di questo Io vorrei Aggiungere Nel dibattito Visto che si parla di lavoro Anche il discorso Dei sindacati Perché in questi giorni Mi è capitato Di leggere alcune cose Veramente assurde Per esempio Landini Voglio citarvi Landini Perché è uscito Una sua Veramente qualcosa Di assurdo Nella proposta Landini Quando gli chiedono Qual è il ruolo Del sindacato Gli dice che deve nascere Un sindacato di strada Non si capisce Cosa si intenda Con questo Ma dice Dobbiamo oggi Batterci Per un nuovo Statuto del lavoro Che ponga i diritti In capo Alla persona Che lavora E non ha il tipo Di rapporto Di lavoro 50 anni fa Il Parlamento Votando lo statuto Fu capace Di far entrare La Costituzione In tutti i luoghi Di lavoro Oggi vogliamo Di nuovo Far vivere la Costituzione In un mondo Del lavoro così diverso Che sembra Una roba scritta Da Gilles Deleuze Perché non si capisce Veramente nulla Di quello che c'è scritto E allora Il punto è il seguente I sindacati Allora Vedete che Deleuze Scrive delle cose Che non si capiscono Ma sì Ma te l'ho già detto Michele Te l'ho già detto Che io sono affezionato A Deleuze Perché sembra più L'autore di romanzi Che non di Di libri filosofici Non cominciamo A prendere Come capi espiatori I filosofi E dato che non abbiamo Nessun altro Spariamo Hai ragione Hai ragione Un po' di difesa Della categoria Hai ragione Hai ragione No però Qui io ho letto dichiarazioni Di sindacati Che intanto Dicono Bisogna aumentare Le tutele Quindi aumentare La regolamentazione Aumentare I filtri In entrata Nel mondo del lavoro Quando in realtà Quello che sta accadendo È esattamente il contrario Certo Non mi stupisco Visto che in Italia Abbiamo dei sindacati Molto conservatori Che rappresentano Soprattutto I già garantiti E ovviamente Non quelli Che in questo momento Ci hanno veramente Difficoltà Nel mondo del lavoro E allora La domanda che vi pongo È la seguente Quale dovrebbe essere Il ruolo del sindacato In questo momento In questa congiuntura storica Secondo voi Posso parlare io? Certo Anzi ti aggiungo Anche un'altra domanda Nel cerchierati So che Podemos Spinge molto Per drastiche misure Di socializzazione Dell'economia In Spagna C'è scontro Pesante anche Infatti sta massacrando La Spagna Non a caso Ma ecco Se hai degli esempi Io così apprendo Grazie Sì Abbiamo pubblicato Ricordato Sono misure Sono misure Che sono state Prese In questi paesi In questi paesi A cui facevo riferimento Poi Ovviamente Hanno nomi diversi Cioè La Francia O la Germania Non hanno La cassa integrazione Guadagni Hanno Che cosa Sta facendo La Germania Cosa sta facendo La Francia O la Spagna Stanno Dando Le indennità Di disoccupazione In pendenza Di rapporto Di lavoro Cioè Hanno creato La cassa integrazione Guadagni Sostanzialmente Cioè Che è una cosa Tipicamente italiana Come dicevi tu Nel tuo intervento Ma In questa fase Qui La cassa integrazione In realtà Michele Sta svolgendo Una funzione Completamente Diversa Da quella Che è la funzione Ordinaria Della cassa integrazione Cioè Sta facendo È un sussidio È un È un È un È un reddito È un sostituto Del reddito Insomma In una situazione In cui c'è una crisi Esogena E non E non Endogena Perché questa non è una crisi aziendale O una riconversione O una ristrutturazione Di un'azienda O un evento Transitorio Di mercato Questo È un virus Che è arrivato E che ha fatto Tutto questo Diciamo Questo sconquasso Terremoto Come dicevi tu Quindi È evidente Che in questa fase Strumenti Di tutela Del reddito Chiama La cassa integrazione Chiama La indennità Di disoccupazione Che poi viene Viene però È erogata È erogata A rapporti di lavoro Che non vengono interrotti E il risultato Non cambia Quindi è solamente Un fatto nominalistico Poi volevo dirti Michele Che io Forse sbaglio E sono Così Esprimo Un ottimismo Naif Però Dal mio piccolo Osservatorio Sulla struttura Del nostro Sistema produttivo Sul nostro capitalismo Sui limiti Del capitalismo Italiano Le piccole Piccolissime imprese Eccetera Però Le imprese Che abbiamo Molte delle imprese Che abbiamo Hanno continuato A operare Cioè Io vorrei Che questo discorso Del lockdown Famoso Venisse Un momento Ridimensionato Perché io Io personalmente Ho Scritto Molte lettere Di aziende Che scrivevano Alla prefettura Di Venezia Indicando Le ragioni Svariatissime Ragioni Per cui Continuavano Mettiamo dei numeri Scusami Ad Alberto Poi parliamo Della parrucchiera Della Adesso Sembra Mi sembra Che al mondo Adesso Posso interromperti Barbieri Cioè Voglio dire Certo Ho bisogno Di interromperti Posso interromperti Certo Ma basta Che mettiamo Due numeri Ok È molto semplice Noi abbiamo Due fonti Tra l'altro Una terza È quella Che mi hai dato tu Dell'Inps Che tra l'altro Utilizza Una delle fonti Che utilizzo io Che è la fonte Di Google Di Mobility La fonti 50% della forza lavoro Su 23 milioni 11 milioni e mezzo Non lavorano Sì Assolutamente Si tratta Secondo me Di capire Tu hai fatto una previsione Molto Molto Diciamo così Pessimistica Si tratta Di capire Se Nelle prossime Settimane Adesso Lunedì 4 milioni e mezzo Però Andranno a lavorare Quindi Lunedì 4 milioni e mezzo Di persone Andranno a lavorare Quindi Qualcosa Si inizierà a muovere Io non sono così Però ripeto Magari Mi dirai Sei un Naif Sei un Un incompetente Io spero Che tutto sommato Questa ripresa In qualche modo Non avrà Quegli effetti Così Catastrofici Che Che tu hai Che tu hai Prospettato Però Per carità Tu sei un economista Hai sicuramente Più competenza Di me E quindi E quindi Purtroppo Hai probabilmente Ragione tu Però Ripeto Molte aziende Hanno continuato Ad operare E Credo che E credo che Da lunedì Ci sarà Una Una Progressiva Ripresa E Su questo Volevo dire Due cose Ricollegandomi Al ruolo Delle organizzazioni Sindacali E a me Sta molto A cuore Il tema Della salute E della sicurezza Dei lavoratori Perché Tu hai parlato Degli Stati Uniti Dove si può Licenziare At will Benissimo Noi non siamo L'America Adesso Il lavoro Cioè Siamo Siamo Molto fuori Dalla media europea In tema di Infortuni sul lavoro Quindi io Io Ho paura Che La ripresa Se non avviene Diciamo Con le Giuste Cautele Possa comportare Infortuni Sul lavoro Perché le malattie Da covid Sono qualificate Dall'INAIL Come Infortuni Sul lavoro Che Banale Banale Oltre al costo In termini di salute Della persona Hanno anche dei costi Economici Perché Le infortuni Sul lavoro Vengono pagati Dai datori Di lavoro E dall'INAIL E cioè Dalle casse Dello Stato Quindi Sarà molto Importante Che questa ripresa Avvenga Mantenendo Scrupolosamente Livelli Di sicurezza Adeguati E su questo Devo dire Che le parti Sociali Tanto Così Attaccate Nel nostro Paese Eccetera Hanno fatto Secondo me Un ottimo Lavoro Perché Il 14 Marzo Hanno fatto Un documento Condiviso Che è stato Rivisto Il 24 Aprile E un documento Molto Ben fatto In cui Sono elencate Tutte le misure Di sicurezza Che devono essere Adottate Di prevenzione E di sicurezza Che devono essere Adottate E quindi Io Mi auguro Che le aziende Che riprenderanno L'attività Seguano Scrupolosamente Queste Queste Diciamo Queste linee guida Che non sono Che non sono Peraltro Semplicissime Nel senso Che la ripresa Comporterà Anche una Profonda Riorganizzazione Del lavoro E quindi Questo sarà Una partita Molto Importante Che le aziende Sono chiamate A fare Con Grande responsabilità Ma anche Con capacità Di riorganizzare La produzione Perché in questo Protocollo Si parla Anche di Rimodulazione Dei livelli Produttivi Si parla Di riorganizzazione Dell'orario Di lavoro Si parla Si parla Dei turni Si parla Dello smart Working Si parla Dell'utilizzo Di tanti Strumenti In Un'ottica Di Prevenzione Quindi Questo è Un ottimo Lavoro Secondo me Che è stato Fatto Dalle parti Sociali La regione Veneto Il 14 Marzo Le parti Sociali A livello Regionale Hanno Recepito L'accordo Nazionale Hanno Fatto Un loro Accordo Integrativo La regione Veneto Ha Recepito In una Delibera Della giunta Regionale Questo accordo E quindi Che è diventata Una sorta Di Legge A livello Regionale Quindi È un lavoro Importante Quello che hanno Fatto Le parti Sociali Sulla Cosa Di Landini In realtà È molto Meno Esoterica Di quello Che Pensi Ric Cioè La CGL Da alcuni Anni Sta Diciamo Proponendo Un nuovo Statuto Dei Lavori Che sia Una Sorta Di Attualizzazione Di Rivisitazione Dello Statuto Dei Lavoratori Che ha La sua Radice Nel Modello Fordista E Viste Evidenti Evidenti Cambiamenti Del mercato Del lavoro Della Struttura Delle Imprese La Dematerializzazione Economia Economia Tutti I fenomeni Che conosciamo Hanno cercato Di Ricomporre In una Visione Unitaria Quelli che Loro Chiamano I diritti Del lavoro E Quindi Non è Nulla Di Che Insomma Non è Nulla Di Allora Intanto Credo sia stato Un bene Aver sentito Una voce Un po' più Conciliante All'interno Nella Visione Economica Quindi Sicuramente Diciamo che Io l'intervista Cosa vuoi Ad Alberto Magari Tu essendo Comunque dentro Questo tipo Di argomenti Riesci a districarti Io mi immagino Un cittadino Che legge Quella roba E viene fuori Praticamente Come Come se Avesse appena Utilizzato Una dose Di lsd Perché Quello È l'effetto Dal mio punto Di vista Di certe Frasi E parole C'è proprio Una comunicazione Confusionaria Che io credo Moltiplicherà Certi problemi Però Questo ovviamente Siamo all'interno Anche delle Delle previsioni Quindi staremo a vedere Sul medio Lungo periodo Io purtroppo C'ho anche il pubblico In chat che mi dice Di far rispettare La scaletta Quindi credo Che siamo arrivati Alla fine Della sezione Dedicata al lavoro È stato Un bel dibattito Cioè nel senso Anzi Io vorrei Far notare Alle persone In chat Che qui Il disaccordo C'è stato E quindi Noi abbiamo portato Anche persone Che sono in disaccordo Cosa che non succederebbe Nel canale Di Claudio Messoro O di chi altri Quindi benissimo Grazie mille ad Alberto Per l'intervento Io spero Io spero Vivamente Che le tue previsioni Siano più Quello che effettivamente Ci aspetta Lo speriamo Lo speriamo Tutti Speriamo Speriamo Lavoriamo tutti Per fare questo E ovviamente Ma devi mandarli Io non ho i contatti Mike C'hai i contatti Tutti tu Lo so Quindi Io direi Avete altri 5 minuti Per far domande ad Alberto Va bene Oppure Oppure Guarda Visto che il pubblico Cioè Visto che siamo qua Abbiamo fatto 3 sezioni di fila Facciamo la piccola pausa Di 5 minuti In cui ci Cambiamo qualche battuta C'è una pausa Prevista subito dopo Possiamo farla La facciamo adesso E non la facciamo dopo Esatto Posso dire Una cosa in chiusura Sì certo Secondo me Se c'è Un Una Diciamo Un elemento Che è emerso Con riguardo Al mercato Del lavoro Mi ricordo Collego anche al tema Dei diritti E Che noi siamo Ancora In una situazione In cui Il lavoro autonomo È Una cenerentola Cioè Le differenze Di tutela Tra il lavoro Subordinato E il lavoro autonomo Prendi ad esempio Il tema Gli ammortizzatori sociali È enorme Cioè Questo è un problema Che dovremmo Affrontare Quello di una Ricomposizione Del lavoro Una ricomposizione Del lavoro La distinzione Lavoro autonomo Subordinato È per molti versi Obsoleta E va rivista Questa è la mia opinione Sicuramente Abbiamo una visione Del lavoro Ancora Decisamente Troppo Troppo Indietro Nel tempo Chi è Su questo In via di principio Siamo d'accordo O temo Che se dovessimo Discutere Su come Almeno dal punto Di vista Legislativo Vorremmo Non vorremmo Rionogeneizzare Andremo in direzioni Diverse Chi ha causato Questa cosa Ecco Io Di nuovo Per un'altra È per un'altra Occasione Per un altro dibattito Per un altro dibattito Ad Alberto Grazie mille Veramente Per aver partecipato Grazie a voi Ciao Alla prossima Buona Continuazione In bocca al lupo Grazie Ci vedo presto È una cosa Che volevo chiarire Finché arrivano Fabio E Luciano Molti ascoltatori Qui c'è proprio Una ignoranza Della statistica Ma anche Della logica Economica Uno mi scrive Ma Com'è possibile Che se il 50% Non lavora Il PIL Non sia crollato Del 50% Allora Il prodotto interno L'ordine È una cosa Che produci 12 mesi all'anno Se alcune persone E che rilevi Con un certo ritardo Per esempio In Italia Siamo anche Molto lenti Adesso Se voi guardate I dati Stati Uniti Tedeschi Ci sono già Tipicamente Si stima Per trimestri Quindi il primo trimestre È finito Il 31 marzo Alcuni paesi Sono molto rapidi E al 15 aprile 20 aprile Ti dicono già Dei dati abbastanza buoni Sul trimestre precedente Altri più lenti Come noi Fra un po' Avremo Il dato Istat Non mi pare Sia uscito Io adesso Sono due giorni Che non guardo Ma non mi pare Sia uscito Non mi pare Non mi pare Bene Comunque si viaggia Ci sono già tutte Queste prime stime Quando Quando verrà riportato Il calo No Per esempio I Stati Uniti Ha riportato Un calo Su base annua Del 5% Questo non vuol dire Che è già calato Del 5% Vuol dire Che se va così Per il resto dell'anno Prevedono il 5% D'accordo? Perché? Beh Perché La percentuale Di lavori Che non hanno operato I Stati Uniti In gennaio Febbraio Ha funzionato Il tutto normale È cominciato Un po' di chiusura A fine marzo Insomma Poca roba In Italia Tutto marzo È stato chiuso Però È un mese Su 12 Quindi fa un dodicesimo Quindi 50 diviso 12 Fa un numero Molto più piccolo Di 50% Stiamo sottoponendo Gli spettatori A una pausa Intensa Cioè Nella pausa No ma è banale Esatto esatto Bella pausa È una pausa Ma queste sono cose Purtroppo Che il sistema scolastico Dovrebbe insegnare Elementario almeno Alle medie inferiori Michele Dicono che è uscito Il dato Istat Meno 4,7 Primo trimestre In Italia Perfettamente Perché provo a fare 50 diviso 12 4,7 Non è proprio 4,7 Non è 4,7 Ma circa Hai visto C'era quello Che stavo cercando Di arrivare Ed è uscito Questo dimostra Che non guardo Adesso E quindi Stiamo camminando Su quella rotta lì Se cumula Per un altro po' Bla 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 Vabbè Fine della lezioncina Mi taccio Scusa Avete capito Avete capito Come Michele Boldrin Pensa le pausa La pausa Recupero debiti La pausa La pausa di recupero Debiti È perfetta È perfetta È perfetta Ma tu Ma tu Immagini Lucrezia Immagina Ti fa la ricreazione A scuola Con Michele Boldrin Che sta intorno Lì capito No perché Ma quella merendina Ma quella merendina Dietro la lavagna Sui gengi Erano tutti lì Che venivano Dice Ma ti capisco Che hai detto Quei matematici Ma la pausa si può fumare C'è anche la pausa Si è detto Siamo in uno spazio pubblico Dove Dove Mamma mia Fantastico Fantastico Bene Bene Quindi dopo questa pausa Questa pausa Un po' frizzantina Direi che possiamo Visto che ci sono I due ospiti successivi Già in sala d'attesa Che ci attendono Mentre Mentre Michele Se ne va Proprio Michele Michele ha detto Ma ascoltate Mi avete rotto Ciao 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 Ed è giusto così Ed è giusto così Io farei entrare I nostri due prossimi ospiti Che ci parleranno Del campo dell'industria Allora Do il benvenuto A quindi Luciano Vescovi Che è stato presente con noi Durante la scorsa La scorsa maratona Ciao Luciano Come va tutto bene Ciao a tutti Buongiorno Bentornato Bentornato E Fabio Pammolli Benvenuto Fabio Anche a te Buongiorno Ciao Fabio del Politecnico Di Milano Adesso io lascerei Qualche secondo Per auto Presentare I nostri due ospiti Quindi Fabio Se vuoi raccontare brevemente Quello di cui ti occupi Ciao a tutti Intanto Grazie per l'invito Mi occupo di Economia dell'innovazione Economia industriale Sono al Politecnico Da qualche anno E dal 2015 Sono nel comitato Per gli investimenti Del fondo europeo Per gli investimenti strategici Della BEI Come membro indipendente Benissimo Benvenuto E grazie mille Per aver consentito A partecipare E Luciano Vescovi Che è presidente Di Confindustria Vicenza Due settimane fa Era qui con noi A discutere insieme Ad Elsa Fornero Quindi immagino Che lo conosciate già E sicuramente ve lo ricordate Perciò io passerei subito La palla a Lucrezia Lucrezia Se vuoi mettere sotto torchio I nostri ospiti Sono tutti tuoi Procedo subito Con la tortura Ma io Semplicemente Riprenderei Il tema Che abbiamo appena trattato Cioè Quello della sicurezza No Le industrie Che devono ripartire Contemporaneamente Devono Mettere in sicurezza I propri lavoratori Forse prima Non si faceva riferimento Anche al costo Di questa Messa in sicurezza Allora La mia domanda è Quali industrie Quali aziende Riusciranno A riaprire E quindi Ad affrontare I costi Che Questa Richiesta Diciamo Ineditabile Di messa in sicurezza Comporta Quali tempi Prevediamo Insomma Chi Chi Riuscirà A fare Il salto In questa Convivenza Con il covid Chi E chi Invece No Non so Chi Vuole Sì Sì Grazie Allora Intanto Spero che Il 4 di maggio Sia una Data Vera Nel senso Che L'introduzione Già mi preoccupa Quali aziende Tutte Io spero che Riaprano immediatamente Parlo della filiera Manifatturiera Ora Le aziende Hanno investito Anche parecchi soldi Non soltanto Nei dispositivi Di protezione Abbiamo adempiuto Tutti quelli Che erano i protocolli Prima del 14 marzo Poi del 24 aprile Abbiamo cercato Partendo dalla sicurezza Di trovare nuovi modelli Anche organizzativi interni Allora I costi Per le aziende Non sono evidentemente Solo dei costi Immediati Misurabili Legati All'adozione Di misure Ulteriori Di sicurezza All'interno Dell'azienda Ma ci sono Tutta una serie Di costi Collaterali Che iniziano Fin da subito E che sono Costi legati Faccio un esempio Per tutti Al fatto che Non si possono fare Trasferte estere Quindi tutti I commerciali Non possono andare All'estero Però Vedendo anche Gli installatori Di macchine utensili Che in Italia Che in provincia di Vicenza Sono molti Non possono andare A fare le installazioni Delle macchine Che hanno venduto Non possono andare A fare le manutenzioni E su questo Poi magari Ci torniamo dopo Ci attendiamo Che finalmente Il ministro degli esteri Esca dal Dal torpore Da covid Perché quei temi lì Non sono temi Per domani Per Diciamo Da affrontare Tra un mese Ma il 4 di maggio Anzi Per alcune aziende Già si ponevano prima Poi dopo C'è tutto Un tema Gravissimo Di rinnovo In fase Dei contratti Mi riferisco Una delle misure Di cui avremmo bisogno Rapidamente Sarebbe quello Di quantomeno Prorogare Questo decreto Dignità Che noi abbiamo Considerato Sciagurato Le decorrenze Cioè Molti contratti A termine Sono andati Adesso a scadenza Abbiamo un termine Adesso Cioè Chi riapre Non rinnova I contratti Per mille motivi Prima di tutto Perché poi Con il decreto Dignità Diventano Contratti A tempo Indeterminato Mentre ci sarebbe La possibilità Per alcune figure Di poter Proseguire E di poter Poi andare Verso un consolidamento Di quel rapporto E invece Grazie a quel decreto Chiediamo Sempre in maniera Civile Di guardare La realtà Di prorogare Di prorogare a fine anno Quanto meno Di quest'anno Visto che è un anno Perso ormai I termini Di quel contratto Sono entrato subito Su alcuni temi operativi Per far capire Che Passare Da la costituzione Da la costituzione Di comitati Per carità Ci vogliono i comitati Ci vogliono gli scienziati Che ci dicono Come riaprire Come ripartire E noi siamo attenti Ad ascoltiamo Tutte queste indicazioni Però poi La dura realtà Di tutti i giorni Ti dice Che il numero Di problemi Che dobbiamo affrontare Da oggi A prossimi Sei mesi Sono giganteschi Non ci sono più Le fiere Per molte filiere Manifatturiere Le fiere Erano un elemento Fondamentale Per la promozione Commerciale Insomma Adesso mi taccio Qui Poi posizionare Su tanti argomenti Che ho brevemente Rappresentato Prego Fabio Ma io credo Innanzitutto Che le considerazioni Luciano Ci devono far riflettere Su un aspetto Noi usciamo Anzi Usciamo Speriamo di uscire Perché è da vedere Se usciamo Da una narrazione Che da un lato Ha posto Enfasi Sull'eroismo Degli individui Sul fronte Come se fossimo In guerra E quindi Abbiamo avuto Tutta una narrazione Sulla stampa Sulla televisione Che ha portato L'eroismo Dei medici Venga Il problema È che Le considerazioni Di Luciano Ci fanno riflettere Su un punto È che Il punto È che Covid È innanzitutto Una sfida Organizzativa Di organizzazione Dei processi Logistica Di sistemi Informativi Di qualità Dell'integrazione Di sistemi Informativi Io nelle ultime Settimane Ho avuto L'occasione E ne sono ben felice Di lavorare Insieme Ai ragazzi Che in Veneto Hanno strutturato I sistemi Informativi Anche lì Certo C'è una Qualità Della conduzione Medica E scientifica Che ha fatto Sì che il Veneto Si sia distinto Da altre regioni Ma vi assicuro Che c'è Una qualità Dell'integrazione Dei sistemi Informativi E dell'azione Di preparazione Di quello Che va Per accadere Perché Noi adesso Abbiamo un programma Sperimentale Che si chiama Back to Veneto Che Luciano Vescovi Conoscerà meglio di me E che sicuramente Potrà esporre Ma che sta Già anticipando Il ruolo Dei medici Del lavoro Per fare Rilevazione Essendosi Suddivise le imprese Avendole stratificate Per grado Di rischio In modo tale Da avere Una rilevazione Tempestiva Delle condizioni Di sicurezza Questo implica Che il sistema Sanitario Sappia Legarsi A una serie Di sistemi Informativi Che sono Quelli della medicina Del lavoro Quelli dell'anagrafe Questo È un punto Sul quale riflettere Perché Uno dei rischi Più gravi Di covid Oltre che a Quelli che conosciamo Di shock Della domanda Shock Dell'offerta Contrazione Dell'economia Ma il rischio Più grave A mio avviso È quello Di fare Delle inferenze Sbagliate Che rafforzino Errori Che abbiamo Commesso E che ci Rassicurino Nel commetterne Ancora di più Uno di questi È proprio quello Ad esempio Di dire Che il federalismo È un mare Assoluto Poi se mai Su questo Torniamo Però se abbiamo Una diversità Istituzionale Di risposta E ben venga Che abbiamo Il modello Veneto Che poi adesso Il problema Sarà scalare A livello Nazionale Se non avessimo Avuto nemmeno Quello Saremmo rimasti Con un impianto Centralista Che neppure Era in grado Di fare Un'integrazione Minima Delle informazioni Comunque Scusa Chiudo solo E poi mi taccio Dicendo Riflettiamo sul fatto Che in televisione Noi non abbiamo Mai visto Un ingegnere Abbiamo visto Sono medici Il momento In cui Peraltro Voglio salutare Carlo Stagnaro Che in chat Poi sarà con noi Che ha fatto La citazione Che avevo in mente Dall'inizio Di quando Fabio ha cominciato A parlare Beato il paese Che non ha bisogno Di eroi Perché giustamente Che è una citazione Dal Galileo di Brecht E questo è giustissimo Perché Per quanto sia Giusto Andare orgogliosi Di come I medici In sé per sé Hanno risposto Facendo al meglio Il loro lavoro Questo ha creato Una divisione Molto retorica Cioè ha creato La divisione Guarda Io qualche giorno fa Ho pubblicato Un podcast In cui criticavo Il discorso Fatto da Conte Sono stato subissato Da persone Che mi hanno detto Ma guarda Che questo è Il momento In cui bisogna Far parlare Soltanto medici Scienziati e biologi E la mia risposta È cacchio o no Cacchio o no Tanto per essere Molto molto pacato In realtà Le mie risposte Sono state anche Abbastanza Un po' più maleducate Vedi che andai Con Boldrin Prendi delle brutte abitudini Tu devi smetterla Io ho preso Le brutte abitudini Per bene Come La dottoressa Ercoli O anche Il professor Pamolli Ma non Non hai visto Lucrezia incazzata Ho tempo Nelle battute Di questo Torniamo Torniamo Nei nostri Sì no Comunque Tornando a noi La divisione Che si è creata Fra questi Fra questi mondi Il mondo della medicina E della scienza Il mondo dell'industria Che in realtà Non dovrebbe essere diviso Perché nell'industria Ci sono Fiori di scienziati Gli ingegneri Per esempio E i documenti Dell'università di Padova Per mettere in sicurezza Le aziende Di cui però Nessuno ha parlato Che ha creato Una retorica Disastrosa E a questo quindi Vorrei Vorrei collegarmi Per porre Una domanda Intanto Quali sono Ne abbiamo già accennato Magari se avete qualche Qualche particolare Più preciso Quali sono gli esempi Più virtuosi Che sono stati già Messi in atto Qui in Italia Ovviamente Luciano ha già Qualche esempio Essendo comunque All'interno di Confindustria E poi la seconda domanda Che io vi butto lì Un po' come Patata bollente È Ma lo Stato Imprenditore Lo può far bene Questo lavoro In un momento Di questo tipo Sì o no Allora Gli esempi virtuosi Una vittima Il Venendo alle due domande La prima domanda Sugli esempi virtuosi Il Veneto Lasciatemelo dire E lo dicono I numeri pubblici È stato un esempio Molto virtuoso Perché Gli Spisal del Veneto Lo ripeto sempre Stanno facendo Una campagna Di Io la chiamo Di assistenza Alle aziende Facendo verifiche Aiutandoci a E ci guidano Nel governare Questo virus All'interno delle aziende Perché nessuno poi In realtà Sapeva bene Come fare A gestire questa cosa E tutte le rilevazioni Fatte Oltre 5.000 6.000 Non so quanti Siano arrivati Con 250.000 Addetti Rilevati Hanno sostanzialmente Detto che le aziende Manifatturiere Sono in ordine Qualche rilievo C'è stato Qualche piccola Segnalazione Certamente Non è che nessuno È perfetto E quindi La parte pubblica Veneta Effettivamente Ha fatto il suo mestiere E anche la parte pubblica Medica Veneta Con Dei protocolli Su cui la regione Ha lavorato E ai quali Noi ci siamo Tra l'altro Come organizzazione Dattoriale Allineati Tanto è vero Che Diamo alle aziende La possibilità Poi adesso Di fare i test Sierologici Tutti allineati Con quello che Prevedono i protocolli Definiti Dal team Che affianca Il presidente Zaia C'è anche Merigliano Che tra poco Credo interverrà Stasera In questo canale Sull'altro Argomento Che mi fa Venire Evidentemente L'orticaria Cioè Sullo Stato Che vuol fare L'imprenditore Abbiamo letto In questi giorni Che c'è Un esponente Del team Dei 17 Che si sta Prodigando Su scenari Futuri In cui Io spero Che noi L'Italia Non sia La vittima Sacrificale Di questa Pianificazione Dall'alto Dello Stato Imprenditore Però Cercando di essere Ancora una volta Propositivi Perché Guardare Cose Allora Lo Stato Adesso ha detto Che le mascherine Devono costare 50 centesimi E quindi Ok E come il pane Ai tempi della guerra Come il latte C'è un bene Essenziale Di cui tutti hanno diritto A cui tutti hanno diritto Di poter accedere Perché senza di quelle Non puoi uscire di casa E se uno è povero Ha il diritto Di accedere a quel bene Senza Svenarsi Allora Che facciano Che visto che hanno La smania Di fare adesso Le aziende pubbliche Che invece che mettere 600 milioni Sulla l'Italia Che è una cosa Sapete che mi sta Abbastanza qua Facciano un investimento Importante In un'azienda Vi daremo Tutta l'assistenza Che ritengono Che produca Mascherine E che vengano vendute Che ne produca 50 milioni Al giorno E che vengano Distribuite A 50 centesimi Ai cittadini In modo che Evidentemente Sarà un'azienda Che lavora in perdita Farà una perdita Misurata Sarà sotto controllo Commissariale Faranno quello Che ritengono Però Se hanno desiderio Di investire Nel settore produttivo Lo facciano Su un bene Essenziale Che è il pane Del covid Cioè le mascherine Ho io una domandina Mi si sente Perché stavo andando A guardare I commenti Guardare i commenti Di chi ci ascolta Per cercare di rispondere E tenere un po' Poi Delle volte tolgo l'audio Scusate Vorrei sapere Da entrambi Guardando avanti Voglio cercare Di capire Abbiamo finito Con Adalberto Molto ottimista Adesso Lunedì Riaprono In 4 milioni Insomma Ce ne sono 8 9 di fermi Ma Metà del problema È risolto Ecco A me non sembra così Per esempio Non ho visto Nessuna soluzione Del problema Trasporti Da nessuna parte Però magari Ho letto male Io Adesso chiedo a Fabio Che forse Ha avuto più tempo Di me Per seguire Questioni logistiche Negli ultimi Settimane E quello Mi sembra Uno delle grandi Fonti Del Del Possibile contagio Quindi di un possibile Panico ulteriore Quindi Di ritorno Punto a capo Quindi prima la domanda Quella quanto Valutate Sia vero Il ritorno Come può funzionare Dove ci sono le criticità Cos'altro ci sarebbe da fare E in secondo Andando un po' più in là Qui c'è proprio Un effetto Come dire Un effetto Che questa cosa È già durata Quasi tre mesi E che per alcuni Durerà alcuni altri mesi E c'è ancora tuttora A molto incertezza Questo Lo sappiamo Su aziende Anche di piccole dimensioni Non serve che siano General Motors Ha L'incertezza Ha grandissimi Scompensi Disagi Perdita di valori Incapacità di operare A vostro avviso Tentando di essere sul positivo Cosa è che onestamente Si può fare Visto che L'eterna resistenza Alla richiesta Di Considerare Ipotesi Di ritorno Alla seminormalità È È troppo rischioso I luoghi di lavoro Sono Luoghi di contagio Mi rende un po' Fai ma grande Però Guardando in prospettiva Mi chiedo di partire Da lunedì E poi di guardare Un attimo avanti Sono tante cose Nel senso che Da un lato Abbiamo un sistema Quello italiano Che nei pregi E nei difetti Ha il grande pregio Di avere una capacità Adattiva Enorme Quindi Nonostante Fallimenti Evidenti Nell'azione dello Stato Una serie di azioni Di microregolazione Si stanno determinando Anche sul sistema Dei trasporti Credo Perché comunque Noi abbiamo un problema Abbiamo un paese Con 1200 aziende Di trasporto pubblico Molte di queste Sono piccole Molte di queste Si basano Su trasporto Su gomma O sul trasporto Su rotaia Periurbano Con layout Dei veicoli Antiquato Perché non siamo stati In grado di concepire Azioni di rinnovo Delle flotte Quindi paghiamo anche L'obsolescenza Delle flotte Però Abbiamo un'azione Che si sta determinando Sui territori Per cui Nonostante L'assenza Di protocolli nazionali Si sta determinando Un'azione Come quella Che diceva Prima Luciano In Veneto È stata più rapida Ed è stata più pronta Da altre parti Sta arrivando Questo è un aspetto Che dovendo cercare La cosa positiva Mi sentirei di dire La seconda considerazione Invece non riesco A farla positiva Perché comunque Noi abbiamo Una struttura Soprattutto nei servizi E soprattutto Nella manifatturiera Più tradizionale Che è una struttura Che si basa Molto sui flussi Di cassa Dal punto di vista Della tenuta Del sistema Aziendale E le tensioni Sui flussi Di cassa In assenza Delle spalle Grandi Quindi di strutture Di capitalizzazione Di patrimonializzazione Di quelle aziende Fa sì che Ci sia Una pressione Di cui non conosciamo L'ha portato Tra l'altro Con un aspetto E qui non vorrei Che Luciano Potesse avere Un bias In che senso Che il virus Ha colpito di più Il nord Ma guardate Che il nord È anche quello Che ha continuato A funzionare di più Cioè se noi Andiamo a vedere La chiusura Delle aziende Soprattutto Delle micro aziende In termini relativi È stata più forte Nelle regioni Che sono state Meno colpite Dal virus Cioè l'effetto Del lockdown È stato In termini relativi Ed è più forte Nelle regioni Che hanno Una struttura Industriale Più debole Che intuitivo Ma questo Ci espone A degli effetti Sociali Altro aspetto Pensate che la fiscalità Di alcuni comuni Si regge In parte Su entrate fiscali Dei non residenti Pensate al peso Delle tasse di soggiorno Questo porta Li abbiamo ancora Li abbiamo ancora Tutti lì E ce li troveremo Dal 4 maggio Ma Intervengo Prendendo a prestito Intanto la parola Narrazione Perché Mi interessa molto L'argomento E la questione Storytelling Della pandemia Secondo me È cruciale E tutti hanno capito Che se non si cambia La narrazione Quindi qualcosa Che interessa Anche noi filosofi Paradossalmente Poi Le conseguenze Economiche Sono forti Prima Stavo citando Insomma Il post Di Conte Di oggi Sulla La giornata Del primo maggio Ecco Fa riferimento Ai suoi incubi Notturni Per la casalinga Il parrucchiere Che gli hanno scritto E di cui lui Si prenderà cura Nelle prossime settimane Quindi siamo di fronte A un tipo di narrazione Diciamo Dove Il paternalismo Anche nella sua foto Di copertina Con Il buffetto Ad un bambino Che richiama Immagini lontane La fa da padrone Io volevo Rinterpellarvi Intanto Su questo Come si può Anche cambiare La narrazione Con Con Gli strumenti Che anche voi Avete a disposizione Cioè Entrare a gamba tesa Nella Comunicazione Per far capire Anche Un punto di vista Più ampio Che non ha spazio Nella comunicazione Mainstream E due Tornare Su questo aspetto Il centro E le regioni Cioè Se è possibile Una sorta di Federalismo Delle Delle decisioni Se vi sembra Che la cosa Sia all'orizzonte Oppure Sia Sostanzialmente Impensabile Al momento E Ultima cosa Concordo moltissimo Io lavoro In Calabria E Dove Ci sono Pochissimi Casi Di covid Ma si morirà Moltissimo Di Di A causa Delle Delle conseguenze Economiche Di Di Coronavirus Allora Non so se rispondere Io Il ragionamento È complesso Sul paternalismo Stenderei Un velo pietoso Perché Questo modo Di affrontare I temi All'italiana Sempre molto Paternalistici Filosofici Da Stato Che vuole Accompagnare Accarezzare Il proprio Cittadino Beh a me Dei sogni Dei nostri Premio Non mi interessa Un tubo E neanche All'associato Medio Di Confindustria Vicenza Proprio Dei sogni Interessa Un tubo Pertanto Andando su cose Più concrete Poiché Noi Viviamo Di segnali E Quindi I segnali Che noi Dobbiamo Aspettarci Sono segnali Concreti Allora Poiché Andiamo Verso Un periodo In cui Spenderemo Un sacco Di soldi Dovano Investire Un sacco Di soldi Sono 500 Miliardi Non lo so Non sono Capace Di valutarlo Ma sono Tantissimi Soldi Per l'Italia Allora Vogliamo Dobbiamo Per il coraggio Di dire Non si può Andare avanti Cioè I navigator Non sono Compatibili Con questo Sistema La quota 100 Non è compatibile Con il futuro Dell'Italia Il decreto Dignità Non è compatibile Con il futuro Dell'Italia Per una tenuta Sociale Di questo Paese Questo Non significa Dimenticarsi Due fasce Deboli Al contrario Significa Che le Poche risorse Vanno destinate Ad aiutare Due fasce Deboli Per quanto Attiene Il tema Del federalismo Allora Facciamo Un ragionamento Sul fatto Che il Veneto Del ottobre 2017 Attende La risposta Continuiamo Che siano Giallo Verdi Giallo Rossi O quel che Si voglia Non cambia La musica Mi pare Il tema Del decentramento Amministrativo È un tema Complesso Per l'Italia Quello che Colpisce È che I modelli Che funzionano Non vengono Mai Lasciati Libere Di produrre Gli effetti Positivi Che fanno Che hanno Cioè Mi spiego Il modello Della sanità Veneta Funziona Perché non Adottare Criteri Costi Standard Compagnia Bella Anche in Calabria E dare Ai cittadini Della Calabria Un sistema Sanitario Decente E decoroso E all'altezza Di quello Veneto E quindi Questo è un tema Di tipo Più generale Mi piacerebbe Fare un ragionamento Tornando a quello Che diceva prima Michele Sui Temi Anche Relativi Si citava Le differenze Tra le diverse Parti La differenza Che c'è in Italia Tra le diverse Regioni Vi ricordo Che in Provincia Di Vicenza Ci sono 100.000 Partite IVA Su 850.000 Abitanti Ora È logico Che qui Ci sia Una Configurazione Una Connetuzione Completatamente Diverse Rispetto Ad esempio Alla Calabria Parlando Dei trasporti In Veneto Prevalentemente Soprattutto Per quanto Attiene Il Manifatturiero Ma in generale Il mezzo Privato Prevale Su quello Pubblico Perché c'è Una connotazione Urbana Diffusa Non ci sono Città Aggregazioni Come a Milano Eccetera Allora Quello che Secondo me Deve Prevalere In questo Paese È che bisogna Favorire Appunto E ascoltare Anche I territori Ma non Perché ognuno Faccia Quel che Vuole Definiamo Dei parametri Definiamo Delle regole Ma all'interno Di quelle regole Diamo la possibilità Di migliorare I modelli Allora Rispetto a questa Emergenza Sappiamo tutti Che può Tornare in Autunno Quando è Qual è il Parametro di Riferimento Quello Dei Ricoverati In terapia Intensiva Bene Che è L'elemento Critico Allora Teniamo D'occhio Molto bene Quello E lasciamo Che la Dinamica Economica Si sviluppi Però Anche in Questo Caso Siccome ho seguito L'intervento Di prima Il tema Che il virus È diventato Adesso Una malattia Professionale L'INAIL Interviene Eccetera Guardate che è un elemento Veramente destabilizzante Perché il virus È una Pandemia Mondiale Noi la subiamo La gestiamo Ma cominciamo A non Mettere da sotto Il punto di vista Anche questo Di regolamentazioni E rigidità Mentali italiane Perché se no Veramente andiamo A schiantarci Poi ci saranno Anche tante altre cose A dire Magari ne chiacchieriamo Dopo Sì Una considerazione Questa è una Collegata a questa C'è il fatto Che in natura Almeno nei sistemi Economici Che conosciamo Non conosciamo Crescita Se non Attraverso L'introduzione Di novità Di nuove opportunità Di azioni Diffuse Distribuita Anche la narrazione Dello Stato Imprenditore È la costruzione Di un irco Cerbo Che non esiste Cioè a dire È la trasposizione Di un pezzo Di narrazione Sul ruolo Dello Stato Negli Stati Uniti Nella promozione Di attività Di ricerca Ma con un patto Fiscale Con una costituzione Fiscale Che non c'entra Un tubo Con l'idea Dell'IRI E dell'EFIM E c'entra Con l'idea Che quel sistema Generi opportunità Che poi Vengono sfruttate Da azione Imprenditoriale Diffusa Nelle scienze Della vita Come in altri Settori Questo è un aspetto L'altro aspetto È che parlando Di Ministero Dell'Industria Noi Già prima di Covid Abbiamo assistito A un fallimento Dello Stato E abbiamo assistito A un fallimento Dello Stato Che passa Anche per tutte Le centraline Di intermediazione Controllate Anche dal Ministero Dello Sviluppo Economico Pensiamo Ad Invitalia Invitalia Si occupa Di tutto Teoricamente Dall'attrazione Degli investimenti In Italia All'uso Dei fondi Europei Da parte Degli enti Locali Addirittura La gestione Dei porti Turistici Ai premi Ex post Per coloro Che brevettano E questo È stato Un mondo Che poi È stato Sintetizzato Da alcuni Studi Di ricercatori Della Banca D'Italia Che ci hanno Dimostrato Che tutta Questa macchina Di trasferimenti Pubblici È riuscita A generare Crescita Solo Laddove Non Ha manifestato L'appropriazione Cioè Anche nel sud Le aree Che sono Riuscite A crescere Sono riuscite A crescere Senza Quei contributi Quindi Veramente Noi dobbiamo Penso Fare una Riflessione Molto rapida Non parliamo Poi Della parte Di infrastrutture La parte Di infrastrutture Risente Risente tantissimo Di questa Nazione Dello Stato Etico Noi abbiamo Avuto Un conto E il rispetto Del codice Penale Altra cosa È la penalizzazione Del diritto Amministrativo Cioè Il fatto Che tutto Diventa Diritto Penale Con fattispecie Di reato Che vanno Poi Fino A Quindi Diciamo Io credo Che il vero Problema Nostro Sarà Riprendere Le fila Di un'azione Di semplificazione Di liberazione Di risorse Io aggiungo A questo Che è un altro Problema Che si sta sviluppando Proprio nel campo Del lavoro Il fatto Che dal mio Punto di vista Siamo ancora In una mentalità Di proteggere I privilegi Più che agire Per Per migliorare Tutti la risposta A questa situazione Faccio solo un esempio Lo scandaloso Dibattito Che si è sviluppato All'interno Della pubblica Amministrazione Sulla Possibilità Di utilizzare Le ferie Arretrate Durante Questo periodo Non so Se avete seguito Un po' la vicenda Però I sindacati Sono messi di traverso Dicendo fondamentalmente Che no Non si può fare Quando in realtà Ci sarebbe soltanto Un modo Per ovviare Un problema Cioè quello Di rinunciare A un privilegio Quello delle ferie Arretrate E ovviamente Poi c'è tutto Anche il dibattito Sull'apertura Del sistema giudiziario Durante il mese di agosto Anche lì Tutti quanti I mesi di traverso C'è ancora Una mentalità Che da un lato Vuole diffondere La paura La paura Per il virus La paura Per i contagi La paura Per la salute Però dall'altra parte Non hai il coraggio Di dire Ok raga Cerchiamo Di limitare Almeno un minimo Un minimo I privilegi Che ci sono In chat Mi fanno anche Ricordare un'altra roba Che l'altro giorno Mi ha fatto scavare La fossa all'inferno A suon di bestemmie Cioè il discorso Dei buoni pasto Ok Cioè si vuole Proteggere i buoni pasto Anche se uno Lavora da casa E questo lo si fa Soprattutto nel campo Della pubblica amministrazione Cosa che è Palesemente Un'assurdità E però A quanto pare C'è più necessità Di proteggere Alcuni Alcuni Privilegi Rispetto a Nel frattempo Michele Boldrin Torna E ha dovuto fare Il reboot del computer È soltanto crollato Malissimamente Da un punto di vista Informatico Aggiungo Un'altra cosa Così per abbassare A livello molto Trash il dibattito Però Nell'immaginario Adesso funziona Molto Checco Zalone E la sua idea Di lavoro E di posto fisso Di Diciamo Tutele Al di là Del Del Di ogni Limite pensabile Cioè Diciamo Tra il dramma E la farsa Insomma Siamo Molto Vicini Sì ecco Scusa Aggiungo Non ho detto Mi sono espresso male Non ho detto Che le ferie retrate Sono Meglio L'ho detto Ma non intendevo Che le ferie retrate Sono un privilegio L'uso Che tu puoi fare Autonomamente In questo periodo Delle ferie retrate Quello sì Che è un privilegio Quindi Attenzione Cioè nel senso È un po' Tricky Il discorso Ma Questo è Io volevo però Sempre Visto che il tema È l'industria Volevo Ricordare A tutti quelli Che seguono Questa lunga maratona Che L'industria Che l'Italia Ricordiamo Ce lo ripeto Sempre È il secondo Paese Manifatturiero Europeo L'industria Manifatturiera Italiana Lo continuo a ripetere Sempre E nel 2019 Ha fatto un export Di 460 miliardi Veri Con un surplus Di 60 miliardi Veri Quindi questo paese Riesce a mantenere Gli standard Di vita Che ha Che sono Una scuola pubblica Diffusa E tutto sommato Anche di buona qualità Rispetto alla media Di tanti altri paesi Una sanità Straordinaria Pubblica Che è un privilegio Di uno stato Moderno Avanzato Ma che è di grande valore Allora Perché ripeto questo Perché Quando noi abbiamo insistito Di avere Per farci ripartire In Veneto Dove Le curve Dei contagi Erano più favorevoli Rispetto ad esempio Agli amici della Lombardia Era perché Ci sono dei settori Industriali Che non è vero Che hanno perso Due mesi Hanno perso un anno Cioè il sistema moda Io continuo a ripeterlo Perché anche in provincia Di Vicenza C'è una filiera Della moda Importante Sistema moda Allargato In sostanza Per il quale Non solo è stata persa La stagione Estiva Prima valide estiva Stiamo andando a perdere Anche la stagione Autunno Inverno Abbiamo perso Un anno Di fatturato Ma guardate Che è una perdita Che massacrerà Migliaia di aziende E la perdita Di quelle aziende È un perdito Di valore Che non ricostituisci In un anno Perché sono Il frutto Di investimenti Di tempo Di persone Di ricerca Di sviluppo Di marketing Che ci vogliono Dieci 20 anni Per ricostituire Infrastruttura Quindi Cerchiamo di Sempre Fare delle considerazioni Guardando anche I grandi numeri E quindi Lo stato Etico Assistenziale Cioè bisogna scegliere In questo paese Vuole continuare a essere Lo stato Assistenziale O vuole diventare Uno stato Che è integrato Nel resto del mondo Perché se vuole fare Lo stato Assistenziale Il fallimento È certo E non c'è E nemmeno le regioni Del sud Hanno bisogno Dello stato Assistenziale Mi rubo solo 30 secondi Io sono appassionato Di kite surf Vado In Sicilia Quando posso Nella Laguna Dello stagnone Di Marsala Lì c'è un dinamismo Imprenditoriale Legato al kite surf Da marzo A novembre In cui ci sono ragazzi Che hanno avviato Attività straordinarie Senza aiuti statali In cui l'unico problema È la burocrazia statale Anche da loro E quindi Cerchiamo di Valorizzare In questo paese Le eccellenze Il merito E non continuare A secondare La logica Del piagnone O dell'assistenzialismo Che non serve A niente A questo aggiungo solo A parte il fatto Che ad esempio Ci sono ragazze Come mia figlia Che lavora Nel settore Della moda E che vedo Quello che stai dicendo E che vorrebbe Tornarsene a fare Il proprio lavoro Sicuramente Senza Lo Stato investitore Ma facendo Quello che sa fare Seconda considerazione Su questo C'è un rischio Perché prima Prima di Covid Noi abbiamo avuto La preparazione Su due lati Di un disegno Che non va sottovalutato E che rende importante Il lavoro Che stanno facendo Michele E coloro Che hanno lanciato Questa Iniziativa Complessiva Perché è un disegno Molto Radicato Culturalmente Che si sta radicando Nelle istituzioni Ed è un disegno Non va sottovalutato Questo disegno È partito Con la grande Inps Che addirittura Dovrebbe fagocitarsi Quel poco di previdenza Complementare A capitalizzazione Che abbiamo Nel paese Questo disegno Si traduce Nell'occupazione Militare Di una serie Di snodi Che fanno Da intermediazione Tra lo Stato E l'economia Quindi Io E questo disegno Si alimenta Di una cultura Mi dispiace Essere maleducato Nutella Spalmata Come la nutella Sul pane Che non ha Nessun fondamento Teorico La mia educazione Stato che non ti piace Troppo così tanto La nutella Che solo a menzionare Lo considero un insulto Fabio No ma è la spalmatura Che una volta Che l'hai spalmata Io devo Venirti a trovare A Milano Mi dovete fare Un corso Di buona educazione italiana Perché adesso capisco Perché nessuno mi saluta No è perché Adesso vivo a Torino Quindi mi sono ancora Reso più composto Capito Comunque Questo è il punto Perché se noi Assecondiamo Questo Ci troveremo Poi Presto A dover Fronteggiare Una serie di decisioni Che risponderanno Alla crisi di covid Andando esattamente Nella direzione sbagliata Cioè come meccanismo Di reinforcement Di una traiettoria Che sarebbe folle Comunque E questo mi preoccupa Molto Se c'è qualcosa A concludere Al momento A questa pausa Arrivando alla pausa Dalle cose che dicono È proprio questo Cioè la Ma qui c'è proprio Una debolezza culturale Generale Delle forze Del progresso Del lavoro Della produzione In Italia Completamente succube A quello che Luciano Chiama stato etico Stato In realtà è una cultura Metafora Il libro cuore Sì Il libro cuore È fondamentale Guardate che Nel libro cuore C'è tutto Capitolo per capitolo Personaggio per personaggio È veramente Il libro Altro che Manzoni Promessi Sposi E alcune teorie Primitive Di come dovrebbe funzionare L'economia Ci sono obiettivamente Social fascista Nel senso Che sono un misto Fra il corporativismo No E questa idea Di queste categorie Rigide Eterne Professionali Medievali Che devono esistere E quella Se volete Più moderna Ma ugualmente folle Ed è uno stato Che provvede a tutto Perché è più saggio Non è E l'epidemia Sta Ma basta vedere C'è tutta una teorizzazione A cui però La cultura Progressista La cultura Produttiva Non sa rispondere Secondo cui Il virus È l'effetto Della globalizzazione Il virus È l'effetto Della Scempio ecologico Del neoliberismo Non dimenticarti Il neoliberismo I scemotti Tirano fuori Il famoso Neoliberismo E' bello Perché in questo periodo Poi Una certa parte Anche Della divulgazione Scientifica Online Ha cominciato a prendere Come mantra religioso Il libro Spillover Non so se lo conoscete Ma è un libro Che diciamo così Un po' prima Di questa Un po' prima Di questa Di questa Di questa pandemia Diceva Guardate che la prossima Pandemia arriverà Per colpa Dello sfruttamento Delle risorse Naturali E via dicendo Dimenticandosi Che le epidemie Esistono da ben prima Anzi Da molto prima Che l'uomo Sviluppasse Questo sistema Terribile Che è il capitalismo E vabbè Ma lì c'è tutto C'è proprio un'ideologia Un numero di morti Anche molto superiore No ma c'è tutto Un intreccio Di ideologie E discorsi scientifici Che purtroppo Stanno facendo Una montagna Di danni E avranno Inevitabili conseguenze Anche sì Come abbiamo detto Sul tessuto produttivo A me dispiace un sacco Non aver aperto Il tema Che avrei voluto Discutere con voi Anche del discorso Previdenziale Che Fabio ha toccato Soltanto Di sfuggita Ma magari Sarà argomento Di approfondimento Successivo O durante questa diretta Oppure In una prossima occasione Che voglio dire Qualcosa di devastante E dovremmo dedicare 8 ore solo a quello In realtà Noi dobbiamo essere Oici ormai 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 Noi dobbiamo essere Stringenti con la scaletta E vedo che Michele Non è stringente Perché ha portato dentro I due ospiti sbagliati Tocca Michele Tocca A Forchielli A Scacciavillani A quanto ne so io adesso Non siamo Alla fase di giustizia Ma alla fase di Mercato Abbiamo andato in anticipo Semplicemente Perché si preparassero Ah ok Guardassero la scaletta No perché io vedo già Vedo già nella saletta D'attesa Serena Allora abbiamo 5 minuti Di margine Sì Per cominciare Quindi intanto possiamo salutare Tranquillamente Io poi Avete visto Sono sparito Perché c'è una strana interazione Fra StreamYard Devo capire cos'è Dopo Qualche tastino Che tocco A un certo punto StreamYard È successo anche l'altro Venerdì Due settimane fa E Opera Mi paralizzano Ti spiego io Qual è il problema È che non sei abbastanza Neoliberista Perché vedi Io faccio con Mac E ho tutto a posto Tu lavori con Windows Michele C'hai il Surface Ma per favore Ma per favore Ma per favore Adesso Il bello è Secondo me lo pagano Per la pubblicità No magari Cazzo Madonna Tim Cook Sono qua Sono tuo Sono tuo Ti prego Fammi testimoni All'Apple Italia Ti prego Come avete parlato Di libro cuore Richiamando un tema Che aveva accennato Qui aveva accennato Michele Poi Sono un flash Attenzione che Il comitatone Dovrebbe anche pensare Adesso ai ragazzi Che stanno a casa Da scuola E noi abbiamo Molte realtà Di gente Che deve venire a lavorare Non può portare I bambini Dai nonni Perché è pericoloso Allora quel tema lì Non è un tema Irrilevante Anche per l'organizzazione Delle aziende Quindi Lo segnalo Perché Effettivamente A volte Si pensa Che il problema È complesso Non si sente più niente Dal tuo microfono Luciano Non si sente più niente C'è un disturbo Nel microfono Sì 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 Bene No in realtà Michele Ho sbagliato io Abbiamo invertito Le due La scaletta Quindi è vero Ci sono Serena Mi stai facendo My mistake My mistake Sono i rischi Della diretta Siamo anche noi Come dei Facciamo finta Di essere My bad My bad Siamo giusti Piacere rivederlo Dopo tanto tempo Grazie Luciano Grazie Luciano E Fabio Grazie a voi Ciao a tutti Grazie Ci sentiamo presto Grazie Grazie La calma E posata Infatti almeno Lucrezia è la parte Razionale Veramente razionale Di questa Di questa Live Sono tra voi E divido questa Coppia di fatto Che ormai Stanno dando i numeri Ci ha chiamato Coppia di fatto Michele e Lucrezia Ci ha chiamato Coppia di fatto Io 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 faccio entrare I due ospiti Faccio entrare I due ospiti Facciamo meglio Così Quindi Saluto Congiunti Eccoci qua Ciao Serena E ciao Axel Grazie mille Per essere qua Con noi Grazie a voi Axel è stato ospite Anche la scorsa Maratona Mentre Serena è qui Per la prima volta Quindi Benvenuti Allora Non so Michele Vuoi far tu Le presentazioni Del caso E allora Iniziamo da Serena Noblesse oblige Serena è una giurista Che Se non sbaglio È anche vice direttore Generale Il suo Bruno Leone Comunque dove Collavora regolarmente E credo Insegni Sono ricercatrice Ricercatrice Di diritto costituzionale A Napoli Alla Solo Benvenuti in casa Esattamente E Niente Quindi Posso dare Un altro dato Perché mi sento Più in casa Dopo tanti veneti Ciao Lucrezia No ma soprattutto Una concittadina Con cittadina Maceratese Quindi insomma Ah C'è dentro Esatto Insomma E' vero C'è un po' Un overwhelming Numero di veneti Ma non proprio Tutti Fabio non è veneto Axel Nemmeno Axel Precisamente Alto Attesina Appena hanno dichiarato Che si vogliono Finalmente Approfittare Per darla Del casino Che stanno facendo I rosso Brunati Romani Versione 2 Loro Il Volkspartei Ha detto Vi salutiamo Finalmente E visto Vi hanno tagliato Il cavo Quindi Axel Non so se Nemmeno si ci sente Noi non lo sentiamo Non mi vedete Sì ti vediamo Però Diciamo questa tua Sindone E' più Di te in questo momento Perché io mi vedo Non capisco No ti vediamo Solo che sei più Pixel Che Axel Eh vabbè Scusate Eh Questa mi è uscita Senza neanche Averla pensata Mi chiedo Scusa A tutti Quanti Perché è stato Troppo Anche per me Posso fare qualcosa probabilmente la cosa migliore per la tua connessione è che disattivi la webcam perché così almeno sentiamo bene l'audio hai una connessione molto debole anche l'audio arriva disturbato anche perché non sono rasato oggi quindi probabilmente è per quello dai l'aria di quello stop cam ok va meglio adesso sì sì l'audio lo sentiamo quindi direi che siamo tranquilli bene puoi fare quello che vuoi puoi tirare fuori il solito bicchierone alto così di birra quella che ci beviamo di solito assieme e vai tranquillo mi lancio io subito con la prima domanda se non è un problema Mike perché nei giorni scorsi sono stato intercettato da molti messaggi che mi hanno detto come vari ordini di avvocati studi legali e tantissime entità stanno lanciando ricorsi sull'incostituzionalità delle misure prese in questo momento soprattutto nella limitazione delle libertà individuali ora io credo che ci sia un grosso problema dal punto di vista delle procedure che vengono saltate delle discussioni non fatte e di tutto quello di tutto quello che poi concerne a un momento di emergenza però il dubbio è forte il dubbio è il seguente al netto dell'incostituzionalità che sicuramente possiamo discutere tutte le sanzioni tutte le punizioni tutto quello che è stato dato in questi giorni ha una validità cioè avrà corso oppure alla fine dei conti sono tutte chiacchiere atte a creare uno stato di paura che si mantenga sul lungo periodo chi deve rispondere come volete parte prego prego allora questo in diritto vale soltanto la verità processuale quindi se sono legittimo o no noi possiamo dare la nostra opinione ma se qual è la verità esiste soltanto la verità giudiziana in diritto e quindi lo vedremo strada facendo quello che è la mia impressione è che senz'altro ci siamo trovati di fronte a un enorme impianto normativo fondamentalmente di di persuasione tra la paura e la persuasione di nudging come dicono come dite voi economisti come dicono gli economisti mascherato da impianto diciamo ordinario di command and control quindi ti do un comando ti controllo se non lo rispetti ti sanziono in realtà ci sono anche delle sfasature tra il comportamento e la sanzione per esempio è sanzionato la dichiarazione di falso non il fatto che stai uscendo per dirne una quindi diciamo effettivamente noi ci siamo trovati davanti al più grande per estensione di tempo e per profondità e vastità dei diritti coinvolti alla più grande restrizione alle nostre libertà rispetto alla quale qualsiasi democrazia è sprovvista di strumenti e quindi è ovvio che funzioni in realtà cerchi di funzionare con l'idea della sanzione ma in realtà fa affidamento molto sul convincimento sulla persuasione per qualsiasi motivo anche se fosse soltanto la paura delle singole persone tutto questo è illegittimo i provvedimenti presi sono illegittimi ci sono profili di illegittimità che si possono sollevare a me di cui si può magari dubitare mettiamola così uno è sulle procedure cioè le procedure sono state tutte corrette io personalmente non ritengo che siano state dal punto di vista del rispetto costituzionale illegittime si è stirato di molto ci sono state parecchie slabbrature ma soprattutto nel momento iniziale dell'emergenza io credo che un test di legittimità costituzionale potrebbe potrebbe passare dovuto proprio all'emergenza nel tempo poi è ovvio più ci più il tempo passa più l'emergenza più il picco anche dal punto di vista della necessità normativa si cala anche lì andiamo verso un plateau e quindi non è più possibile per esempio accettare ora l'utilizzo dei famosi atti amministrativi che sono i dpcm anziché i decreti legge altro discorso invece molto più molto più scivoloso e rispetto al quale io nutro molti più dubbi è se al di là delle procedure il test di quello che i giuristi chiamano il test di proporzionalità è superato cioè le misure che sono state adottate che sono sempre di bilanciamento tra diritti in un caso il diritto alla salute anche nel suo profilo pubblico e tutti gli altri diritti diciamo dall'altra parte no? la compressione che si è avuta di tutti della maggior parte dei nostri diritti per finalità di salute pubblica supera il test di proporzionalità cioè è adeguata rispetto al fine all'obiettivo raggiunto qui non siamo più nelle procedure ma siamo nel merito del bilanciamento e qui io sono sicura che si aprirà un grande contenzioso che sarà sempre più ampio perché riguarderà poi anche le decisioni di cura che il governo ha chiamato il decreto cura ma anche le decisioni future in materia economica e non mi stupirei se i tribunali si dovessero attrezzare con una specie di sezione chiamiamola così specializzata covid Axel ma in magistratura è in corso tutta una serie di discussioni sul punto ci sono dei dubbi effettivamente di costituzionalità perché questi poteri che sono stati conferiti al presidente del consiglio sono dei poteri troppo vasti essenzialmente e quindi è probabile che tutto questo impianto normativo abbia insomma la tenuta costituzionale dell'impianto normativo secondo me è parecchio d'unque Axel si sente proprio male si sente molto male puoi provare a fare ti attendiamo cioè ti dedichiamo il tempo dopo a volte magari provare a riconnetterti se riesci perché io dubito che sentano le tue parole quelli che ci ascoltano quindi io adesso per risconnetti entra e esci fai il live studio e usi lo stesso live per rientrare il link è sempre lo stesso quindi rientri tranquillamente da quello Lucrezia sei ma mi li lancio allora a Serena nell'attesa per una riflessione così più di di estetica ma anche in realtà insomma di forma e di sostanza sulla scrittura di questi decreti perché non credo sia marginale riflettere su non solo l'utilizzo del insomma decreto del presidente del consiglio che ormai da febbraio ad oggi oggi appunto è il primo maggio sta andando avanti ad libitum ma anche sulla forma così confusa così caotica che davvero sembra evocare più un film distopico tipo Brasil di Terry Gilliam che diciamo una realtà democratica ecco questo ti dice un linguaggio un burocratese e anche un linguaggio molto caotico di difficile comprensione è così un errore per in preparazione in competenza di difficoltà di comunicazione oppure secondo te è finalizzato così a buttare un po' di di nebbia e di fumo di responsabilità entrambe entrambe le cose cioè da un lato c'è una una regola fisiologica della scrittura delle norme che è quella di non essere troppo chiari per lasciare poi appunto la responsabilità a chi la deve interpretare e questo è un responsabilità o potere si chiamasse potere beh io preferire io diciamo preferisco sempre chiamarla responsabilità però sì diciamo il potere è responsabilità considerando il background culturale l'idea di che quella sia una responsabilità non un atto intenzionale di concessione di potere a chi con le stesse norme scrive così anche poi poter interpretarle vabbè lo dico con ottimismo della cittadinanza tutte le regole cioè alla fine quando le regole aumentano 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 a dismisura alla fine da regola a regime passaggio diciamo la radice etimologica diciamo che l'opacità o la plurivalenza delle interpretazioni è ovvio è ovvio che sia una delega al potere esecutivo che poi è alla fine ma solo alla fine e con molto onere per il cittadino al potere giudiziario che se ne sta facendo ampiamente carico da molti anni la supplenza dei giudici è un tema amplissimo il giudizio all'attivismo però qui il problema è un altro che la supplenza è lo diceva Michele del potere esecutivo banalmente dei puliziotti che ti fermano per strada e interpretano che cosa voglia dire prossimità o che cosa voglia dire congiunti o che cosa voglia dire tutte le altre formule che abbiamo visto questo è ai noi fisiologico un po' nel modo in cui si scrivono le regole quello che a questo si aggiunge senz'altro una ignoranza nel senso proprio tecnico nel senso etimologico di chi prende le decisioni che si è trovato come tutti noi davanti a una cosa nuova enorme molto più grande di noi tutti messi insieme e quindi ha maneggiato parole da un lato volutamente in maniera incauta dall'altro anche diciamo inconsapevolmente in maniera incauta l'ipotesi per esempio appunto facevamo la battuta sui congiunti la formula congiunti o la formula prossimità ne sono un chiaro esempio quindi entrambe le questioni diciamo un po' per dolo un po' per colpa vediamo se Axel adesso si sente Axel si è comunque meglio se stacchi la webcam te lo dico perché la connessione è proprio di bassissima qualità quindi disattiva la webcam e vediamo sentiamo se l'audio è comprensibile mi sentite? si ti sentiamo ti sentiamo tu prova lanciati io ritorno un attimo allora praticamente con un decreto legge del 23 febbraio hanno concesso degli amplissimi poteri al presidente del consiglio che sono talmente anti che probabilmente diciamo superano quello che è la riserva di legge nella rinnovazione della libertà personale e pertanto è molto dubbio il fatto che la norma abbia una qualità conforme alla condizione la norma che già legittima il presidente del consiglio a dimettere questi decreti e quindi se il presidente del consiglio non è legittimato a dimettere questi decreti inevitabilmente sono invalidi c'è questo rischio ecco diciamo c'è questo rischio ma allora la domanda che vi faccio provo a buttare proprio una una patata bollentissima adesso questo arbitrio nell'interpretazione della legge che è emersa dalla discussione fra Lucrezia e Serena cioè il fatto che i decreti sono scritti in un certo modo e quindi è tutto consegnato all'arbitrio barra potere barra responsabilità di chi li applica di volta in volta non porta con sé il rischio di non solo vedere annullati in futuro le sanzioni quelle al cittadino comune via dicendo ma soprattutto in risposta a questo di vedere annullati i veri crimini che magari sono stati commessi durante questo periodo faccio solo un esempio noi sappiamo che in Lombardia la gestione delle case degli istituti clinici delle case di riposo è stato al limite a volte al limite della sopportazione umana ci sono stati degli atti che sono emersi che hanno creato scandalo ora in uno stato di emergenza come quello in cui stiamo vivendo al netto del timore di vedere annullato o timore forse sollievo di vedere annullate le sanzioni stupide non c'è il timore di vedere annullate le sanzioni e le misure per dei crimini che sono stati compiuti proprio nel tentativo di sfruttare l'emergenza in corso cioè la valenza di legge in questo caso particolare non rischia di venere completamente annichilita dall'arbitrio dei singoli che magari vogliono scusatemi il termine francese pararsi il culo fino all'ultimo ripondo io allo stato attuale sono due piani completamente diversi cioè parliamo di norme penali che hanno pieno rigore e se volessero tra virgolette salvare tutte queste posizioni dovrebbero fare una legge ad hoc una sorta di amnistia ad hoc altrimenti qualsiasi reato che è stato commesso è tuttora perseguibile ed ufficio o a seconda dei casi con querena insomma ok Serena tu cosa ne dici sì no anche io sarei abbastanza almeno su questo rassicurata dal fatto che si tratta di ipotesi molto diverse peraltro credo anche che non so è un po' imprevedibile la prima parte che dici cioè quanti ricorsi per esempio ci saranno perché ripeto secondo me soprattutto per un primo periodo che abbiamo vissuto tutti in maniera concitata io credo che ci sia stato un po' anche una sorta di effetto che non mi stupirei di rivedere appunto in un eventuale giudizio di incostituzionalità come dire quasi di tregua istituzionale tra cittadini e potere politico e anche tra diciamo tra forze politiche che hanno accettato evidentemente uno spostamento del baricentro normativo insomma nel primo periodo secondo me almeno sul primo periodo non credo che ci saranno poi tanti ricorsi diverso sarà ripeto su quello che verrà e molto anche sulle misure di ordine economico mi rinserisco poi non so se Michele vuole aggiungere qualcosa perché siccome poco fa è stato citato intanto che Axel ritorna è stato citato il libro cuore vorrei spezzare una lancia come fece Umberto Eco tanti anni fa per il Franti e quindi parlare di quella categoria diciamo che si avvicina più a Caino che a Dabele ecco ne abbiamo un esempio con noi e cioè quelli che vengono dopo gli ultimi degli ultimi e cioè i carcerati e la questione prigioni io credo questo forse è l'unico spazio in cui possiamo parlarne perché poi torneremo a parlare di mercato globale credo che meriti almeno un accenno anche perché in questa fase come in tutte le pandemie come la storia ci insegna il giustizialismo la fa da padrone perché bisogna pur trovare un capo ispiatorio il garantismo viene accantonato già era bello dimenticato in Italia adesso non so quando potrà ritornare diciamo al centro del dibattito e alla fine il carcere poi diventa insomma il ricettacolo di tutti i problemi non risolti mentre il governo sta facendo una politica carceraria abbastanza scelerata in questo momento ecco una parola sul carcere che è anch'esso un luogo del contagio e forse dovrebbe tornare in maniera un po' più complessa al centro del dibattito di questi tempi ma io qui so che lascia che so che Axel forse invece può dirci qualcosa se vuole non l'ha sentito nel senso che se ne parlava l'altro giorno non voglio mettergli la parola in bocca se era informazione riservata era informazione riservata ma le cose che mi dicevano da un esatto opposto di quanto si tende a credere all'italiana ovviamente ma vabbè quindi prima però di lasciare la parola a Serena su questo lasciami fare il bastian contrario perché sono franti io non vedo nessun atteggiamento giustizialista anzi proprio il libro cuore implica che bisogna dare a luci e vino forgive and forget c'è l'emergenza ma quanto sei stronzo stanno facendo del loro meglio va attaccata al cavillo state polemizzando volete solo mettere la gente in galera perché non sapete fare politica sono anche loro stressati eccetera 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 insomma nel frattempo no no vedo per quanto riguarda 59.947.211 ha una grande tendenza al forgiving forget perdoneremo tutte perché oh mio Dio eravamo in guerra c'era grande pericolo e quindi chi ci amministra chi governa chi è il potere ha fatto il possibile la questione carceri che è una questione eterna è stata lasciata lì a me sembra talis qualis cercando poi di risolverla secondo me cercando di non incarcerare nessuno però qui mi taccio allora dico io intanto che aspettiamo il rientro di Axel mi sa che non rientro aveva chiaramente una connessione orrenda eccolo eccolo mi sentite mi sentite sì io sì ecco una previsione che sia una cioè però stava cominciando a parlare Serena tu non hai sentito la domanda quindi lasciamo a Serena l'ho visto l'ho visto ti ho scritto sulla chat in realtà c'è provvedimento addirittura sul sito della procura generale se tu vai a vedere della procura generale non ho visto la chat sì sì c'è praticamente avevano detto di non incaccare nessuno sostanzialmente adesso in vista del superamento del periodo diciamo emergenziale siamo autorizzati ad eseguire le misure cautelari che abbiamo tenuto in testa paradossalmente comunque se uno che è soggetto a una misura cautelare va sul sito della procura generale della Cassazione vi legge che il procuratore generale della Cassazione ci invita a non eseguire misure cautelari e quindi non mettere in cacere delinquenti diciamo se c'è una misura cautelare vuol dire che è un soggetto che sta commettendo tuttora dei reati e ci dicono di non farlo per non aggravare la situazione di salute nelle carceri anche se devo dire che nelle carceri tutto sommato dalle informazioni che ho io ad esempio a Bolzano nonostante sia un carcere abbastanza scandaloso da un punto di vista dell'infrastruttura non ci sono stati malati per fortuna ci vuole sempre il fattore C sì sì posso aggiungere qualcosa allora la questione delle carceri è esattamente diciamo con diverse proporzioni un po' quella anche della situazione nazionale cioè nei momenti di maggiore difficoltà i nodi vengono al pettine la situazione carceraria è in maniera conclamata e questa volta sì per verità giudiziale illegittima lo stato di detenzione dei detenuti dichiaratamente illegittimo in violazione diciamo delle del concetto del principio di dignità e noi questa cosa la accettiamo da anni per molti motivi in primo luogo dal punto di vista della cittadinanza perché i carcerati non li vediamo stanno lontani dalle nostre vite quindi occhio non vede un po' perché c'è un problema di struttura che evidentemente i ministeri i ministri i governi negli anni non sono riusciti a risolvere pur potendo fare sicuramente molto qualcosa in più quindi è evidente che un un po' come quello che abbiamo capito che questa malattia purtroppo si scoppia in ambienti chiusi dove praticamente si infettano tutti quindi per fortuna questo non è ancora successo nelle carceri anche se in qualche in qualcuna c'è stato ci sono stati decine di casi se non sbaglio soprattutto mi pare proprio in Veneto e perché un eventuale contagio esteso all'interno di un carcere in una situazione affollata è ovvio che sia un problema dove le mettiamo le persone ed è un problema è un doppio problema è un problema ovviamente per i carcerati perché sono persone titolari della nostra della stessa nostra dignità ed è un problema però anche per chi lavora in carcere il carcere è sì un luogo chiuso dal punto di vista di chi sta scontando una pena ma è un luogo aperto ogni giorno gente entra e esce nel primo provvedimento che ha preso il governo le carceri sono state oggette di attenzione soltanto per una limitazione colloquio poi mi dirà Axel se ricordo male quindi all'ingresso degli affetti dei congiunti che non potevano più andare se non in casi eccezionali a trovare persone in carcere ma ovviamente il mondo del carcere continua a vivere e continua ad andare le persone continuano a lavorarci dentro secondo me c'è stato anche un po' ripeto un po' di fattore di fattore fortuna dopodiché è intervenuto quest'altro ora appunto il nuovo decreto che se ho ben capito Axel correggimi da un lato fa quello che dice lui cioè per il futuro invita a non utilizzare la pena detentiva per questo immediato futuro dall'altro si prende atto di una sorta di solitudine che stavano vivendo i giudici di decidere dell'eventuale utilizzo di altre misure di pena rispetto al carcere per gravi motivi di salute che cosa stava succedendo che veniva richiesto al magistrato competente dal singolo carcerato dall'avvocato del singolo carcerato di essere di andare domiciliari e si lasciava ancora una volta il potere e la responsabilità al magistrato di decidere se si era o no in queste condizioni fondamentalmente abbandonandolo a questa decisione e qui è stata presa una decisione generalizzata sui reati più gravi per esempio quelli a stampo mafioso dove si deve seguire una procedura doc certo è una diciamo appunto ripeto il fattore fortuna per adesso almeno speriamo continui così ha evitato di risolvere in breve tempo un problema che non è stato mai risolto che è quello del sovraffollamento delle carceri e anche dell'uso della pena carceraria rispetto ad altre pene lo dicevamo in un'altra occasione con Michele ma siamo un paese dove al diminuire dei reati aumentano le persone in carcere non ci dimentichiamo che molte di queste persone sono in attesa di giudizio in via definitiva vediamo se Axel ci sente sì sì mi sento io vorrei guardare un po' l'interessiva da voi due ne abbiamo parlato anche l'altra volta però insomma oggi stamattina parlavo con un amico avvocato mi diceva l'attività è ridotta ai minimi termini un po' sul civile avevamo sentito l'opinione di Axel e di un altro amico avvocato diverso da quello che avevo in mente saranno contenti i nostri raccoltatori è la prima Rick che alcuni avevano commento è la prima è la prima è la prima come vedete ci sono già gli effetti della birra quante ne berrai per fortuna io mantengo la sobrietà non è vero Lucrezia sappiamo che c'è della vodka dentro l'idea un Irish coffee pesantissimo dal lato non coffee dal lato Irish voi non usate invece i cocktail come come noi super neoliberisti televisivi in divano dopo la battuta di Arcuri è già diventato troppo mezzo solo in tarda serata quindi in chiusura in chiusura ci daremo al cocktail niente volevo cercare di sentire ancora perché io sono fissato dalla ripartenza cosa pensate per il per il futuro ti posso raccontare quello che sembrerebbe un aneddoto ma in realtà è tradica realtà purtroppo che ci siamo fermati completamente quindi dai primi giorni di marzo hanno fatto un decreto dove hanno detto tutta l'attività è ferma fino al 15 di aprile e poi hanno prolungato questo periodo fino all'11 di marzo allo stato attuale noi con l'11 di marzo in teoria dovremmo ripartire con la allora hanno fatto poi delle misure che sostanzialmente prevedevano la tra virgolette che viene definita smaterializzazione del processo per cui dicevano si possono fare audienze da remoto gli avvocati partecipano da remoto e quant'altro c'è stata una grammatica sollevazione da parte degli avvocati i quali dicono assolutamente no non si può fare perché il processo penale si deve svolgere in aula e quant'altro e questo ha comportato paradossalmente che il governo ha fatto un decreto legge che prevedeva la possibilità quantomeno di sentire una parte dei soggetti professuali sono ad esempio la polizia giudiziaria e i consulenti e anche la parte civile costituita da remoto quindi in videoconferenza e anche la possibilità di tenere l'udienza quindi il giudice in parte appunto fuori dall'aula di giustizia questo decreto è stato convertito con legge il 24 di aprile il 30 di aprile cioè ieri hanno fatto un decreto legge in cui hanno smentito questa cosa in cui hanno detto che i testimoni devono comparire in aula e quindi non solo il testimone ma anche la polizia giudiziaria anche il consulente e quant'altro devono comparire in aula e il processo si deve fare in aula poi dicono nel settore civile ad esempio dicono che il giudice deve deve tenere l'udienza non più da remoto non la può più quindi tenere da casa sua quando lui a casa sua adesso con il cosiddetto processo civile tematico di cui parlava l'avvocato Alessandri l'altra volta ha tutto sul suo computer e quindi potrà vestire tutto da remoto hanno previsto improvvisamente che il giudice debba operare dal suo ufficio il tribunale e quindi si deve muovere con il merito pubblico e quant'altro alla faccia dello smart working e compagnia quindi adesso c'è una sollevazione da parte della magistratura che dice ma cosa sono questi provvedimenti assolutamente illogici schizofrenici nel giro di quattro giorni il governo smentisce se stesso e prevede una nuova norma diversa dalla precedenza io paradossalmente vedo anche degli aspetti positivi di questa norma nel momento che dice che l'audizione del testimone di dare moto può avvenire con il consenso di parte mentre questo prima non era previsto e questo consenso di parte forse lo si riesce a ottenere e sarebbe importante soprattutto tenerlo in prospettiva futura anche in post emergenza cioè diventa un'istituzionalizzazione all'interno del codice di procedura penale della possibilità di sentire il testimone in videoconferenza che il codice di procedura penale prevedeva mi sentite? no? Sì no ti sentiamo Axel solo che sembri veramente un robot in chat dicono R2D2 e purtroppo la giustizia algoritmica esatto esatto la giustizia algoritmica esatto i nuovi giudici ti dico io rispetto a prima capisco abbastanza bene quello che dici però sembra sembra sembri molto robotico è strano lì a curto chi diavolo è Franz 8 quello che ti governa l'affare è a metà a posto mettere a posto assolutamente mettere a posto assolutamente controllare che probabilmente il governo italiano ci sta boicottando da quando abbiamo deciso di separarci il digital divide si sente si sente il digital divide da qualche parte fra Bolzano è una delle prime misure di ritorzione sì mi sembra chiaro secondo me in Gardena un po' più sotto la Val Gardena hanno tagliato i fili comunque comunque più piacevole del microfono di Boldrin questo è uno stronzo blocca sto skipper blocca ma no ma no è simpatico è simpatico ah no è un mio amico tuo o dica Axel no no è che sta scrivendo dei bei messaggi Axel si chiama Axel oggi Axel si chiama Axel all'inizio 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 era comunque Axel no corretto non ho messo il cognome devo mettere anche il cognome la prossima volta cresco ormai abbiamo vai tranquillo la prossima volta probabilmente dovrai scrivere Pixel sappilo perché ormai sei stato sei stato ribattezzato dalla chat cioè per colpa mia è così è così bene non so se Lucrezia Michele avete qualcosa cosa da chiedere ulteriormente voglio scrivere anche l'opinione di Serena su continuazione però Lucrezia prego ripasso la palla a Serena dicendo che io vivo da sempre con una madre che fa l'avvocato e quindi diciamo sento ribollire lo stomaco di fronte a a certi discorsi perché insomma la 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 questione dalla dall'altra parte dalla parte del 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 diritto di difesa insomma è è bella complicata comunque lascio la parola a Serena anche perché ho perso tantissime tantissime battute di Axel quindi non non vorrei insomma tornare su questioni che ha già affrontato se l'hai sentito meglio insomma ti lascio la parola subito io se no ho avuto le stesse vostre le stesse vostre difficoltà ma appunto mi sto convincendo che sia una dei primi esperimenti Axel di giudice Robo visto che potrebbe essere una delle prime ipotesi di amministrazione pubblica diciamo tramite tramite intelligenze artificiali però in realtà la fase 2 sulla giustizia secondo me è una delle fasi più semplici rispetto a molti altri settori è molto semplice nulla è semplice in questa situazione per carità però immaginare una fase 2 per il settore per l'amministrazione della giustizia la mia impressione è che sia più semplice rispetto ad altri settori per due motivi il primo motivo è che in buona parte soprattutto per il settore civile già il processo telematico avrebbe dovuto essere completamente a regime laddove non lo è è perché il giudice vuole continuare ad avere la copia cartacea oltre a quella elettronica però dal punto di vista degli atti non delle udienze ma dal punto di vista degli atti c'è già ormai dal punto di vista normativo una completa telematizzazione e quindi si parte già non servono regole nuove diverso è sulle udienze e qui capisco diciamo capisco le esigenze di sicurezza e di praticità da un lato ma anche quelle che sollevano gli avvocati cioè di avere comunque la possibilità di un incontro di un'udienza fisicamente tenuta anche perché il giudice trae dal comportamento delle parti le sue valutazioni il comportamento che non è soltanto quello verbale ovviamente fa parte del del kit di valuta attraverso il quale poi il giudice ha si fa le sue valutazioni e le sue idee quindi capisco che sono cose insostituibili in buona parte però qui vengo al secondo punto quindi se da un lato sugli atti e probabilmente anche su molti incontri che non siano udienze diciamo necessarie come ascoltare un test oppure diciamo altre udienze soprattutto nel penale si può già andare con procedure telematiche l'altra questione è laddove non si può che cosa si può fare e qui ancora una volta io sono sempre un po' fissata che le difficoltà della fase 2 sono di due tipi o logistiche oppure normative cioè o logistiche perché si tratta di settori che vivono della fisicità o per esempio il cinema o i ristoranti e vivono anche dell'assembramento oppure normative nel senso che bisogna aspettare tutto il tempo che il legislatore governo o parlamento prende i suoi provvedimenti e vengano capiti vengano compresi interpretati qui non c'è bisogno di tutto questo perché i presidenti dei tribunali e i giudici possono organizzare i loro tribunali e anzi hanno l'occasione per farlo come mai non hanno fatto cioè io mi auguro che almeno da questa esperienza finiremo di vedere quelle cose esteticamente direbbe Lucrezia esteticamente bruttissime come l'affollamento degli avvocati la mattina presto in attesa che il cancelliere ti lanci i fascicoli e tu sbraiti davanti al giudice per avere per avere udienza questo qui non era necessario prima non è necessario ora è sufficiente quello che si fa in qualsiasi ospedale o in qualsiasi sistema aziendale cioè una organizzazione dei tempi che ripeto è nelle disponibilità del presidente del tribunale e dei giudici si può fare molto più facilmente che non in altri settori allora noi con la scaletta siamo arrivati alla fine della sezione della giustizia quindi ringrazierei Serena insomma com'è giustizia è fatta giustizia è fatta peraltro Serena dicono guardate Serena come va a briglia sciolta senza dover badare da mente stagnaro mi ha fatto molto molto ridere molto ridere bello bello date spazio a Serena un abbraccio so che verranno dopo di me sì assolutamente arrivano si si sono infilati cosa vuoi farci specialmente quella ah non lo posso neanche dire perché lui ride se lo chiamo così però siccome l'hanno l'hanno minacciato l'hanno minacciato che è stato minacciato di quarella su twitter perché ha detto buddana diciamo che l'accento siciliano non ti viene è diventato un altro meme dopo quando rimane Carlo glielo faccio dire lui è un terroncello doc e lo sa fare bene quindi io ringrazio moltissimo Serena ed Axel per aver partecipato a questa diretta e buona continuazione grazie a voi ciao grazie abbiamo il pubblico impaziente che ci stanno controllando ciao Axel ti ringrazio hai visto hai visto li ho educati ad essere più più stringenti di me siamo in defetto orario sono il 17 e 41 puttali via 41 allora aspetta faccio un bel kick scusa Axel scusa Axel mi sento un po' come mi sono sentito un po' come in 2001 ho kickato Axel 9000 ciao Axel è stato un bel momento bene allora adesso diamo il benvenuto a Fabio Scacciavillani e Alberto Forchielli bentornati e ovviamente benvenuti sul vostro canale anche visto che siamo sul vostro canale ecco sì ciao a tutti ciao a tutti ciao ciao bentrovati bentrovati e come l'altra volta grazie per ospitare questa questa maratona anche su Inglourious Globusters e vedo che la chat era molto impaziente di avervi qua quindi ci siamo ci siamo ci siamo bene allora beh se c'è bisogno di una presentazione direi no no insomma quindi però va bene possiamo ripresentare ripresentare formalmente di nuovo no bene lo fai tu faccio io lo 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 faccio io presentatevi da soli mi sembra che non abbiate bisogno del presentatore no oddio c'è una richiesta c'è uno che ha letto la camicia aperta eh io lo dico l'ho appena letto anzi sono due ne ha letto ben due stiamo sforando stiamo sforando presentatevi presentatevi in due parole poi passiamo subito al dibattito io sono un giocatore internazionale mi occupo di tupo, verdura e riccate a richiesta perfetto il mercato c'è il mercato tira oggi più che mai il mercato tira sì sì il mercato tira più di un paio di voi sì più di un paio di voi quasi come Fabio adesso farei fatica a pareggiare questa presentazione io no lo so io più modestamente mi sono riciclato così prendendo questi bonus per la riconversione industriale produco mascherine è un momento sbagliato disastro lo dici mascherine sotto costo sotto prezzo o sovra prezzo da che cazzo di parte deve andare eh guardate io no io ero socio della Pivetti quindi così abbiamo provato questa truffa però non è andata bene no smettetela perché qua ci prendono sul serio di odio di odio bisogna trovare un altro perché è quello della Pivetti che ha fatto come dire si è sbagliata anche lei quei calcoli come fanno sempre in Italia malgrado sia la più sobria del gruppo non ho idea di come riportare l'ordine quindi Rick tocca a te io impossibile solo che i cocktail non sono visibili ma ci sono a questo punto ci sono riporto io l'ordine ragazzi come secondo voi quanto è andato a quel paese il commercio estero e come riprende leggo che in Cina hanno grossi difficoltà hanno detto di tutti andare a lavorare ma intanto nessuno vuole comprare un cazzo e metà dell'aggetto non vuole neanche andare a lavorare l'ho fatta come dire mi ha riportato l'ordine militarizzato l'ho anche semplificata però loro mi capiscono l'export soffre Michele perché i principali mercati di export sono chiusi sono chiusi i distributori sono chiusi i negozi ha dei problemi la logistica molte aziende chiudono quindi la catena quindi l'export dunque in aprile la mia ceramica la nostra ceramica ha fatto il 46% del budget per darvi un'idea e si ritiene si è andato bene perché il settore ceramico mediamente avrebbe fatto il 25% del budget tu capisci che non c'è ceramica che non è in crisi di liquidità è vero ha fatto 47% quelle dei bar ha fatto zero quindi il divide in line non è tra export e domestico ma è tra alimentare farmaceutico e tutti gli altri e online scusate tutti i servizi online per carità e tutti gli altri il manifatturiero è alimentare però poi quello che va verso la gara di distribuzione noi abbiamo un'azienda che fa caffè i bar sono chiusi quindi l'azienda è a zero un'altra che fa capsule di caffè invece vende la GDO fa meglio perché io mi compro le capsule di caffè ti fanno un attimo però vado a farmi il caffè con la capsula ma globalmente il problema ok italiano ci sono i crolli di domanda cioè tutti i servizi lo sappiamo è andato quindi il problema è riuscire a capire lo faccio tutti e due se c'è un rebound scusate fado un po' tecnico durables per chi ci ascolta ci sono delle robe che durano cioè il caffè non dura effettivamente te lo bevi è anche rapido se non diventa freddo la maglietta vabbè appena aprono i negozi abbigliamento a pezzi abbigliamento a pezzi anche anche le previsioni di test in abbigliamento anche medio termine a pezzi Fabio guarda sì Michele voglio per quello che riguarda i beni durevoli vi posso portare l'esperienza diretta sul campo come funzionano le catene del valore allora un'azienda che è inserita nella catena di beni durevoli per esempio white goods o autoveicoli questa azienda tipicamente ha due o tre stabilimenti spesso anche di più quattro o cinque che possono essere vi parlo di un caso che conosco bene perché ero nel consiglio di amministrazione ha stabilimenti dal Marocco alla Serbia dalla Polonia all'Italia dalla Spagna magari alla Germania allora come viene gestita questa azienda questa azienda ottimizza la produzione su tutti gli stabilimenti che ha sparsi per il mondo insomma dove che sia siccome ci sarà un bel po' di capacità inutilizzata c'è una competizione all'interno di questa multinazionale degli stabilimenti di ciascuna diciamo in ciascun paese per accaparrarsi la produzione e che cosa succederà che il management di questa diciamo il top management di questa azienda farà delle scelte cioè andrà ad allocare la produzione laddove le condizioni sono migliori quindi dal punto di vista sanitario dal punto di vista logistico dal punto di vista della capacità di gestire l'epidemia dal punto di vista delle legislazioni sul lavoro dal punto di vista insomma tutto questo significa che chi reagisce meglio i paesi che reagiscono meglio all'emergenza si accaparreranno la produzione dei paesi che non sono in grado di reagire quindi questo a livello globale ci sarà un nuovo fattore competitivo che dipende proprio dalla reazione che ciascuna ciascun paese che le autorità di ciascun paese saranno in grado di mettere in piedi data la situazione di emergenza quindi quando noi parliamo di ripartenza la ripartenza non è un concetto che può essere applicato in astratto all'Italia e isolato dal resto del mondo perché proprio significa non aver capito in che mondo viviamo la ripartenza deve essere tarata sulle condizioni che esistono nei paesi più o meno diciamo così con cui noi abbiamo delle relazioni economiche oppure con cui noi facciamo affari altrimenti veniamo tagliati fuori e una volta che tu sei tagliato fuori che ad esempio la multinazionale decide che l'Italia non è un paese affidabile per la produzione multinazionale italiana e non la multinazionale della Germania cattifa o degli americani multinazionale buona vuol dire non una cattiva diciamo una multinazionale buona l'Italia è buona verso l'Italia quella italiana è buona la multinazionale italiana sapete che fa mette in cassa integrazione gli operai quindi approfitta della generosità del dello Stato e trasferisce la ciccia per parlarci chiaro altrove e questo fenomeno per esempio non viene proprio assolutamente discusso messo in luce affrontato nel dibattito pubblico nel dibattito di politica economica Alberto Concordi vorrei che Fabio andasse avanti ossia in effetti che il sistema paese vinca purtroppo è così ossia i paesi più organizzati che riescono a sostenere meglio le buove imprese usciranno da questa crisi in modo più efficace non c'è dubbio sul ecco per quanto diceva Fabio però tutti i paesi hanno portato avanti i sistemi di sostegno all'employment non è che noi abbiamo fatto cose che gli altri non hanno fatto per toccare questo punto qui quindi vorrei capire meglio cosa vuoi dire no no dico che appunto laddove voglio dire al di là del fatto che altri paesi anzi hanno fatto hanno messo in piedi dei sistemi diciamo così di supporto anche più efficaci dei nostri però se tu hai una capacità inutilizzata a livello di gruppo multinazionale che cosa fai? la sposti la produzione dove hai le condizioni migliori e utilizzi queste forme di supporto pubblico per attenuare diciamo così l'impatto sociale le beghe con i sindacati le reazioni delle maestranze e tutto il resto e quindi che cosa fai? in realtà la cassa integrazione in Italia va a sussidiare la produzione in Polonia faccio per dire se non ci sono condizioni tali per cui l'Italia lo stabilimento italiano possa competere con gli analoghi nei paesi che ripeto vanno dal Marocco alla Turchia dalla Svezia dalla Svezia alla Serbia e questo poi si traduce anche a livello diciamo di fornitori perché il fornitore che ti deve mandare la materia prima se sa che in Italia la situazione non è particolarmente terosea avrà maggiore riluttanza a darti la materia prima e a farti credito perché se sa che le banche in Italia ci mettono quattro mesi per fornire liquidità beh chi ti deve vendere la materia prima comincia a chiedersi ma questo mio cliente italiano che ha dovuto chiudere per tre mesi che avrà una crisi di liquidità abbastanza seria ma fra tre mesi quando diciamo così mi deve mandare l'assegno è in grado di mandarmelo sì o no quindi tutta questa diciamo così il la strategia dell'amore bancario propugnata da Conte non è l'ideale cioè i soldi devono andare dentro i conti correnti altrimenti chi ti deve fare credito non te lo fa molto semplice e di nuovo noi siamo incastonati in un sistema globale dove tutti questi elementi vengono valutati con maniacale attenzione perché è una questione di sopravvivenza quindi se la Borealis si deve mandare le materie plastiche con cui poi fai per dire le componenti dell'interno delle autovetture ci pensa dodici volte prima di mandarla a qualche uno che non ha il supporto del suo sistema paese che non ha il supporto delle banche e quindi se la Germania dà supporto a fondo perduto o concede crediti a 50 anni con lo 0,50 di interesse e in Italia ancora stiamo a cincistiare sulle otto pagine di autocertificazione per avere i 25 mila euro capite bene che la faccenda rischia di trasformarsi in tragedia sentite faccio una domanda che un po' esula dalla scaletta ma visto che abbiamo parlato comunque di rapporti internazionali io credo che ci sia un timore e voi che avete un po' il posto della situazione a livello internazionale forse potete darci qualche spunto nella storia è successo molto spesso che squilibri commerciali causati da crisi poi si tramutassero in altri tipi di squilibri decisamente molto più preoccupanti che però sono inevitabilmente conseguenza di quegli squilibri allora vi chiedo secondo voi la situazione che stiamo vivendo se gestita a livello internazionale comunque dalle varie nazioni nel modo in cui lo stiamo gestendo quindi creando comunque uno squilibrio economico forte potrebbe portare a dei non dico dei conflitti però comunque a dei prodromi di eventuali conflitti secondo voi ma parli di conflitti armati o di conflitti diciamo che non direttamente armati però a conflitti diplomatici cioè nel senso che si traduca a questi tipi esatto geopolitici le relazioni sino-americane sono molto deteriorate poi c'è un effetto naturalmente siccome la maggior parte della maggioranza della secondo le poll 62% degli americani vede negativamente la Cina quindi Trump vuole cavalcare questo naturalmente peggiorando il rapporto vi posso fare una domanda così per raggiungerla a quella di Rick perché di economia insomma c'è già Michele Boldrin non mi avventuro in domande però vorrevo aggiungere su questo un'ulteriore riflessione su questi due schieramenti che mi sembrano simili a guerre stellari cioè il senato e l'impero dove appunto Trump fa una dichiarazione la Cina manda i giornalisti americani fuori dal confine ma si contrappongono anche due modelli ora in Italia si è tanto parlato di questo al di là della questione economica cioè gestione del virus e sistema non solo economico ma anche governativo cioè la democrazia è invece un regime che riesce a controllarlo di più cioè state notando anche voi nel dibattito economico ovviamente non nel dibattito economico però nell'immaginario anche questa questione cioè per fronteggiare la pandemia c'è bisogno di uno Stato di altro tipo uno Stato forte forse uno Stato è un governo diverso da quelli un po' blandi della nostra parte del mondo può fronteggiare meglio questa situazione oppure insomma è soltanto un discorso che sta circolando per dire forse l'impero è più forte rispetto al Senato di fronte al problema virus sapevo che prima o poi avresti tirato fuori Star Wars Lucrezia lo sapevo lo butta da là infatti però non stanno confermando questa tesi circolava questa tesi però poi i paesi democratici hanno dimostrato di sapere agire alla crisi vedi la Corea del Sud piuttosto che il Canada cioè i paesi democratici o l'Australia hanno dimostrato di sapere gestire questa crisi in modo imponendo divieti che equivalgono a quelli cinesi senza però avere i cinesi avevano tutta la struttura di controllo di quartiere di controllo del partito e quella è una roba che ti dà un vantaggio incredibile però per esempio i cinesi hanno pagati perché sono partiti tardi sulla crisi c'è stata molta menzogna all'interno del sistema non sono riusciti a dirci la verità invece noi siamo riusciti a partire appena è arrivato che il contagio siamo partiti prima non abbiamo perso tanto tempo per cui anch'io pensavo che i risultati avrebbero dato avrebbero fatto emergere il ruolo dello Stato autoritario però così non è in Russia sembra che le cose fattano molto male per esempio in Italia non so se tutti sono conti fai conti che loro sono partiti in ritardo considerato che il primo mese magari il 23 dicembre potevano accorgersene l'hanno ammesso il 31 cioè loro sono partiti 20 giorni dopo e noi lo stesso ma allora io vi posso dire sì comunque comunque vai vai Alberto quello che conta è che non è emerso questa prevalenza del sistema autoritario del sistema democratico ecco no no quello no anzi direi che i sistemi più democratici io continuo a pensare che chi fa meglio stiano in questo momento siano letteralmente gli svedesi e quel pezzo d'America che se la sta gestendo senza cadere nelle isterie new yorkine e mi sembra che se la stiano gestendo alla faccia di tutte le chiacchiere italiane con una relativa tranquillità quindi quindi ma io vi voglio aggiungere una cosa perché insomma ho avuto la possibilità di vedere come funzionano i sistemi autoritari l'ho visto dall'interno sistema autoritario non è che uno si sveglia la mattina decide e tutti seguono anche il sistema autoritario ha delle procedure e dei pesi e contrappesi non sono i pesi e contrappesi di Montesquieu però il sultano dell'Homan non è che decide e tutti seguono deve comunque eh tener conto di tutta una serie di interessi spesso contrapposti che vengono veicolati non attraverso i partiti politici ma vengono veicolati per esempio attraverso porti tribali nella Cina comunista questo avviene attraverso le lotte tra le varie fazioni che poi possono essere fazioni politiche fazioni territoriali o di diciamo corporative diremmo noi con linguaggio del ventennio quindi la realtà vera è che quello che conta è come poi viene organizzato lo Stato come viene organizzato l'apparato pubblico e non è detto che il sistema autoritario sia meno casinista di quello eh che noi definiamo democratico quindi sono diciamo così è una questione empirica più che una questione di classificazione no io lo dicevo anche perché l'innamoramento eh lo vedo sia a livello di discorso pubblico che di politiche economiche in Italia certo una cosa è la realtà no una cosa è eh Singapore come lo definiamo definiamo autoritario o democratico per esempio autoritario però è ben organizzato e ha avuto una risposta probabilmente migliore di parecchi paesi democratici viceversa come diceva Michele la Svezia la Germania secondo me eh persino la Grecia no hanno avuto dei tipi di eh reazioni migliori che l'Iran ecco quindi secondo me non farei questa il diciamo l'asse eh autoritarismo efficacia democrazia lungaggine inefficienza secondo me non è vero semplicemente no quindi qual è la discrimine secondo secondo voi cioè nel senso io condivido appieno questo questo discorso un paese ben gestito con un sistema pubblico di livello è un paese con un sistema pubblico lo sfascio esatto questa cosa si può avere tanto in una democrazia quanto in un in un in un regime autoritario l'Iran è autoritario ma un sistema pubblico lo sfascio immagino esatto esatto qual è il ruolo secondo voi dei delle grandi multinazionali in quello che sta succedendo perché adesso ci siamo concentrati su sul punto dei governi ok però ovviamente viviamo in un'epoca in cui i governi sono controbilanciati dall'esistenza comunque di poteri economici che sono extra governativi e allora sia dal punto di vista dell'azione su di sé non so mi viene in mente amazon quello che ha fatto all'interno delle sue strutture ma possiamo fare mille esempi qual è il ruolo perché tanti cominciano a vedere che questa crisi potrebbe essere il momento o di enorme crisi anche di un sistema produttivo di larga scala oppure potrebbe essere il momento in cui questi sistemi produttivi trovano il loro il loro trionfo diciamo così portando comunque ad una ad un livello anche nella produttività eccetera eccetera che riesca ad ovviare proprio alle mancanze del sistema politico e pubblico non c'è stato l'inno non c'è stato nell'inno all'efficienza e alla capacità di risposta delle multinazionali ma non c'è stata neanche la loro condanna sono uscito abbastanza ammaccate abbastanza abbastanza inutili in tutto questo non è che hanno fatto sentire il loro peso hanno accusato molto i danni e non hanno fatto sentire un imprint di reazione abbastanza forte non è che abbiamo visto l'unilever piuttosto che la genova electric insegnare al mondo come si fanno certe cose o dare degli esempi di buona gestione invece chi è venuto fuori forte sono sono i Bill Gates per esempio i signori privati filantropi che finanziano la ricerca ma lì sono il momento Bill Gates che è uscito molto molto forte da questa vicenda tanti altri filantropi che si che si sono collegati con i professori che spingono per tutto questo discorso del vaccino quindi più individualità diciamo così secondo te Alberto sì ma io diciamo così mi ricollego a quello che dicevo prima le multinazionali saranno determinanti nel modo nell'allocare la ripartenza e faccio faccio un esempio quando qualcuno dovrà decidere in che paese produrre non guarderà soltanto alla situazione attuale ma cercherà di farsi un'opinione e quindi di creare delle aspettative su cosa succederà nei prossimi sei mesi 18 mesi fin quando non arriva un vaccino e allora che cosa andrà a guardare andrà a guardare se il paese è isterico perché sicuramente ci saranno degli altri focolai sicuramente ci saranno delle ripartenze dei contagi questo ce lo dobbiamo mettere in testa probabilmente non saranno così virulenti come quelli del primo impatto però succederanno quindi la capacità di reagire a questi nuovi effetti a queste nuove riprese del contagio sono un elemento cruciale che verrà analizzato dalle multinazionali e dai gruppi cross border per decidere quali aree del pianeta privilegiare o penalizzare nelle loro strategie da questo punto di vista la Cina è un paese che viene penalizzato perché la segretezza sui contagi la scarsa trasparenza e tutto il resto diventano un fattore di rischio i paesi che invece hanno mantenuto un atteggiamento serio hanno impostato la risposta in modo efficiente quando c'è stato la seconda ondata e stiamo parlando di casi tipo Singapore hanno di nuovo affrontato l'emergenza con un atteggiamento responsabile e non psicotico e quindi ripeto tutto questo diciamo le multinazionali saranno un po' il veicolo o comunque la struttura attraverso cui l'economia globale si trasformerà in reazione e in conseguenza di questa pandemia quindi saranno loro facendo la domanda da economista voi questa la state facendo proprio come previsione che ci saranno dei nuovi contagi oppure che le multinazionali saranno il veicolo la chiave che ci sia che ci voglia che ci sia nuovi contagi non c'è dubbio alcuno quanti quanti dipenderà da comportamenti mille cose ma che insomma questo qua non è SARS 1 o Ebola è lateralmente quello che abbiamo detto dal giorno 1 insomma quando mi ricordo dal giorno 30 gennaio vabbè no no la mia domanda molto precisa cioè che ci sia questo non c'è dubbio che questo implichi sia ridefinizioni di tecnologie interne vabbè questo abbiamo parlato con tanti altri quindi sul piano globale che è quello che mi interessa sentire da voi due che possa creare ulteriori tensioni fra paesi come Alberto diceva a Cina Stati Uniti nessun dubbio anche se Xi Jinping ci sta giocando sempre più pesante per concentrare il potere l'ha giocata molto bene dal punto di vista suo non so se l'ha giocata molto bene per il paese vedremo sì quello è in chiaro che i criteri della riallocazione mondiale del lavoro o di quello che molti chiamano the chain of value per fare i figli siano questi che state dicendo e cioè da un lato Alberto sottolineava come dire reliability e un response perlomeno trasparente eccessivamente autoritario come quello che ha avuto la Cina in quei due mesi e tu sottolineavi beh insomma vado a produrre laddove c'è un ambiente che me lo permette e dove il rischio di essere infilato in un contagio in una mala gestione del contagio è bassa non so se ho capito bene ma l'ho messa molto bene per stare breve ok esattamente voglio dire se riparte il contagio non lo so in provincia di X non voglio fare il nome di città e per questa ripartenza chiudono tutto a tutto il paese chiaramente tu non vuoi trovarti da produttore ad avere a che fare con una situazione del genere vuoi che il focolaio nella provincia X venga affrontato magari facendo la zona rossa nella provincia X e Razzolo volevo fare una valutazione prego se io ho aperto che Michele è scettico su questo no sono onesto tu sai che io dico è che proprio non lo so è una delle questioni che mi sto chiedendo è un po' esegnale posso darti un'altra ipotesi Alberto così dopo mi dite cosa stai pensato sto anche pensando a una forma di globalizzazione segmentizzata segmentata che cazzo ho detto segmentizzata non parlo più italiano segmentata e cioè invece di giocare su tutto dappertutto e vedo facciamo aree sì la globalizzazione non è che il covid sposti poi tantissimo capito però c'era già un retrenchment della globalizzazione da alcuni anni ma i fattori sono tanti sono aumento di costo in Cina sono il just in time il customization dei prodotti che richiede delle catene più corte poi questo fatto del covid ha fatto ha traumatizzato l'impresa perché per la prima volta non sono riuscite di fornirsi che era un problema che pensavano di aver accantonato per sempre quindi ci può essere un ulteriore accelerazione in questo processo diciamo di regionalizzazione della globalizzazione dove si avvicinano le fonti si distribuiscono di più si creano delle ridondancies però io non voglio esagerare troppo su questo punto io non voglio dare l'impressione che si crei un'altra globalizzazione perché non è così ma anche perché io mi sento di aggiungere una cosa è un po' il pensiero che era andato di moda circa dieci anni fa il cosiddetto glocal cioè nel senso la globalizzazione però segmentata a glocalismo chiamato così tanti filosofi sono riempiti la bocca per anni che tu giochi su diversi mercati però ti adatti ai diversi mercati e allora questo è diverso ok come dice glocal è la capacità di un'azienda di sapere essere cinese in Cina america in America europee in Europa come Starbucks come Starbucks sì però però non avremo né un ritrencio della globalizzazione né una globalizzazione tanto così diversa ecco questo che non vorrei esagerare molto da questo punto di vista quello che è l'analisi vostra allora quello che gira in Italia è veramente suicida nel senso che è una decisione di andare completamente fuori no cioè l'atteggiamento italiano oggi dominante è visto riscopriamo almeno a livello politico ma anche di opinione pubblica vedremo come le aziende reagiscono vedremo come l'imprenditoria reagisce al momento li vedo in grande difficoltà li vedo succubi li vedo paurosi li vedo silenziosi la politica l'editorialistica i virologi i medici e gli Armageddon i profetti dell'Armageddon dicono hai visto un po' più di autocrazia basta globalizzazione qua lo Stato deve intervenire occorre ridefinire l'economia fra diventare verde pisello le poesie italiane però Alberto mi sembra roba che vogliono fare seriamente ci sta andando da fare mettiamola così si certo ci sta andando seriamente da fare assolutamente ma questi stanno portando il paese verso il baratro tranquillamente cioè lo possiamo affermare se questi poi che quella sia la direzione non c'è dubbio se si riesce a frenare prima di aver superato l'orlo del precipizio è da vedere perché non più tardi di settembre si capirà che l'economia non ha più forza di reagire che tutte le misure prese per fronteggiare il disastro sono cartucce bagnate per non dire assalve Fabio dimmi chiaramente non so se il corso della maratona viene fuori ma Fabio io abbiamo guardato con molta attenzione ai programmi di liquidità per le aziende e siamo convinti che sia una supercassa ma pazzesca questo questo viene fuori non so se però però lasciamo la verbale vai avanti Fabio sì sì mi aggiungo e sottoscrivo il verbale chi ascoltava prima l'ho anche detto il risposto ad un ascoltatore ha detto guarda sta roba della liquidità cioè ma avete anche rotto il cazzo ecco per imparare il problema non è la liquidità liquidità insomma sì vabbè il bar soffre dalla liquidità effettivamente il bar marginale Michele si dice mi avete rotto il pisello verde ricordati ormai cioè nel senso non si dicono queste parolacce non si dicono queste parolacce va bene boh bravo ok no io a questa cosa che avete detto aggiungo solo un'ultima postilla e voglio farvi finire però perché ho interrotto Alberto era solo per dire che ci sottoscrivevo secondo voi il problema è rigarantire le condizioni per la produzione perché il resto del mondo quello sta cercando di fare sì il resto del mondo lo sta facendo in misura più efficace della nostra e insieme a questo sì sì ma non funziona perché non funziona il sistema il sistema delle banche ma non voglio rubare tempo a questo volevo lasciare a verbale questa roba qui perché come sottointeso è tutto quello che Fabio dice che le nostre imprese usciranno molto malandate perché non avranno nessun tipo di supporto non l'ha mai esplicitato ma è bene che rimanga in questa maratona nel caso in cui qualcun altro non lo dica gli economisti non l'avevano previsto no il discorso comunque è ripeto che la globalizzazione avrà delle caratteristiche diverse verrà riassemblata sulla falsa riga sulla falsa riga seguendo quali sono state le misure di reazione alla pandemia e quindi siccome poi nelle catene del valore globale sono i contratti a lungo termine che definiscono chi guadagna e chi perde perché a chi è bravo tu dai il contratto per produrre dieci anni a chi è meno bravo gli dai l'osso per tenerlo in vita e poi se non ti serve gli dici caro mio sai ho trovato qualche di un altro che è più bravo ho dato da lavorare per un mese e il mese prossimo ti arrangi e quindi c'è anche tutta una scala diciamo così di qualità e una scala di affidabilità all'interno di queste catene globali e questa affidabilità se vogliamo insomma riassumere in una frase dipende dall'affidabilità di un'azienda dipende in modo cruciale dall'affidabilità del sistema paese credo che ci siamo qui in chat continuano a ripetere scaletta 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 veramente abbiamo creato un mostro Michele un mostro la nostra chat è diventata un mostro stavo dicendo adesso salutiamo Alberto e Fabio andiamo avanti mamma mia sono così sono così ormai abbiamo questo tipo di nomine dal globale al locale passiamo dal mondo alla scuola italiana esatto grazie mille Alberto Forchielli e Fabio Scacciavillani grazie mille veramente ciao ciao alla prossima alla prossima ok ok quindi adesso noi abbiamo abbiamo Francesco Luccisano e Massimo Famularo e abbiamo in waiting list proprio Francesco e benvenuto Francesco ciao buonasera a tutti buonasera e benvenuto benvenuto sei molto conosciuto lasciamo che Francesco si presenti finché Massimo è in ritardo o cosa Massimo non lo vedo ancora mamma mia glielo ho messo su whatsapp sembra non averlo ricevuto nemmeno forse il telefono fammi adesso me ne sono accorto scusami scusami che gli rinvio tanto vai vai mi dicono che hai provato a parlare ma c'hai il microfono mute comunque è l'ora della birra sono d'accordissimo ho da prendere anch'io siccome ho visto qualcuno che si lamentava ho colmato il gender gap e ho preso anche io la birra perché non voglio essere da meno voglio stare sul pezzo giustissimo voglio stare sul pezzo quindi mi adoro a questo abbiamo forato la metà della live siamo alle 18.22 siamo 4 ore e 20 quindi ormai è tutto in discesa con la cosa finché Francesco si presenta io vado a diventare quella famosa stanza dove si vada soli e ritorno la palestra giusto faccio spesso questo effetto specie agli insegnanti allora Francesco se vuoi presentarti al pubblico chi sei e che cosa fai Francesco Lucisano io lavoro in azienda sono manager d'azienda ma in passato mi sono occupato di istruzione perché sono stato a capo della segreteria tecnica del ministero dell'istruzione per qualche anno e da un po' ho lanciato questo gruppo di pensiero che si chiama allavoro.eu che spera di dimostrare che in un'epoca di reddito di cittadinanza e di paesi che si fermano può esistere una repubblica fondata sul lavoro con gli amici di Liberi oltre ci conosciamo perché abbiamo fatto quasi tutte le giornate insieme quella a Pologno quella a Venezia una frequentazione abbastanza intensa molto bene molto bene quindi benvenuto e benvenuto qui fra noi in questa folle maratona ed è entrato anche Massimo Famularo eccolo benvenuto Massimo a tutti buonasera ciao ciao buonasera si ti sentiamo molto bene come stai tutto bene? tutto a posto grazie perfetto come al solito sì sì infatti isolati isolati e allora visto che Francesco si è appena presentato se vuoi dire due parole di presentazione di te stesso al pubblico prego grazie mille cerco di essere velocissimo io affitto e bollette li pago essenzialmente facendo l'investment manager quindi mi occupo di supportare investitori istituzionali però ho un'identità segreta da blogger e divulgatore con cui ho anche un po' di rubriche su Liberi ed Oltre nel quale mi occupo appunto di divulgazione sia economica che politica e di capitale umano come ad esempio diciamo con riferimento alla scuola italiana per questo dibattito grazie bene bene allora benvenuti a entrambi Michele è andato nella stanza è andato in palestra abbiamo capito insomma adesso fa un paio di esercizi e poi e poi torna allora sul discorso istruzione ci sono tanti tante cose che possiamo aprire però visto che ne ho parlato anche nel mio podcast di questa mattina discutendone con con un insegnante ho fatto un sondaggio con più di duemila partecipanti in cui fondamentalmente ho cercato di capire la validità e la credibilità della proposta avanzata da tante compagini soprattutto studentesche di abolizione dell'esame di maturità ovviamente gli studenti hanno perso quasi quattro mesi di studio se teniamo conto dall'inizio del lockdown alla fine del lockdown quindi tutto quanto e c'è c'è una qualcerta paura c'è una qualcerta paura e allora chiedo a voi come vedete questo tipo di proposta questo tipo di visione attualmente beh scusate qui siamo proprio questo è uno dei light motive che abbiamo portato avanti con gli incontri liberi oltre ben prima del covid io sono convinto che l'esame di maturità abbia delle enormi problematiche indipendentemente dal lockdown per vari motivi e poi vediamo il covid primo perché è una forma di valutazione che non risponde in nulla a una standardizzazione cioè si propone come un test standardizzato e invece poi ha dei riscontri completamente diversi le scuole con gli invalsi più bassi hanno più 100 e quindi non è assolutamente utile per valutare e per equiparare gli apprendimenti in seconda battuta l'esame di maturità praticamente prende in ostaggio l'ultimo anno di scuola superiore impedisce di fare i programmi in maniera giusta obbliga a fare un ultimo anno in cui largamente ci si forma per il test e non per i contenuti e quindi è una forma che non aiuta abbiamo detto più volte come anche negli incontri liberi oltre che molto più utile sarebbe avere un test molto più piccolo molto più leggero standardizzato fatto al computer tipo un test in valsi fatto all'ultimo anno che serve per vedere come vanno le scuole italiane alla fine perché invece bisogna fidarsi della valutazione che fanno gli insegnanti gli insegnanti ti valutano per 13 anni per quanto dura un ciclo scolastico e poi alla fine devi inventare un esame finale diverso che lascia da parte tutta la valutazione fatta e ci scrive sopra ciò detto come andrà come andata andrà esattamente al contrario nel senso che le scuole sono tutte chiuse ci sono quasi un milione di ragazzi che non hanno voluto fare didattica a distanza eppure tutta l'attenzione politica tutta l'attenzione mediatica tutta l'attenzione sul mondo della scuola come sempre è sull'esame di maturità e oggi ci sono una parte di politici che si compiace perché si è raggiunto questo grande risultato che l'esame di maturità almeno l'orale si potrà fare dal vivo come se questo fosse qualcosa che cambierà alcunché nella storia accademica di 8 milioni di ragazzi che hanno perso un sacco di mesi e un sacco di mesi perderanno ora lo sappiamo che molti a questo argomento rispondono ma no ma l'esame di maturità è un rito di passaggio importante è un modo di mettere i ragazzi di fronte alla propria responsabilità per la prima volta fine ok ci piace ci piace perché ci ricordiamo di quando avevamo 18 anni quando avevamo 18 anni eravamo giovani più magri innamorati ci emozionavamo molto di più eccetera ma non si costruisce un sistema scolastico sulla base Lucrezia ha ancora 18 anni ma infatti lei non lo vuole infatti sono molto in disaccordo lo so questa è una battaglia solitaria e quindi sostanzialmente detto tra noi io mi concentrerei molto di più sul cosa far fare ai ragazzi ai bimbi più giochi più piccoli tra gli 0 ai 6 anni piuttosto che a cervellarmi su come aprire la scuola per far fare l'orale della maturità ai ragazzi quest'anno Massimo tu cosa ne pensi sulla maturità e sull'abolizione della maturità direi che sarebbe una bestemmia aggiungere qualcosa a quello che ha detto Francesco perché è il suo cavallo di battaglia anche come ministro liberi e oltre e in realtà già che aboliamo la maturità io coglierei l'occasione per provare a fare di necessità virtù e ragionare su una riapertura delle scuole quindi diciamo su rimandiamo ai ragazzi fisicamente ripensando un po' la didattica un po' come anche da un punto di vista dell'organizzazione del lavoro si è fatto cioè noi abbiamo questa cosa tradizionale dell'insegnante che dà il messaggio orizzontale fa i compiti proviamo a immaginare in via costruttiva una riapertura che fa in modo che le risorse dell'insegnante vengano concentrate sugli studenti più bisognosi attenzione perché in una classe tu avrai sempre la curva a campana hai la coda smart di quelli che hanno i genitori con i libri che vanno da soli questi qui gli fai vedere le lezioni a casa gli stimoli magari ad andare oltre i limiti ma non hanno bisogno hai invece la coda povera hai quelli che non hanno internet a casa che sono in dieci in una stanza quelli lì hanno maggior bisogno del docente di necessità virtù perché? perché abbiamo capito che si può fare la lezione online allora abbiamo capito che si può allocare l'energia degli insegnanti in maniera più intelligente e in maniera più efficace e di usare quella che è la lezione orizzontale è uno spreco tenere 30 ragazzi in classe la lezione orizzontale se la guardano in video la regista e il professore amen in classe gruppetti semplici concentriamo le risorse sugli studenti più bisognosi e soprattutto come posso dire facciamo in modo che ci sia qualcosa di nuovo di moderno questa potrebbe essere diciamo un'idea non so se ho detto bestemmio o altro ma io mi trovo un po' in difficoltà perché sono molto in disaccordo però sicuramente quindi quindi non non voglio dai attacca insiste troppo su questo no la domanda che vorrei farvi allora la questione esame di maturità poi magari interviene anche Rick su questo che ha fatto un un'inchiesta secondo me molto interessante e i ragazzi non vedono l'ora di accettare questo discorso perché tutto di tutto hanno voglia meno che di essere valutati perché c'è una fuga dalla valutazione se non da quella dei propri insegnanti che è molto più ovattata di quella di una commissione semi esterna o esterna io invece ho l'impressione che l'istruzione passatemi il gioco di parole sia in attesa di istruzioni cioè non sappia assolutamente cosa fare si rimpalli un po' su questo sono d'accordo sulla questione dell'esame di maturità volevo volevo chiedervi qualche scenario per le soluzioni massimo proponeva questa soluzione che vedo molto problematica sulla distinzione tra i bravi fanno lezioni online quelli che hanno più difficoltà fanno lezioni in classe però insomma non so se Francesco è d'accordo su questa ipotesi e poi sulle soluzioni per i più piccoli perché lì davvero bisogna mi pare inventarsi qualcosa cioè c'è bisogno anche di immaginare uno scenario nuovo pensare di tenerti a casa è impensabile ma ecco lascio la parola a Michele che vedo che vuole aggiungere qualcosa prima di inserisco scusami Michele prima di lasciare perché sui più piccoli ovviamente luci sano probabilmente forse l'ho detta male io poi lascio a Michele chiedo scusa io non dicevo di non mandarli a scuola i bravi dicevo di avere velocità diverse cioè i bravi ci vanno uguali a scuola però se 100 è la risorsa del professore invece di distribuirla uniformemente il professore si concentra di più sui meno bravi e ai bravi ha diciamo un'attività li fa caloppare da solo cioè giusto per chiarire perché forse l'ho espressa male io però chiedo scusa e lascio Michele e poi Francesco scusate il merito il merito il merito secondo me il contrario del merito Michele usa il microfono giusto però usa il microfono giusto Michele c'hai un eco incredibile ah scusate mi sono scordato di aver spostato i microfoni andando a farmi il tè la cosa perché non riuscivo a capire cosa succedeva no no io volevo solo aggiungere una cosa alla domanda c'è un ritorno però sono io vediamo almeno io lo sentivo adesso non lo sento più volevo solo aggiungere la domanda che ha fatto Lucrezia facendo il solito che rompe la ceramica scusate stiamo parlando di scuola e quindi stiamo parlando di gruppi di età che vanno dai tre visto che siamo in Italia a 33 perché c'è i famosi fuoricorso i fuoricorso peraltro non vanno a scuola vanno solo a fare gli esami allora perché facciamo trattiamo la scuola come se fosse un ospizio bisogna tenerli a casa cioè voglio dire sì ho capito i nonni queste robe qua poi magari il professore ha 49 anni o 57 ed è sposato con uno di 63 però io l'idea che adesso all'improvviso tutto quanto è impossibile bisogna smettere di incontrarsi per carità anche l'università mia hanno messo tutto a distanza quella americana ma ci siamo anche detti tranquillamente perché perché sì Francesco è il tuo che ha un ritorno ci aspetti ci siamo detti tranquillamente perché ed è perché siamo un'università privata piena di figli di molto ricchi se solo qualcuno si prendeva qualcosa questi qua ne approfittavano e ci beccavamo la denuncia a molti miliardari infatti l'ufficio legale sta cercando di lavorare per vedere come uscirà da questa cosa perché sennò alla prossima influenza o al prossimo giro di covid le università ricche chiudono però tolto questo aspetto che è molto americano ecco volevo aggiungere questo elemento alla domanda se posso su quello che diceva Lucrezia la fuga dei dei giovani dalla valutazione no l'anno scorso per la prima volta il test invalsi all'ultimo anno è stato fatto ed era volontario l'hanno fatto tutti 96% potevano non farlo in genere i docenti in passato gli dicevano di non farlo io non penso che i giovani fugano dalla valutazione così come non penso che i giovani non leggano sono comunque la generazione che legge di più sono i loro padri sono i vei gli adulti che non leggono più libri compreso me in questo periodo di covid non riesco a leggere molto quindi bisogna sempre un po' riguardare ai giudizi e su quello che diceva Michele questo è il tema ci stavo pensando guardando quello che era lo quello studio del comitato scientifico che è stato fatto trapelare per giustificare il fatto che la scuola non sia stata riaperta mi colpiva una cosa ovviamente io non ho niente da dire di virologista non ho nulla da dire sulle malattie eccetera mi colpiva che la opzione considerata fosse scuola sì no cioè aprire non aprire allora la scuola questo bisogna ricordarselo sempre sono 8 milioni di studenti quasi un milione di insegnanti 40 mila plessi 8 mila istituzioni scolastiche cioè è una roba di una vastità complessità e sfaccettatura enorme allora tra scuola sì e scuola no in un momento in cui ci sono dei problemi giganteschi che potremmo che possiamo discutere beh si può provare a fare un pochettino più di sofisticazione si può capire per esempio che nella fascia tra 0-6 o tra 3-6 ci sono delle esigenze per esempio di contatto sociale che la didattica a distanza non può coprire allora magari c'è un po' più di esigenza di andare a colpire in questi mesi dell'estate quella fascia lì e lasciando indietro gli altri e in questo modo avendo molto più spazio nelle scuole nelle classi nei cortili per fare delle classi con un educatore e pochissimi bambini quindi prima di tutto come sempre va abbandonato l'idea binaria scuola sì scuola no e poi va abbandonata l'idea della scuola diciamo avete citato il libro cuore prima della scuola cliché allora quando si parla di scuola ne parlano o gli insegnanti o più tipicamente le elite i giornalisti presentatori e ridicendo questi hanno fatto tutti il liceo classico o il liceo scientifico ma anch'io ho fatto il liceo classico e tipicamente quando gli dici scuola si ricordano appunto di andare con il dizionario sotto braccio con l'autobus arrivare in un istituto austero ascoltare la lezione prendere appunti poi fare la versione e così ecco questa è una roba che riguarda pochi ragazzi ci sono metà dei ragazzi che fanno le scuole superiori che fanno i tecnici o i professionali che stanno nei laboratori di cucina degli albergieri che stanno all'agraria che stanno al tecnico informatico che fanno esperienze in azienda cioè la scuola è molto altro e allora bisogna guardare anche a questo peraltro chi fa questi tipi di scuole i professionali e via dicendo sono anche i più vulnerabili sono anche quelli che sono vent'anni che si lotta per non fargli fare l'abbandono scolastico e con 6-7 mesi di interruzione ce li perdiamo ce li perdiamo e allora qualcosa bisogna inventare per fasce i più giovani i più vulnerabili quelli che non hanno il computer a casa e poi c'è un altro tema che pare brutto dire perché ti prendono per azienda lista o quello che è ragazzi la scuola è anche uno strumento che permette al resto della società di funzionare perché consente alle mamme di andare a lavoro questo non lo possiamo dimenticare se lo possono dimenticare quelli che hanno la tata la zia o magari non hanno bisogno di lavorare perché comunque ci arriva lo stesso ma le famiglie che sono in grave difficoltà nei prossimi mesi ci avranno un problema e non gli puoi dire fai il congedo parentale a metà della paga o a paga zero che sarà la donna a dover fare e quindi la donna perderà il lavoro e le opportunità abbiamo bisogno che le scuole adempiano anche a un ruolo come dire organizzativo e non solo didattico poi se volete parliamo del dramma educativo che si corre con il lockdown prolungato sentiamo sì 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 va prego poi scusami volevi dire qualcosa no io voglio dire qualcosa siccome non so chi sia Alberto Ebbo potrei dirgli che è un coglione posso educazione prima di tutto andiamo avanti l'educazione si apprende anche così berle sul naso vai 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 pure Massimo vai vai perché hai insultato perché hai insultato Umberto Eco Alberto Alberto ebo io ho capito Umberto Eco io ho capito ma perché perché io non so chi sia Umberto Eco so perfettamente infatti non capisco ok ho letto tutto quello che ha scritto tiro le fila per dare la parola Massimo muovi avanti Massimo tiro le fila permettendomi un appunto sulla prova in Valsi e la valutazione diciamo che se la prova in Valsi non è inclusa nella valutazione non comporta conseguenze come l'esame di maturità è un po' più semplice farla farla no così volontariamente è chiaro che sono due cose che secondo me hanno un peso molto diverso sono molto d'accordo e rilancio anche a Massimo la questione del 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 rapporto tra genitori e lavoratori che credo sia un tema cruciale oggi abbiamo sempre parlato di riaperture 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 riapre tutto tranne la scuola e la situazione diventa ingestibile e davvero in questo in questo momento mi viene in mente Virginia Woolf e la stanza tutta per sé cioè le madri ritornano al loro ruolo di cura della brole e di di gestione della della casa anche fare smart working diventa molto difficile no? credo che anche questo sia un tema ecco lo smart working è possibile con i figli a casa e l'altra questione è delle scuole di diverso tipo sicuramente i professionali non sono come i licei però non si può neanche pensare ad una una riapertura parcellizzata per tipologie di scuole o è possibile non lo so dateci dateci qualche lume ma secondo me sì cioè magari ho provato mi sono anche espresso male un pochino prima la mia idea è assolutamente in linea con quello che diceva Francesco cioè non c'è cosa pregiore di trattare allo stesso modo delle persone che sono diverse ok quindi uno la scuola non è un unicum anche all'interno della scuola superiore sicuramente come per uno studente universitario uno che ha 16-18 anni che ha un tablet ha un computer o comunque sa leggere un libro da solo è un film il ragazzo di tre anni io te lo dico ho due bambini che stanno facendo homeschooling a casa 6-9 anni è una tragedia cioè anche la differenza d'età è incredibile sarei ed era un po' il senso di quella necessità virtù che dicevo all'inizio di avere un approccio assolutamente differenziato e di dire facciamo le cose là dove servono e aggrediamo i problemi là dove ci sono prima forse si è colto male l'idea dicevo gli studenti più bravi quello che sto dicendo io è dedichiamo le energie dove servono innanzitutto come dice anche Francesco è importante la presenza fisica nelle scuole cioè io non credo che possiamo tradurre tutto a distanza però se siamo obbligati in classe invece di averne 26 ad averne 10 usiamo questa opportunità per avere una scuola flessibile cioè quello che immagino io è un rapporto tra i professori e gli studenti non 1 a 26 ma di dire rimanendo fermo il numero di ore che il professore dedica in classe e a casa per studiare invece di dedicarlo orizzontalmente a 26 in maniera uguale spiegando le stesse cose per 25 anni che poteva registrarsi o facendo il compito in classe dividere la classe in gruppi e dedica le energie sulla base di quello a cui servono i gruppi cioè quando dicevo gli studenti più bravi non sprechiamo risorse se uno è bravo studia da solo se c'è i libri a casa diamogli il minimo indispensabile e questo si può fare anche tra scuole diverse cioè se l'alberghiero ha bisogno di andare a cucina Don Milani però cioè il rischio Don Milani lettera a una professoressa dietro l'angolo cioè io concordo però forse lo stesso discorso che abbiamo fatto sull'economia forse dovremmo applicarlo anche alla scuola perché poi non lo so è un elemento sono d'accordo ci pensavo anche io quando ti ascoltavo prima fa Massimo nel senso che non ho ben capito che tra l'altro è un grande equivoco della scuola italiana io sono stato però adesso non so se questo è il momento di discutere perché è un tema che va al di là di Covid quindi non so se voglio tirarli in mente io sono stato un grandissimo seguace di Milani e credo fermamente che quello che ha fatto fosse una cosa giustissima perché chi viveva negli anni 60 per non parlare negli anni 50 sa cos'era la scuola italiana era un strumento di discriminazione di dominio di non insegnamento eccetera 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 oggi un problema è diverso e l'idea credo che vada rovesciata e cioè che vada riconosciuto che hai livelli di difficoltà e di performance diversi credo che l'Italia deve superare la mitologia della bocciatura e debba accettare invece la realtà che è quella della stratificazione il mondo non è 0-1 gli studenti non li bocci 0-1 accetti che si stratifichino che si distribuiscano per per livelli di competenza eccetera eccetera però adesso questo non insomma mi pare esuli da quel che stiamo cercando di fare io invece vorrei continuare a insistere con voi proprio per per capire perché quello che ha detto Francesco mi colpisce no è davvero cioè c'è un problema di abbandono l'abbandono è endogeno lo favorisce esatto questa atmosfera di scuole chiuse for an unbounded amount of time e in aree in cui il rischio covid è bassissimo sto pensando tutto il meridione mi sembra una follia non può essere che governiamo la complessità con questi livelli di semplificazione questa non è nemmeno l'aceta questo è cosa c'è di più grande dell'aceta per tagliare il legno non so un seghe elettrica e l'acetone un seghe elettrica sì no beh sì il problema di inventare un attimo non postiamo cioè sono gruppi a bassissimo rischio il rischio è come dire terzo è un rischio di esternalità d'accordo il ragazzino di 15 anni la prende per lui è davvero una debole influenza inutile che vengano a continuare a ripetere cioè su questo non è nessun problema anzi trovo scandaloso che molti alla ricerca dello scandalo che sta terrorizzando poi i genitori poco preparati ha un grande influenza sul mondo della scuola cioè ricoverato il dodicenne era sanissimo ragazzi capita anche cioè datevi a guardare le statistiche quindi è un fatto obiettivo che sotto una certa età questo virus al momento se c'erano mutazioni vedremo no visto che anche Ilaria si è lanciata in speculazioni mammuterari schiera va bene lo vedremo adesso adesso è quella cosa lì distrugge un sistema scolastico che già ha i problemi che ha semplicemente perché vogliamo trattare i diciottenni come se fossero dei settanta quattrenni con diabete io lo trovo semplicemente una maniera di non governare la complessità concordo e in effetti può far paura pensare a differenziare l'approccio sulle diverse scuole sulle diverse zone sulle diverse fasce di demografia però guardiamolo dall'altro lato in realtà fare uguale per tutti oggi è creare diseguaglianza dire che si può fare solo scuola a distanza significa che di otto milioni di ragazzi te ne perdi 815.000 che non hanno device a casa di quelli che ce l'hanno metà lo condividono o col fratello o col papà che lavora da casa o con la mamma la maggior parte di quelli che non ce l'hanno stanno al sud allora uguale per tutti è diseguaglianza quindi partiamo da questo punto da questo punto di vista e poi c'è il tema l'abbandono l'abbandono è la cosa che mi terrorizza di più di quello che secondo me è in generale uno cratere uno tsunami educativo lo abbiamo definito così con Massimo in un'altra chiacchierata che abbiamo fatto che oggi non vediamo ma ragazzi fra un anno lo vediamo tutto chi abbandona la scuola lo conosciamo lo si sa sono ragazzi maschi in genere tra i 14 e i 16 anni tipicamente tipicamente nelle grandi città oppure nelle aree suburbane quindi negli anni la lotta per fare in modo che questa gente non abbandoni la scuola si è cercato di portarla avanti e come fai a impedire che questi abbandonino la scuola coinvolgendoli tenendo la scuola aperta l'estate tenendo la scuola aperta la sera facendogli fare più laboratori e meno lezioni frontali tutte cose che in questo periodo purtroppo sono difficili però io non sono un meritocratico sulla scuola io penso che la scuola sia uno strumento di eguaglianza eventualmente l'università debba essere uno strumento di opportunità e di merito insomma però sappiamo chi è più vulnerabile sappiamo chi è più vulnerabile andiamocelo a prendere siamo in tempi così complicati che onestamente rinunciare a esperimenti in emergenza ovviamente senza mettere in discussione la sicurezza sanitaria questo è evidente ma il rischio educativo è grande quanto il rischio economico e sappiamo bene quanto poi il buco educativo si porti dietro buchi di cittadinanza buchi di partecipazione e poi buchi economici chi ci perdiamo a 17 anni non lo riportiamo più né come cittadino né come lavoratore allora questa è urgente come le altre questioni del covid non possiamo tralasciare senza distinzione tra scuola dell'obbligo e scuola non dell'obbligo perché sono due mondi molto diversi no? anche il titolo legale poi del non so scusate sto monopolizzando perché rispetto all'economia è un terreno è un terreno dove io e Riccardo insomma abbiamo un po' di anni io spero io speravo tanto che tutte queste cose l'esame di maturità il valore legale certe rigidità almeno come effetto collaterale del covid se li potessimo un pochettino lasciare alle spalle ma temo che invece siano i baluardi più resistenti tu dici che differenza fai tra la scuola dell'obbligo e gli altri io personalmente oggi sia per motivazioni educative sia per motivazioni politiche e poi magari ci andiamo nel merito partirei da 06 partirei dai più piccoli partirei dai più piccoli perché come ho detto dal punto di vista educativo sono quelli che hanno più bisogno di socialità e non li raggiungi con con la didattica distanza i genitori hanno bisogno di respiro adesso io sono una bimba di tre anni magari sono più sensibile a questo infatti mi sono chiuso in cucina che è l'unico punto dove non entra ma ci sono anche ragioni politiche per esempio i lavoratori della scuola 06 sono parzialmente dei comuni e parzialmente statali quindi c'è una ricchezza diciamo di rappresentanza molto più vasta sono tipicamente più giovani rispetto agli insegnanti delle medie e delle superiori quindi magari possono essere anche più avere più voglia di ritornare al lavoro in sicurezza c'è una componente di scuola paritaria tra a livello 06 soprattutto 3 6 un pochettino più alta e quindi si possono fare c'è un po' più di libertà di sperimentazione io partirei da lì partirei da lì per tutti questi motivi e probabilmente il governo un po' ci sta pensando secondo me se si fa un po' di aiuto idea proposta eccetera magari a luglio qualcosina si smuove sarà importante in questa allora ci sono stati tanti tantissimi micro distinguo cioè nel senso per esempio a livello di diversificazione per età diversificazione per territori e tutte queste credo siano cose abbastanza condivisibili però il problema è il seguente com'è che lo fai cioè nel senso per seguire il discorso fatto da Francesco dal mio punto di vista l'unica risposta sarebbe investire una montagna di risorse per esempio nel gap tecnologico abbiamo parlato dei ragazzi 800.000 più ragazzi che non hanno device a casa com'è che la risolvi questa cosa e se l'unica soluzione è quella di mettere più soldi nella scuola senza però effettivamente fare quella che è una spending review che serve all'interno del sistema educativo che non è mai stata fatta negli ultimi da quando io sono vivo non mi sembra di aver mai visto qualcuno che abbia detto ok aspetta che vediamo dove vengono indirizzati i soldi dove le prendi quelle risorse perché il mio grande timore è che da questo discorso che sui principi posso condividere poi si arrivi sempre ad un nulla di fatto perché alla domanda ok dove le troviamo le risorse la risposta è sempre non ci sono risorse guarda è vero che sulla scuola la qualità della spesa è un tema da muro abbiamo detto più volte che è vero che l'Italia spende in educazione meno in proporzione alla popolazione è anche vero che spende pochissimo su università e invece su scuola la spesa pro capite è bassina ma nel più o meno nella media oxe il problema è che noi siamo completamente reprattari a ogni forma di valutazione io lo racconto perché l'ho vissuta ci sono stati sei tentativi di introdurre la valutazione dei dirigenti scolastici sei tentativi avanzati cioè con la la direttiva scritta firmata dal ministro tutti i ministri l'hanno tenuto nel cassetto devo dire bontà sua la ministra devo sottolineare per chi ascolta suami Francesco ha detto dirigenti cioè ascoltate attentamente gente che oggi in realtà un ruolo manageriale ne va fiera se lo spavaranza si autoqualifica perché ne ho conosciuti parecchi come tutta un'altra roba che è l'umile insegnante io sono manager io potrei gestire il mondo ok e prende però posso dire il dirigente non prende 1500 al mese posso fare un'obiezione allora però a questo punto faccio un'obiezione come fai a mettere insieme una scuola che pone dei seri criteri di valutazione nei confronti dei dirigenti se alla base togli i criteri di valutazione agli studenti cioè nel senso questo è un problema grosso cioè quello che si diceva però che sia chiaro la maturità non è un serio criterio di valutazione ma allora aspetta però allora però allora il discorso che è emerso anche dal Daily Cogito stamattina è cambiamo la maturità ma non togliamo la maturità nel senso deve essere una valutazione ci vuole un'altra riforma un'altra riforma cambiamola sostituendola con un esame in valse prima è stata detta una cosa che a me un po' ha fatto venire la pelle d'oca cioè togliamo cos'è che hai detto la superstizione della bocciatura ok chi è che l'ha detto Michele ok cioè cos'è che intendevi con questo Michele perché io è un'altra discussione se vuoi facciamo facciamo dei dibatti fra me e te perché altrimenti sì questa è una cosa su cui io rifletto da 40 anni anzi di più da quando mi lessi Don Milani non voglio togliere tempo a Francesco Massimo è proprio un pregiudizio tutto italiano tutto classicista tutto gentiliano non avete capito un cazzo di cosa serve la scuola nel mondo moderno ve lo dico francamente pensate che sia uno strumento per far passare i bravi e far venire fuori quelli belli cioè cosa è il classico bisogna essere tutti quanti latinisti tutti quanti con l'IQ da 140 no ma siamo sicuri che funziona così la scuola in Italia a me non sembra proprio la scuola in Italia funziona purtroppo ancora così ancora interiorizzata ma davvero non voglio dominare il dibattito la facciamo noi tre una volta quando volete basta guardarsi i dati se voi vi guardate i dati e su questo sono sicuro che Francesco Massimo di cosa meno conforma la scuola è uno strumento di trasportificazione sociale che sembra che abbia ragione lui al più sé per chi conosce il marxismo strutturalista leggetevi lui al più sé però Michele poi questa ce la trattiamo io e te veramente in una cosa però io stamattina in un ring è venuta fuori una roba che è alla maturità mediamente vengono cioè il il 98,5% degli studenti entra nell'esame di maturità e all'interno nel 99,7% viene promosso l'esame di maturità basta questo basta questo di che stiamo parlando quindi la risposta a questo è eliminare l'esame di maturità si non serve un cazzo è un rito per fare film è così no non serve a nulla sono d'accordo così ma mi stai dicendo lo vuoi scattuire scattuisci con esame invalsi va bene dai poi lo riprendiamo oppure andiamo avanti oppure utilizzalo per l'ingresso all'università farlo fare all'università si se mi posso inserire su questa perché vedo sia in Lucrezia che Riccardo un po' di giustamente delle perplessità nel senso ci sono tutti i partiti precedenti noi siamo ormai si siamo presi io stamattina ho fatto un video con un ragazzo molto simpatico che lavora in una start-up a Berlino ed è laureato in storia il ragazzo è laureato in storia e poi si è fatto un master in business school e abbiamo parlato un po' delle skill che servono diciamo un po' nelle aziende moderne di questa quello che volevo dire il bollino di dire della maturità cioè come posso dire la selezione non dico che la fa la vita cioè perché il pezzo di carta non vale un cazzo perché quando tu fai un colore quello che dicevamo poi lo vedrete su Liberi e Olte questo qua quando va a Berlino nessuno gli chiede quanto aveva gli esami al liceo questo qua è andato là con la laurea in storia si è visto che era bravo in Excel ha capito che bisognava programmare ha un'infarinatura di programmazione e adesso fa una roba che la metà dei suoi colitari non sanno che esiste ancora più classista ancora più classista cioè la scuola non ti prepara niente è un parcheggio le abilità te le fai da solo o te le fai all'università no è il contrario scusami sono un po' impedito io vorrei intendere il contrario di quello che hai capito cioè la scuola ti deve dare gli strumenti di base per fare in modo che tu possa affrontare il mondo dopodiché quello che è la competenza specialistica l'acquisirai nei livelli universitari e scolastici di tipo specialistico determinate competenze professionali le acquisirai sul lavoro ma quello che ti deve dare la scuola è il cervello l'apertura mentale faccio un ragionamento semplicissimo io ho avuto un'esperienza con bambini delle elementari ci sono due sistemi scolastici non dico quali sono i due sistemi scolastici non dico se sono privati o pubblici c'è una una prima elementare dove si arriva a contare a 20 e si conta sulla dita delle mani non mi dico in che paese secondo il corso internazionale diciamo lo standard come posso dire dei essenzialmente in prima elementare si arriva a contare a 100 perché se io conto 10 unità posso contare 10 decine e a livello di intuizione si fanno le frazioni si fanno le moltiplicazioni cioè si trasmettono una serie di concetti quindi quello che dico io è che che tu faccia l'operaio il professore universitario quello che una certa scuola ti deve dare è la formazione di base quegli strumenti e che includono purtroppo abilità di tipo quantitativo di tipo cognitivo che ti consentono poi basta 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 no basta perché stiamo parlando di covid e lo sapete che finiva lì colpa mia giuro che faremo un dibattito noi tre noi cinque se volete anzi appuntamento la settimana prossima questi stessi cinque a discutere e senza scaletta e senza la scaletta è una cosa non va per chi ad alcuni di noi piacciono certe cose della scuola italiana va bene volentieri questo lo facciamo questo lo facciamo sicuramente però adesso la chat sta infelando con la scaletta stiamo sforando la scaletta vero abbiamo sforatissima la scaletta quindi Andrea Giuricino e Carlo Stagnaro che scalpitano mi ringrazio tantissimo grazie mille questo baci e bracci grazie per il dibattito al basso notte prima degli esami a tutti viva la libertà ciao 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 mi potete vedere anche i dirigenti a volte riescono ad essere scherzosi andiamo avanti ne arrivano altri due ce li hai dai calcia quei due è un attimo non è che posso cacciarli è un atto violento Michele aspetto le patate pronte per essere fritte madonna santa Michele la settimana prossima la settimana prossima ci vediamo un culo così pensavo pensavo avessi letto la scuola li scrivo d'anno queste cose allora Carletto eccolo qua cosa c'ha dietro cosa succede allo sfondo di Carlo Stagnaro cosa è successo beh visto che parliamo oltre che di trasporti anche di energia mi sono messo un poster sovietico per ricordare che nel paese che piacciono agli attuali intellettuali di riferimento del nostro governo la sostenibilità e l'energia volevano dire nucleare però posso dirti una cosa posso dirti Carlo che la qualità video dovuta a questo green screen mi riporta ai video di Al Qaeda io te lo dico cioè sembra che tu stia registrando da una caverna del Pakistan e cioè nel senso io starei a questo è coerente con il riferimento sovietico che in questo momento a Noam Chomsky non piace questo elemento ciao ragazzi io vi saluto allora Andrea Giuris Carlo Stagnaro credo siano noti ai più però comunque lasciamo che si presentino tre secondi a testa dai comincio io Carlo vai vai già passati tre secondi e allora mi occupo di trasporti sia insegno in diverse università in giro per il globo che diciamo come consulente per tante per tante aziende di trasporti da diversi anni ho l'onore di partecipare con Liberi Oltre da diverso tempo ormai molto velocemente io Carlo Stagnaro mi occupo prevalentemente di economia dell'energia in senso un po' più ampio di temi legati alla competition policy la mia principale attività è presso l'istituto Bruno Leoni e poi faccio un po' di altre cose in giro bene allora ma siccome tutti si aspettano che Andrea Smadoni controlla l'Italia adesso gli facciamo fare un commento ma siccome è ovvio che dar soldi all'Italia è da sempre io non volevo parlare di all'Italia oggi volevo parlare del futuro del trasporto sto evitando sto facendo perdere la scommessa chi è scommesso contro di te siccome è ovvio parleremo invece Andrea si concentrerà seriamente anche a livello mondiale su le problematiche dei trasporti cosa si può fare e dall'altro lato Carlo di più sull'energia ma poi ovviamente ognuno dei due metterà il becco nel tema dell'altro basta io ho fatto la mia parte credo che o Lucrezia o Rick vuole sorprendersi una pausa credo che forse Rick l'ha fatto ma Rick si è scappato perché la scuola l'ha messo l'ha messo KO quindi sta andando a riprendersi sono sconvolti dal fatto che questi due letterati classicisti ragazzi non so se avete visto sono stati sconvolti dal fatto che il trio a Luccisano Famularo Boldrin ha concordato il liberismo mi pare che sia finito sulla scuola si è l'ho visto interrotto vabbè a proposito di binari di binari interrotti volevo per lanciare Andrea la parola sui trasporti e poi per incazzarsi quanto vuole contro la questione sulla questione all'Italia però riprendere un tema che abbiamo tante volte evocato stamattina cioè la questione sicurezza la questione sicurezza sul lavoro la questione sicurezza nelle aziende e la questione sicurezza e ripresa del trasporto pubblico cioè qual è la situazione come può riprendere il trasporto con queste nuove norme e con il lavoro e le aziende che riaprono io non so ho vissuto un po' di anni a Roma e così mi viene in mente ecco una specie di scenario post apocalittico di come i trasporti romani per esempio possano far fronte a queste apocalittico perché comunque c'è un problema di capacità cioè ci sarà un problema serio di capacità tutto dipende quale distanziamento sociale si vuole decidere di adottare è un conto avere gli autobus riempiti al 20-25% come capacità massima un altro andare al 60-65% tenete conto che in alcuni paesi come la Germania si sta decidendo di non andare verso il distanziamento sociale per quanto riguarda i mezzi di trasporto però noi vogliamo andare in questa direzione e va bene decidiamo in questa direzione però è chiaro che se decidiamo di limitare tantissimo l'offerta ci sarà un problema serissimo che sarà quello di dover aumentare almeno il numero di autobus che dovranno circolare di autobus che dovranno circolare o di metropolitane su quella stessa rete per soddisfare le domande di picco allora è vero possiamo cercare di spostare un pochettino al picco però non sempre è fattibile è vero possiamo fare un po' di smart working o di home working tutto questo però ti crea dei problemi ti crea dei problemi perché comunque le aziende avranno meno ricavi che cosa significa avere meno ricavi per le aziende che in qualche modo dato che già ad oggi sono in gran parte sussidiate e ricordo sempre ATAC dal 2009 ad oggi ha ricevuto oltre 8 miliardi di euro tra contributi perdite quindi contributi pubblici e perdite ha già ricevuto 8 miliardi da contribuite e significa avere altri soldi non è un caso che proprio pochi giorni fa ATAC abbia richiesto 110 milioni di euro al comune di Roma che chiaramente non avrà questi soldi perché il tema della finanza pubblica locale è un tema caldissimo e poi sarà da capire come andrà a finire e quindi molto probabilmente gira voce che ATAC finirà anche lei nazionalizzata come all'Italia quindi quando io l'altro giorno facevo una battuta su Twitter dove dicevo all'Italia ATAC forse non è un caso perché probabilmente tutte e due verranno nazionalizzate ora non so se metteranno gli ali agli autobus di ATAC o se metteranno diciamo la stessa sicurezza e la stessa capacità di prendere fuoco agli aeri di all'Italia spero proprio di no è una battuta molto triste ma è chiaro che bisogna capire bene bisogna capire bene che la nazionalizzazione è un costo è un costo per il contribuente che cosa poteva essere fatto e poi lascio la parola direttamente a Carlo che cosa poteva essere fatto bisognava pensare prima all'efficienza delle aziende cioè non è possibile che ATAC costi il 50% in più rispetto all'ATM che costi il doppio rispetto ai migliori casi europei e adesso che ha bisogno di soldi c'è maggiore di maggiore capacità ATAC spende quasi il 60% nel proprio personale il 3% 3,5% per come costi del carburante per dire alcuni numeri e chiaramente ci si trova in difficoltà forse bisognava fare efficienza prima fare delle gare prima come abbiamo sempre sostenuto io e Carlo insieme tante volte fare delle gare sul trasporto pubblico locale per avere efficienza per avere servizi migliori invece ad oggi siamo nella più grande crisi epocale del trasporto e noi ci ritroviamo con aziende inefficienti lancio velocissimo telegrafico ma ha messo insieme tantissime cose ed è allora Carlo dacci il tuo punto di vista sì no ne approfitto intanto qua ci pestiamo sui piedi continuamente per fare una una sola battuta sul tema dei trasporti è evidente che nelle prossime settimane e mesi dovremo dipendere dovremo per mantenere la distanza il distanziamento sociale dovremo dipendere di più dai mezzi di spostamento individuali e di meno dai mezzi di spostamento collettivi perché non vogliamo avere 40 persone dentro un autobus questa roba richiede di cambiare totalmente strada rispetto a quello che abbiamo fatto negli ultimi 20 anni in termini di governo urbanistico della città di governo dei trasporti urbani io credo che ci sono due cose fondamentali che bisognerebbe fare e sono convinto che ci saranno due cose che non verranno fatte nel nostro paese una è questa poiché la mobilità individuale diventa diventa cruciale bisogna promuovere l'utilizzo condiviso delle auto detto in altri termini se c'è un momento nella storia in cui Uber serve è adesso secondo tema visto che il problema comunque se anche noi aprissimo liberalizzassimo Uber e forme di radio sharing analoghe ci sarebbero molte persone che continuano a spostarsi con quei mezzi di trasporto è importante prendere sul serio il tema del dare un prezzo alla congestione noi non vogliamo che le persone si mettano tutte in metropolitana alle 7 di mattina vogliamo che anziché andare in metropolitana dalle 7 alle 8 di mattina si spalmino dalle 5 alle 10 non vogliamo visto che useranno di più la macchina che entrino tutte le 7 di mattina in città ma vogliamo che entrino dalle 5 alle 10 sto recendo orari a casa ovviamente per farlo bisogna uno degli strumenti che si possono utilizzare è quello di dare un prezzo all'utilizzo della capacità di trasporto in particolare trasporto pubblico e trasporto stradale anche questa è una cosa che aiuterebbe a spalmare di più l'utilizzo delle strade e dei mezzi di trasporto e che in una fase in cui abbiamo improvvisamente scoperto quello che chiamiamo smart working i pulmini Uber i pulmini Uber e il fatto che entrare prendere la metropolitana alle 8 dovrebbe costare di più che prendere la metropolitana alle 7 o alle 9 e mezza e visto che abbiamo scoperto tutti quanti il cosiddetto smart working in queste settimane forse possiamo anche capire che non è necessario che tutti vadano al lavoro le 8 e mezza 9 e stiano lì fino alle 17 17 e 30 possiamo anche distribuire le 8 ore in modo diverso nell'arco della giornata magari non serve passare 8 ore in ufficio e così via sono tutte cose che in questo momento possiamo fare e che hanno impatti sul governo dei trasporti e che sono a loro volta impattate dai costi e dagli strumenti che si possono usare per muoversi in città giustamente Carlo guarda il tema il tema proprio dei costi diciamo del prezzo del prezzo è essenziale io sto mandando delle proposte a diversi operatori italiani e soprattutto ai comuni perché molte volte poi la gestione in realtà delle tariffe è decisa dai comuni proprio su questo cioè la tariffa picco e fuori picco che è già utilizzata normalmente in tante città che è andato a Londra sicuramente la conosce è ancora diciamo molto distante dalla realtà italiana ma questo potrebbe aiutare chiaramente io sto già mandando delle proposte non credo che verranno mai prese in considerazione come al solito ma questo fa niente su Uber non solo Uber io lo chiamiamo trasporto condiviso ricordiamoci sempre che è bene che ci siano anche altri concorrenti rispetto a Uber cioè non è che ci deve essere un Uber deve essere più concorrenti quello che sostiene anche in diverse parti del mondo perché altrimenti si viene a creare una posizione monopolistica che noi liberisti chiaramente non accettiamo detto questo un altro punto essenziale è anche dividere la fase 2 dalla fase 3 la fase 2 è quella che sta cominciando diciamo dal 4 maggio con probabilmente ancora non troppo traffico nelle città cosa significa questo che i mezzi pubblici probabilmente potranno andare più veloci potranno andare più veloci perché? perché chiaramente c'è meno traffico un pochettino come il mese d'agosto questo significa aumentare la produttività perché con gli stessi mezzi con lo stesso personale tu potresti fare molte più corse ma esiste un sindacato che si oppone a una revisione del contratto di servizio con maggiore produttività e questa è una delle tipiche resistenze o diciamo uno dei tipici problemi italiani la fase 3 invece del trasporto pubblico locale è quella in cui ci sarà molto traffico come giustamente dicevi te e chiaramente ci sarà anche meno produttività allora quello che bisogna fare in questo momento anzi doveva essere fatto il mese scorso e io lo ripeto ormai da un po' di tempo è che i contratti di servizio dovevano essere rivisti fra contratti di servizio diciamo fra città e operatore dovevano essere rivisti in funzione di maggiore flessibilità perché con il covid che potrebbe sempre ritornare se non abbiamo un contratto flessibile come adesso dicevo dal 4 maggio e poi probabilmente da settembre continuare a cambiare anche il traffico nelle città tutto questo non è preso in considerazione noi dobbiamo recuperare quella produttività che ad oggi non abbiamo mai avuto perché non abbiamo mai avuto delle gare in Italia perché sempre la mano destra cioè il comune assegnava la mano sinistra alla propria azienda di trasporto pubblico locale e tutto questo chiaramente doveva essere fatto il mese scorso invece sentiamo tantissime belle soluzioni va benissimo la soft mobility ma non è che da un giorno all'altro elimini tutte le buche che puoi trovare a Roma per andare con i monopattini io mi divertivo andare in monopattino a Roma però pur sapendo del rischio e andando diciamo con il mio caschetto e facendo molta attenzione ma è difficile vederlo come mezzo di massa a Roma sport estremi diventano sport estremi esattamente esattamente ma su questo così ric intanto si ricompone che vedo che hai il baffo del post spuntino scherzo no dicevo tanti sindaci vabbè io vivo nelle Marche quindi una città con piccoli centri stanno puntando molto insomma su questa dimensione appunto del monopattino elettrico biciclette cose di questo genere però è chiaro che siamo di fronte che ha problemi ben più ampi di una campagna politica insomma molto locale va benissimo anche spingere verso lo sharing io ho fatto una lotta personale per cercare di far passare i monopattini elettrici in condivisione che come sapete la legge italiana ha fatto di tutto per bloccarli noi qualunque cosa il sharing evidentemente non piace però detto questo è bene fare attenzione e prendere delle politiche serie qua bisogna rivedere i contratti di servizio bisogna rivedere come si assegnano le gare per sapere che le risorse sono poche noi non possiamo permetterci di sprecare centinaia di milioni di euro se non miliardi di euro nel trasporto pubblico locale perché l'azienda pubblica locale deve avere 11.500 dipendenti perché sono 11.500 voti ora tutto questo è da tenere in considerazione e dovrebbe essere fatto proprio in questo momento nel quale le risorse non ci sono e invece ancora una volta si chiedono più risorse pubbliche invece di ripensare il trasporto pubblico locale come doveva essere fatto prima peraltro la cosa divertente è che sullo sharing io ho sempre avuto discussioni molto accese mi sono accorto che sono i sedicenti socialisti o addirittura comunisti che sono contro lo sharing che sembra una roba che dice ma come ma scusami ma sharing ma vabbè ma è un altro discorso no in realtà questo punto che ha toccato Andrea a me interessa particolarmente perché qualche giorno fa c'è stata la ricostruzione del ponte di Genova che è sicuramente stata una cosa positiva però ho letto delle cose che di pura propaganda statalista del tipo le uniche cose che funzionano in Italia sono le grandi opere quando lo Stato interviene allora io vi chiedo quanto è grave il pericolo attuale che la retorica sul grande Stato produttivo con le grandi opere riprenda fortissimamente piede e ovviamente giocando molto facile sull'animo italico che di fronte a queste cose va in brodo di giuggiole o Carlo anche la grande Iri no? perché abbiamo sentito qualche consigliere non so se vuoi iniziare tu su questo punto della grande Iri e delle grandi opere beh sì no la grande Iri è che andiamo avanti 24 ore e anche i ministri ne hanno parlato il ministro Patuanelli no è evidente che quella sarà una delle cose su cui nelle prossime settimane nei prossimi mesi si giocherà parte della discussione politica in questo paese ci sono almeno due cose da dire in materia una partendo proprio dal ponte di Genova voi avete letto il modello Genova quanto è bello il modello Genova finalmente siamo riusciti a fare le cose eccetera il modello Genova è una roba che non è non è bello e non è generalizzabile il modello Genova consiste sostanzialmente nel fatto di dire che poiché noi abbiamo delle regole che riguardano gli appalti pubblici e quant'altro che sono totalmente incomprensibili assolutamente confuse impediscono di eseguire le opere quando vogliamo fare le opere scegliamo quelle che ci interessano e andiamo in deroga tutto diciamo che il commissario che in questo caso era il sindaco ha sostanzialmente poteri dittatoriali alza telefono comanda prende briga brega fa non deve far gare non deve far niente è ovvio che un paese che oscilla tra un diritto che si applica a tutti e che è totalmente incomprensibile e che non consente di far niente è un diritto che si applica ad alcuni e che io mi diverto a chiamare il modello del dispotismo orientale cioè il capo fa quello che gli pare è ovvio che è un paese senza futuro perché tra i due estremi cioè la burocrazia sovietica che non funziona e il dispotismo orientale che non funziona per altre ragioni c'è in mezzo quella roba che normalmente chiamiamo occidente l'altro aspetto che è legato ma un po' distinto rispetto a questo delle grandi opere è una delle proposte più forti che ha fatto il ministro Patuanelli nell'intervista dell'altro giorno cioè questa idea di fare un ecobonus cioè l'incentivo il credito fiscale per gli interventi sulle ristrutturazioni edilizie al 120% cosa vuol dire 120% che lo Stato attraverso un credito di imposta non ti paga l'opera l'intervento di ristrutturazione efficientamento energetico te ne paga di più il 20% in più del valore facciale dell'opera è evidente che questa roba qua in un momento in cui per carità piovono i miliardi ma comunque dobbiamo spenderli bene perché non è che spuntano dagli alberi ma li dovremmo restituire è ovvio che questa è una roba che assolutamente non va bene cioè come dire non è che che poi storicamente non ha mai aiutato quelle compagini un po' criminali del nostro paese no? beh perché quando lo Stato dice io ti do più di quanto poi costa la gente non ne ha mai approfittato quelli che veramente ne approfittano e poi visto che c'è dietro una roba sovietica è una cosa di sinistra questa roba qua è un regalo ai ricchi cioè chi è che si può ristrutturare l'immobile chi ce l'ha e chi ha i soldi da anticipare che poi recupererà col 20% in più nel periodo Michele abbiamo invitato il socialista Carlo Stagnare in questa live incredibile incredibile cioè neanche guarda cosa hai fatto Carlo Carlo guarda cosa hai fatto hai fatto crollare Michele Boldrini oh veramente imperdonabile imperdonabile no però Carlo hai completamente ragione cioè questa cosa diciamo questa sospensione diciamo della normativa normale perché non sappiamo fare le grandi opere è un problema è un problema enorme così come pensare che lo Stato può fare tutto ad esempio gestire una compagnia aerea ora dato che abbiamo già visto in passato quanto si è costata questa compagnia aerea io non faccio nomi ho detto che non parlavo di quella compagnia aerea quanto si è costata questa compagnia aerea in passato sapete i miei calcoli parliamo di circa 10 miliardi di euro negli ultimi 12 anni tramite direttamente o indirettamente con privatizzazioni all'italiana come ho detto io avevo scritto un libro su questo proprio con Carlo che me l'ha riletto tutto ormai 11 anni fa esatto come passa il tempo no però fatto sta che bisogna capire che lo Stato non può andare a gestire queste cose lo Stato non è capace lo ha dimostrato così tante volte e noi pensiamo che ancora una volta lo Stato può farlo ora quello non è lo Stato posso dire posso dire dobbiamo abolire questo linguaggio lo Stato non esiste lo Stato non gestisce niente lo Stato è una astratta creazione che liana paraggi che di scarsità ci sono gli apparati dello Stato che sono una cosa concreta sono fatte le procedure gli esseri umani in questo caso poi chi gestisce quelle cose sono i politici i politici la politica è quella di maggioranza a volte a seconda dei compromessi di equilibri per spartirci la torta è sicuro che si rimane in torta anche quando si finisce in minoranza glielo dai anche a quelli in minoranza e quindi non diciamo lo Stato perché la gente molte persone hanno una visione mitica dello Stato buona non so perché ce l'abbiano perché ma non importa questo non possiamo cambiarlo no prima tra l'altro ho approfittato di solito la parola per dire non sono scappato perché perché Carlo sono sicuro che avete fatto la battuta è stato bellissimo però è stato un momento bellissimo no infatti no volevo volevo siccome io sono sempre che leggo i messaggi sui vari canali volevo venire a rispondere non ero sicuro di avere nel microfono e ho fatto clic al volo e ho mi sono ammazzato alla fine no però Michele hai completamente ragione su questa cosa della politica tanto che la politica a 360 gradi sua l'Italia da Salvini fino al governo quindi opposizione maggioranza ma chiunque continua a dire che è un'azienda strategica è quello che continuiamo a dire noi come cacchio fa a essere un'azienda strategica che trasporta l'8% dei passeggeri internazionali dai per l'Italia no questo te lo spiego io questo te lo spiego io il dizionario è chiaro cioè strategico è quello che il mercato non paga esattamente o no o quello dove pensano di poterci mettere i loro consiglieri per prendere l'auto i stipendi e così compensarli per il lavoro che fanno no tra l'altro posso dire una roba che c'ho proprio pensare pensa alla produzione di energia elettrica sì la Spagna che è un paese abbastanza statalista ce l'ha praticamente tutta privata senza praticamente tant'è che noi possediamo il loro adesso mi ricordo il più grande Endesa o Iberdrola ma insomma una volta la più grande Endesa però forse Iberdrola è cresciuta molto che credo Iberdrola l'abbia superata no su questa roba qua io c'ho una roba qua sui consiglieri cioè in un paese normale non sarebbe accettabile che un consigliere d'amministrazione dell'incambiente elettrico fosse consigliere del presidente del consiglio sul sul Grand Hill io credo che questa sia una roba che tutte le volte che leggete il nome di Mariana Mazzucato sul sui giornali e cose del genere dovete dire questa non parli di quello che le pare intanto ci minchiate su tutto però parli su quello che le pare ma non parli sulla cosa dove ha un plateale conflitto di interesse ma devo dire che è un'abitudine ormai in Italia non si nota più io mi ricordo quando la sinistra italiana adesso deviamo dell'argomento però scusatemi l'effetto dell'età si non ridiva aveva scoperto nel 93 94 i conflitti di interesse di Berlusconi io ero contentissimo mi ricordo che il consigliere di Pagliarini io e Franco Peracchi passiamo settimane a lavorare con amici per scrivere una bozza che era anche molto decente chissà se Franco c'era ancora di una legislazione che mai venne attuata in Italia sul conflitto di interessi per politici e grandi amministratori dello Stato italiani allora c'erano quelli di sinistra che ti facevano alla corte adesso sono contenti come una Pasqua violano le regole sul conflitto di interesse ogni due secondi c'è questo signore che fa il commissario agli acquisti d'accordo è un buro è un non so come dire un boiardo di Stato che allo stesso tempo controlla miliardi di offerta e non riescono a capire che non puoi mettere uno che fa gli acquisti dallo stesso che al contempo controlla anche l'offerta e invece no perché così può fissare il prezzo come hai potuto vedere per le mascherine è lui che decide domanda decide offerta e fissa quindi il prezzo scusa in Italia succede che uno controlla la domanda controlla l'offerta e fissa il prezzo sbagliato sbagliato stavo per dirlo esattacolare adesso mi tocca una battuta più approfondita sul prezzo e le mascherine però volevo rispondere dicendo a Michele che faceva ritornare il conflitto di interessi berlusconiano si torna all'aggiustizialismo di prima cioè quella era una battaglia politica e non c'entrava niente il merito della questione e lo stesso adesso se non fa comodo la questione politica il problema non esiste cioè questo il giustizialismo è questo sparo contro la persona che voglia abbattere tutte le altre indipendentemente dalla realtà del problema le lascio in piedi hai perfettamente ragione ma io sono un illuso che continua a pensare che le classi dirigenti almeno quei dodici principi ma non sono mica tanti nove dei governi degli stati liberali democratici sono pochissimi dovrebbero tenersi agli saldi ma non importa per fortuna ci siamo noi che generazione di disillusi con Enric lo vedo devastato dopo questi ultimi giorni volevo lanciarvi un'ulteriore riflessione che appunto prende lo spunto dal contesto della discussione mainstream sull'energia green sui problemi dell'ambiente eccetera eccetera in questa fase di prime settimane dell'emergenza sono diciamo spuntate tantissimo Enric lo sappiamo bene perché nel contesto dei filosofi se ne sono sparate di ogni su questi temi tutti contentissimi le città sono deserte è l'occasione per tornare ai miei pastori direbbe d'annunzio nelle valli dell'Arcadia invece concretamente che cosa succede nel campo dell'energia cioè tutte le grandi discussioni sulle rinnovabili adesso che il prezzo del petrolio è a terra come siamo messi nella realtà e non nel nostro iperuranio di pensatori si può fare uno share screen su sta roba qua posso? guarda prova prova non l'ho ancora provato tu tenta e a caso mai si rompe tutto a caso mai cade ancora Michele esatto 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 dipende cosa vuoi cioè con quello che vuoi condividere eccolo qua lo dovreste vedere spero ecco va che figo è un grafico di ieri messo ieri è una cosa totalmente casuale no? perché il dio dei liberisti ci assiste ieri l'agenzia internazionale dell'energia ha messo online questo grafico che è molto carino cioè la variazione della domanda di energia elettrica tenete conto l'energia elettrica è circa un quinto del consumo di energia complessiva però va bene come proxy in una serie di paesi in una serie di paesi dal giorno 1 del lockdown che è chiaramente diverso da paese a paese ora l'Italia in tutti i paesi c'è stato un calo drammatico dovuto alla riduzione dell'attività economica l'Italia è uno dei paesi anche per la durata del lockdown dove il calo è più pronunciato ora questo vuol dire essenzialmente due cose primo che tutti quelli che sono preoccupati degli uccellini che non respirano eccetera quest'anno siamo a posto abbiamo abbattuto le emissioni nel 2020 molto più di quello che avremmo immaginato di poter fare naturalmente non nel modo in cui avremmo voluto perché non l'abbiamo abbattuto grazie a una tecnologia migliore ma grazie a una riduzione dell'attività economica ma così è ma la seconda cosa che è ancora più importante è che verosimilmente per tutto il 2020 e per almeno un pezzo del 2021 la domanda di energia resterà più bassa di quello che ci saremmo immaginati avremo un calo del PIL vuoto per pieno superiore al 10% quest'anno un po' di ripresa forse l'anno prossimo rimarremo comunque sotto dove eravamo questo vuol dire che avremo un eccesso di capacità produttiva per quanto riguarda l'energia elettrica e sicuramente non mancheranno altre fonti in giro per il mondo quindi dal punto di vista della politica energetica questo è un momento strepitoso non bisogna fare niente dimentichiamoci di parlare dell'energia non è un problema non abbiamo problemi di offerta non abbiamo problemi di ambiente non abbiamo problemi di niente quindi io veramente il mio appello occupandomi e quindi contro il mio interesse occupandomi di economia e dell'energia in qualche maniera ma non parliamone proprio non è un problema in questo momento non volevo dire state zitti in generale non parliamone e cade il silenzio intimorisci a proposito di energia Carlo dato che il prezzo del petrolio è sicuramente una delle variabili importanti sul mercato aereo molti mi hanno sempre chiesto ma siccome sta cadendo il prezzo del petrolio allora anche i prezzi dei biglietti aerei tenderanno a decrescere e io dico no in realtà no perché le compagnie fanno edging quindi si coprono se guardate adesso si sono coperte circa 700 dollari il prezzo attuale intorno ai 150 dollari e quindi in realtà fino a fine anno le compagnie continuano o anche oltre fino al 2021 le compagnie pagano un prezzo del petrolio molto più elevato e quindi questa caduta dei prezzi non potrà arrivare sui prezzi dei biglietti ma oltretutto sul tema del trasporto aereo specialmente in Italia c'è un tema ulteriore veramente preoccupante che è quello che io chiamo che i nostri ministri hanno evidentemente in mente quello che si chiama il trasporto 8.0 che cos'è il trasporto 8.0? è quella tipologia di trasporto che c'era negli anni 80 cioè dove potevano viaggiare solamente ricchi dove i prezzi dei biglietti erano eccessivamente elevati e probabilmente dove c'era un grande monopolista pubblico che riceveva sussidi o comunque aveva grandi aiuti diciamo da parte dello Stato se questo veramente è quello che ci aspetta bisogna fare molta attenzione è un rischio enorme io lo continuo a ripetere uno dei più grandi rischi è che si va verso una legislazione dove non solo si aiuta con aiuti diretti nazionalizzando un'azienda con mezzo miliardo di euro per questi mesi e poi riceverà altri miliardi di euro nei prossimi anni questo forse è il rischio minore il rischio maggiore è che si fa una regolazione dove tutti devono essere ineficienti tanto quanto è l'Italia perché questo dovrà essere il disegno di qualcuno che andrà verso un mercato totalmente distrutto con pochi rispetto ai 161 milioni di passeggeri che abbiamo avuto nel 2019 rispetto ai 53 milioni del 97 quando si è aperto un mercato quindi tre volte tanto si torna indietro si torna indietro praticamente di 30 anni di 40 anni a questo punto se questa è la normalità che ci si aspetta dovremo fare attenzione perché sarà molto caro viaggiare in giro per l'Europa quindi il prezzo del petrolio avrà un impatto sì probabilmente su qualche costo i costi ha un impatto rilevante in funzione delle compagnie sul tasco sul per posto di un metro offerto ma al tempo stesso si andrà verso un mercato poco concorrenziale con costi elevati anche magari da distanziamento sociale deciso solamente in Italia ma non in altri paesi quindi immaginatevi le compagnie aeree che devono chiudere un sedile aprire il sedile in funzione di dove atterrano questo è divertentissimo e questo fa capire quanto sia debole il coordinamento a livello europeo dovremmo andare invece verso un coordinamento sul mercato europeo però questo è quel rischio enorme che ci aspetta quindi non è tanto legato non è solo legato agli aiuti a una singola compagnia quanto quello che potrebbe aspettarci in futuro nel frattempo questo commento di Giuseppe La Regina che sto mettendo in sovraimpressione io vorrei far notare che questa normalità che forse era il vero problema è quella che ci ha portato a vivere nel momento di maggior benessere maggior prosperità maggior ricchezza per il maggior numero di persone possibile e io non smetterò mai di ripetere ma ho messo questo commento in evidenza perché questa è la mentalità dilagante c'è un sacco invece evidentemente a loro piace un mercato lei come si guadagna da vivere io faccio questa domanda esatto 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 non mi dicono come si guadagnano da vivere non discuto c'è conflitto di interessi anche museologico ho detto bene dottoressa professoressa non è solo tanto quanti soldi vengono spercati qua ma anche soprattutto voler essere a favore di solamente una classe agiata che può permettersi di viaggiare questo è quello che vogliamo questo è quello che voglio basta che lo dicano chiaramente se questa è la decisione in cui si vuole andare lo dicano questo è il mio obiettivo come ministro come va bene va bene basta essere chiari se invece vogliamo tornare avere un trasporto dove tutti poteranno viaggiare compresi i studenti magari allora invece dobbiamo andare verso una liberalizzazione seria del settore e non tramite distorsioni che continuiamo a vedere non solamente in Italia ma anche in Europa perché non è che se l'Italia sbaglia con l'Italia e gli altri copiano l'errore italiano e loro fanno bene e noi abbiamo fatto giusto no noi facciamo una cavolata e loro fanno una cavolata bisogna dirlo se il mercato europeo non si possono prendere decisioni da singolo stato a singolo stato il mercato va visto come un mercato unico europeo il mercato è europeo ormai del trasporto Andrea su questo secondo me però vale vale appena dire che vale per l'economia quello che non vale per l'epidemiologia cioè in economia c'è una differenza sostanziale tra le compagnie aeree ma non solo che stanno male per il coronavirus e quelle che stanno male con il coronavirus Air France KLM sta male per il coronavirus all'Italia starebbe male anche senza e quindi c'è una differenza sostanziale tra salvare l'una e salvare l'altra aiutare l'una e aiutare l'altra verissimo però a mio parere si vale anche fuori naturalmente dal coronavirus infatti dico sempre il mio famoso grafico adesso volendo potrei anche condividere anch'io però se guardiamo non vogliamo dire troppo di male il mio grafico è grosso quanto il tuo balle spaziali è plateare che a Milano lo spritz lo fanno un po' prima che in Veneto perché il mio adesso arriva la prossima qua secondo me fatto sta che le compagnie erano in profitto l'anno scorso gli EBIT learning before interest delle compagnie erano tutte positive tranne quella di Elitalia che perdeva 2 milioni di euro anche in tempo di pace le altre compagnie stavano di fatto facendo dei profitti ora mettere tutti sullo stesso sullo stesso piano le compagnie come giustamente dici te è sbagliato però è sbagliato anche un intervento di ogni singolo stato perché non è fattibile dovrebbe essere coordinato questo intervento perché se no si vengono a creare delle distorsioni di mercato in un mercato che è unico d'accordo ma questo è una delle tambi ora vedi Andrea io non mi metto perché ci si mette si dice sempre lì questa è una delle tante prove che la comunità europea nel senso dell'insieme dei sistemi politici dei paesi europei sono tremendamente in ritardo sui fatti come nella sanità perché anche questo non è competenza non c'è ma scusa e le decisioni sul distanziamento sociale quello che dicevo prima l'aereo deve a terra dovrebbe essere uguali anche perché adesso un aereo volerà da un paese all'altro spera che no deve andare bene entrambi i lati in realtà un paese e un aereo in una giornata si fa in Europa 15 paesi diversi esatto parlavo ieri con un mio amico che è country manager di una delle della forse più grande compagnia aerea globale come fa una compagnia aerea pensare di fare degli investimenti sono una certezza della legislazione in cui dovrà atterrare e se in ogni paese dell'unione europea dovrà avere una legislazione diversa ma io come faccio a pensare di far ripartire il traffico diventa quello che si dice in spagnolo una locura una pazzia questo però è il livello che purtroppo stiamo vivendo tutti quanti però il problema è che non ci sarà più un mercato giuricino turbo capitalista è anche poliglotta voglio dire adesso cominciamo puoi esagerare è un out of the model Andrea aggiungo anche la questione secondo me fattore psicologico cioè chi potrà non utilizzerà il trasporto pubblico per parecchio tempo anche per proprio appunto questa mancanza di regole questo caos questa confusione la consapevolezza che le grandi città non riusciranno minimamente a mettere in atto le regole di distanziamento che abbiamo detto e tutti in macchina da soli chi può e chi non può si beccherà il trasporto pubblico per diciamo avete qualche notizia su misure molto pratiche che stanno prendendo soprattutto Roma-Milano grandi città per il trasporto urbano e ultima cosa se insomma da qui a breve si faranno qualche qualche investimento serio di infrastrutture urbane extraurbane per insomma se è stato se è stato perlomeno così faccio solo un punto se tu vai a vedere i bilanci delle compagnie delle aziende di trasporto pubblico locale vedrai che di solito la gran parte dei costi più del 50% è legato al costo del personale bassissimo ad esempio sono i soldi messi negli investimenti poi cambia da città a città è chiaro che questa è sempre stata la strategia dei diversi comuni che gestiscono le diverse aziende perché perché chiaramente il costo del personale significa molti voti tenete conto attacca circa 11.500 dipendenti di cui circa il 12% e mezzo non si presentano ogni giorno cioè senza coronavirus circa 1500 persone non vanno al lavoro Milano con gli stessi numeri di vetture chilometro fa invece a circa 9.500 dipendenti ma poi poi in altri casi addirittura abbiamo ancora maggiore efficienza detto questo è chiaro che tutte queste cose tutte queste inefficienze tutti questi sprechi di soldi ti paghiamo perché come diciamo spesso io e Carlo da da curbo liberisti come ci chiamano se se non si pensa a liberalizzare il mercato non si pensa a far risparmiare lo Stato a migliorare i servizi poi alla fine ti ritrovi nel momento peggiore della storia a voler vendere all'Italia e infatti è andata voler avere ancora più soldi pubblici per il trasporto pubblico locale e in questo momento non ci saranno soldi molto probabilmente o magari li danno e poi vedremo a dicembre in che situazione saremo e vedremo che soluzioni verranno trovate per ritrovare altri soldi Tra fantopsi e che cozzalone mi pare siamo siamo in quella in quella forbice all'Italia ha avuto un commissario un commissario straordinario che si chiamava fantopsi ecco tutto torna fu anche ministro esatto 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 fu anche ministro e venne venne scelto una famosa privatizzazione all'italiana con i famosi imprenditori capitani coraggiosi scusate che io criticai in maniera molto 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 dura venne scelto e fu quello che gestì il famoso la prima Bad Company quella da 3 miliardi la prima 3 miliardi di euro creata diciamo pro di Berlusconi fra pro di Berlusconi Jack Sparrow no non era Jack Sparrow non era capitano Jack Sparrow ok no ho sbagliato film ho sbagliato film sono dei commenti bellissimi su Andrea c'è una che ha detto ogni tanto sembra che Andrea si alzi e decidi dare una testata alla testata alla testata e che c'è lo schienale che va avanti e indietro e quindi vengo lanciato prima di salutare i nostri due amici perché se no altrimenti ci tirano le orecchie di nuovo che andiamo fuori aspetta prima di questo Michele volevo dire una cosa ora chat stai calma noi adesso avremmo 10 minuti di buffer ok quindi noi fino alle 19.50 ce la prendiamo con comodo cioè nel senso anche perché dovete sapere che Lucrezia io mi sono assentato 10 minuti perché mi sono fatto uno spuntino io ho detto a Lucrezia Lucrezia appena torno io vai via tu lei è rimasta cioè Lucrezia ma dove cazzo le freddi le energie ma cominci a scontarmi scusa ma scusa ma hai profetizzato lo stoicismo da anni io sto ho interiorizzato le regole sì però ho anche fame cioè nel senso non ho capito io ho tutto lo stoicismo io vi comunico che fra un po' adesso qua appaio in compagnia con sprizzetto allora questo era un modo elegante per farmi fare la pausa quindi la faccio e vi do tranquillissimo tranquillissimo no io però prima di salutare loro ero curioso di sapere se l'ascoltatore che ci aveva suggerito che tutto questo è frutto del sviluppo tecnologico perverso della crescita insana degli ultimi anni che quindi dobbiamo tornare alla normalità che è pascolare le mucche e mangiare frutta secca ci ha detto lui di cosa guadagna di come non l'ha detto però mi ha semplicemente detto che non devo usare slogan non devo usare slogan oh ma sarà sempre che mai una volta uno di questi che mi dica che lavoro fa no niente da fare non dica niente da fare vabbè niente anche stavolta io speravo che l'appeal di Carlo e Andrea portasse qualcuno a dire davanti a te niente e anche stavolta scopriamo che è incredibile 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 quasi certamente un piccolo imprenditore nel settore del del trasporto privato Carlo Andrea ci venite su Daily Cogit una volta vi invito su Daily Cogit ci venite sì che ci venite quasi un affarista proprio Veneto ogni volta gli affari ma io sono di Genova quindi aspetta calma poi ne parliamo bene ormai vivi a Milano tanto di quel tempo non è vero abbiamo appurato che tu sei in Pakistan in questo momento quindi no non mentire non mentire non mentire scusami ma quando quando hai avviato il grafico in una località non ben definita tra le altre cose non ben definita quando hai avviato il grafico il commento che mi ha fatto più ridere fino a questo momento è stato uno che ha scritto i grandi mezzi delle caverne in Pakistan mi sono spaccato da ridere perché è bellissimo bellissimo vabbè ok fantastico però io credo io credo io faccio questo a pronostico ok se le cose continuano ad andare come stanno andando un giorno noi turbo liberisti ci troveremo a dover fare veramente i video dalle caverne in Pakistan con i socialisti che ci cercano con gli elicotteri gli aerei pagati no 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 gli elicotteri producono emissioni quindi cercano piedi o al massimo cavallo a cavallo del Condor arriveranno a cavallo del Condor esatto cavallo del Condor basta e non voglio sapere con cosa ci bombardano non voglio sapere con cosa ci bombardano quindi io ringrazio tantissimo è ora di cena Mike fermiamoci è un passo avanti nella guerra chimica basta Mike smettila è ora di cena grazie mille a Carlo e Andrea è stato è stato molto molto interessante grazie per l'intervento veramente vediamo anche qualche battuta se non siamo veramente così speriosi ma guarda io continuo io continuo io durante questa questa maratona sto ridendo tutta l'altra volta quindi non c'è proprio pericolo per me ciao 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 Andrea ciao 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 oh mamma mia guarda abbiamo abbiamo qualche battutina niente e niente e niente e niente e il mistero io c'ho i misteri guardi i misteri degli anonimi e i misteri di quelli che mi vogliono dire che bisogna stare tutti a casa e non mi dicono mai che lavoro fanno e niente cioè mi rovina la vita ma sono anonimi forse che non so se è anonimo eh lo spritz ce lo facciamo o cosa la pausa spritz adesso non posso lasciare Rick qua da solo davanti a folle inferoncite dal mondo vabbè guarda io continuo a selezionare commenti Mike non c'è nessun problema devo dire devo dire che tu hai hai una ormai l'ho vista il tuo bioritmo di queste maratone hai visto che parti alto vai ancora più alto poi c'è una fase in cui si vede mi sei venuto fiat in de sono ma dopo la birretta delle sei tre quattro sette basta in realtà però ho modificato ho modificato un po' il ritmo ho modificato un po' il ritmo se tu hai visto io ho cominciato a selezionare dei buoni commenti già all'inizio così mi sono tenuto così questa roba del commento deve avergli preso gusto perché questa volta bellissimo ma perché abbiamo le chat più belle del mondo come fate lo spritz ma guarda Riccardo io lo faccio lo farei col select solo che praticamente non si trova che è una giusta via di mezzo e della sana maniera di farlo da queste parti però siccome vi siete vi siete scusami si sono fatti tutti abbindolare chi dà la Milano da bere chi dà Aperol Spitz mi ha fatto con l'Aperol perché il Caparis è troppo forte di alcol se no devo farlo leggero allora non va bene ho rivelato ma se va bene dai va bene allora direi di far entrare i prossimi due ospiti che sono in salita anche da troppo tempo quindi io do il benvenuto a Vitalba Azzolini e Stefano Zanero benvenuti ciao ciao ragazzi ciao ciao Vitalba ciao Stefano come benvenuti noi siamo abbiamo deciso che fra un po' andiamo in spritz dopo è passata tutta la giornata a mele tè caffè di un certo fisico per sopportare otto ore di diretta comunque insomma noi siamo dei neoliberisti su dei comodissimi divani l'unica roba che ci è mancata per il momento è il cocktail ma io lo sostituisco con la birra sul divano te la sei segnata ormai non ce la leviata ma è lui che me l'ha fatta notare quello lì aspetta è da quell'altro lato Michele io non sento Rick io sento voi benissimo e non Rick non so come devo fare come non mi senti non mi senti anche prima nei video di prima io non sento Rick ma com'è possibile tutti mi sentono i tecnici siete voi prova tu fai le domande a Stefano e le faccio a Vitalba no no Michele di a Vitalba di uscire e rientrare perché non ha molto senso non ha senso che tu senti me Stefano non senti Rick quindi provare a uscire e rientrare la stanza prova a fare qualcosa nella ciao Stefano allora tanto mi chiedi calma rientra scusami hai detto qualcosa ti ho parlato sopra no dicevo è la soluzione informatica base uscire e rientrare esatto esatto ma anche trogloditi ma anche persone intelligenti e forse molti di questo circolo non lo conoscono ancora però l'altro giorno c'era appunto in una bella intervista di Massimo quindi lasciamo che si presenti lui e poi Vitalba che è già un po' più nota prego Vitalba intanto mi senti stavolta? adesso sì per fortuna sono contenta non volevo perderti va bene io sono un professore associato al Politecnico di Milano mi occupo di il motivo per cui non sono forse noto alla folla che segue le vostre chiacchierate che non mi occupo di economia non mi occupo di diritto mi occupo di cyber security e quindi penso di come dire di essere un pochino estraneo forse al linguaggio cercherò di come dire di venire incontro al linguaggio al linguaggio di questa chiacchierata che mi sono ascoltato prima di entrare dallo streaming YouTube almeno tu sai qual è il linguaggio quindi bene sono contento almeno qualcuno che sa qual è il nostro linguaggio Vitalba io però volevo dire che in realtà Stefano ha fatto una splendida conversazione su Liberi Oltre che è stata fruibilissima anche per non avere dei lavori infatti inviterei chi non l'abbia vista con Massimo Famolaro ha discusso ha fatto una bella conversazione e io poco fa ho dichiarato su Twitter di averla vista per la bellezza di tre volte quindi ci tengo a dirlo quindi comunque è anche conosciuto Stefano per questo io sono una giurista in una autorità di vigilanza mi occupo a titolo personale di molti temi in questo momento tra l'altro di temi che hanno molto a che fare con l'emergenza Covid-19 dalla limitazione dei nostri diritti tramite strumenti non sempre adeguati e a proposito apri chiudo parentesi grazie Michele per ciò che mi hai riconosciuto all'inizio di questa maratona quindi del fatto di aver parlato di alcuni profili di legittimità di queste compressioni che ci sono state fino adesso scrivo su molti siti collaboro con l'istituto Bruno Leoni sono contributor per la voce scrivo sul sito web di Mario Seminerio quindi fastidio e su altri liberi oltre per me è diventato ormai casa mia è un salotto e mi ci trovo molto bene anche questo tengo molto a dirlo pieno di turbo liberisti pieno di turbo liberisti ma guarda te che roba allora tu la devi spedere questa roba di turbo liberisti poi convinci la gente che la parola è sensata non lo è e che lo sono anch'io lo sai una vita che ti dico mi non sono liberista mi offendo a parte che non ho parlato di te ormai nella maratona dopo le sette io parlo veneto però se stavolta eviti di bestemmiare qualche dio forse guarda non lo so cioè alcuni considerano qualche dio io so che non ho idea Asco a Michele sta calmo Michele sta calmo Michele modera partiamo dalla prima questione controversa che è quello che mi ha anche stimolato a mettere Stefano con Vitalba per guardare alle questioni diciamo così di politica interna di un'eventuale riapertura mi pare che la questione mi pare che obiettivamente la questione più seria e possiamo anche andare al di là dell'app è la seguente esiste una esiste una corrente di pensiero io l'accetto al 35% al momento anzi sta calando verso il 29 l'accettavo molto di più due mesi fa secondo cui l'unica maniera razionale compatibile con la sicurezza la salute e la sicurezza pubblica di gestire il covid è di avere un continuo e accurato tracing delle persone e cioè una capacità di sapere fondamentalmente non tanto statisticamente come sono distribuiti che percentuale lo prende eccetera come facciamo per dire con le influenze anche le più gravi e come io ho chiesto all'istat di fare da mesi ma abbiamo promesso che lo stavamo facendo e passato un altro mese continuano a non farlo noi non abbiamo ancora un campionamento stratificato nazionale che ci permetta di capire le caratteristiche sociodemografiche locae bla 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 delle persone che la contagiate o non contagiate io trovo la cosa drammatica ma le due altre autorità con cui ho parlato mi hanno detto con tono di supponenza sempre che ti incazzi aspetta un attimo ci stiamo lavorando uno mi ha anche detto ma pensa di essere capaci di fare le cose sull'al nord vabbè i tedeschi invece che sono inandoriamente cretini e ladri la cosa ce l'hanno in piedi da 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 un numero che non so neanche contare di settimane allora esiste sta idea e questa idea che noi monitoriamo isoliamo quindi io partirei da lì diamo questa idea per giusta non stiamo a discutere che è epidemiologicamente erronea no perché ci mettiamo a discutere di un altro argomento cioè stiamo a discutere se volete dopo quando c'è un margine oh che festa c'è la tua amica Vitalba ciao Vitalba ciao Susanna le voci fuori campo in questa live la stanno facendo da padrone bisogna dire allora ecco io quello che voglio discutere con voi è come riusciamo a fare questa cosa in una maniera che sia tecnicamente ragionevole non follemente costosa e che sia rispettosa di quello che nella società occidentale consideriamo essere le libertà individuali il tema di fondo è questo perché insomma la società italiana si sta orientando e non solo l'italiana in quella direzione a me sembra un problema che tutti devono porsi no? Vitalba vuoi che cominci io o vuoi cominciare tu? fate voi guarda faccio dico solo questo anche allora anche io penso che sia stato quanto mai opportuno il fatto comunque di abbinare Stefano Zanero e me perché perché comunque giustamente nell'ambito in questo diciamo sotto il cappello del Ministero dell'Interno perché la sicurezza che è uno dei compiti del Ministero che quindi deve essere tutelata e proprio in questo momento viene in considerazione anche sotto il profilo della sicurezza sanitaria che non è competenza di questo Ministero ma comunque parliamo di competenza di sicurezza in senso lato e dunque anche una app per il tracing è uno strumento che ci dovrebbe consentire di riaprire con maggiore sicurezza io posso valutare una sicurezza in termini giuridici e qual è una sicurezza in termini di garanzie di diritti e libertà dei singoli individui Stefano Zanero ne può valutare la sicurezza in termini tecnologici la cosa molto molto bella e per cui io appunto dicevo è molto opportuno che siamo stati abbinati è che le nostre due scienze tra virgolette sono strettamente interconnesse e dunque a seconda della diversa soluzione tecnologica che può essere adottata per questa app di tracing a seconda della diversa soluzione il diritto deve conformarsi e quindi offrire garanzie proporzionate rispetto allo strumento con cui si andrà ad incidere sulla vita delle persone perché un'app non è solo un'app è uno strumento che in qualche maniera e lo vedremo dopo perché adesso ce lo spiegherà subito Stefano è uno strumento che può anche condizionare la vita delle persone incidere sull'esistenza propria e su quella degli altri e dunque sull'intera collettività e dopo questa breve premessa cedo la parola Stefano grazie abbiamo gli ospiti che si automoderano questa cosa è una pacchia è una pacchia è una pacchia prego libertà pura che sta facendo l'aperitivo alla faccia c'è rostra e quindi il avevo tolto il video apposta per un momento per non crearvi invidia poi mi son detto ma va invece fai bene peccato non averci pensato prima a prepararmi adesso è un po' difficile mi sbaglio o noto un leggero accento emiliano no non è un accento emiliano me lo dicono tutti è che mio papà era piemontese ma cercava di parlare in italiano forbito e per qualche motivo l'accento è venuto fuori simile emiliano mia mamma è milanese questo vescolanzo abbia fatto bisogna darlo in mano a qualcuno che si ha più copito in fonetica e scopra le no assolutamente sì ma del resto il cognome anche se viene dal Piemonte è Veneto quindi non so benissimo che vescolanza ci sia successa e questo confermerà Lucrezia che in realtà quando organizziamo le maratone Enrico e io siamo totalmente bias tutta la vita e orgogliosamente comunque la questione che Vitalba ha posto in termini giuridici in realtà si replica pari pari anche in termini di sicurezza perché io dico sempre una cosa ogni tanto ci sono alcuni colleghi che magari partono dal presupposto di dire ah paranoia esavirci se uno fa sicurezza deve essere paranoico se uno è paranoico si deve far curare la sicurezza è il bilanciamento del controllo versus quello che tu vuoi proteggere cioè è inutile che tu rinunci a quello che vuoi proteggere per proteggerlo adesso non vorrei fare una battuta in inglese che sicuramente Michele conosce collegata a fare qualcosa rispetto alla virginità ecco non mi sembra magari anche se non è il momento non è il posto però se noi stiamo cercando di proteggere le persone e la loro ritorno alla normalità per fatto stesso dobbiamo cercare di farlo e non di fargli di fargli entrare in una diversa normalità lì sul contract tracing in realtà diceva bene Michele cioè non è che noi ci possiamo interrogare sulla sua utilità la sua utilità è dimostrata da cento anni di storia dell'epidemiologia cioè il fatto di fare test trace e treat è la triade dell'epidemiologia da quando esiste l'epidemiologia il punto qual è è che di queste tre T noi dovremmo avere test che non abbiamo non abbiamo ancora un numero sufficiente non li abbiamo fatti nel modo campionato che diceva Michele che secondo me è uno di quei misteri che io ancora non riesco a spiegarmi poi qualcuno più intelligente di me me lo spiegherà però insomma e e treat la terza T in realtà come mi ha spiegato ma io lo sapevo già però l'ha spiegato in maniera molto Tranchant così come sul solito Roberto Burioni ha detto sì ma siccome treat non lo sappiamo trattare treat in realtà è isolate cioè prendi la persona e la isoli questo è treat non è che ci sia un altro trattamento da dargli non abbiamo un vaccino non abbiamo una porofilassi lo metti lì lo isoli il contact tracing si fa da sempre cioè quando c'è un caso di meningite ogni tanto si leggeva adesso la pandemia è un po' cancellato tutto il resto però si leggeva ogni tanto nel caso di meningite e viene isolato come facendo contact tracing si prende la persona che ha la meningite gli si dice ok dimmi dove sei stato negli ultimi x giorni con quante persone hai mangiato che hai visto con chi sei stato a letto li chiamo li tratto e in questo modo conteniamo lo sparge il problema è che in questa specifica malattia la malattia si propaga anche dagli asintomatici si propaga prima che le persone abbiano i sintomi forse non si sa precisamente si sa che probabilmente si propaga poco o meno tutto quello che si vuole però ci sono una serie di cose che indicano che se noi aspettiamo di fare il contact tracing tradizionale quindi che ci si mette un paio di giorni insomma per recuperare le persone eccetera questo paio di giorni crea un problema e allora sono usciti con l'idea di fare il contact tracing anche digitale che lo vorrei dire anche qui anche se l'ho già detto nell'intervista con Famularo però non so se quelli che sono sopravvissuti alle otto ore poi dopo vanno a guardarsi anche l'intervista tutti dicono ah sì perché l'hanno fatto in Corea no in Corea del Sud perché hanno una confusione tra la Corea del Sud e la Corea del Nord credo nella testa in Corea del Sud però non hanno fatto quello cioè non hanno fatto l'app in Corea del Sud hanno preso un battaglione di contact tracer di investigatori e quando c'è un caso questi qui guardano lo interrogano e poi guardano tutto guardano per dire il tracciato della carta di credito ah questo ha pagato nel ristorante X alle 19.50 di lunedì vediamo quanti altri hanno pagato tra le 18 e le 22 in quel ristorante lunedì li prendiamo tutti e li andiamo a tracciare prendiamo le telecamere di sorveglianza all'intorno fino al parcheggio e guardiamo i filmati cioè questa è l'approccio coreano al contact tracing quindi interrompo un attimo Stefano vorrei applaudire perché è stato per diverse settimane magnificato il sistema sud coreano la app di tracing sud coreana e pochi sapevano che in realtà il sistema di tracciamento era un sistema molto più complesso nel senso che comunque non solo giustamente Stefano per far capire a tutti ha fatto l'esempio che è veramente molto evidente del ristorante ma c'è un sistema di diciamo di controllo usiamo anche questa parola delle persone attraverso gli strumenti delle delle carte di credito che usano attraverso le movimentazioni bancarie attraverso le loro assicurazioni attraverso le telecamere di sicurezza che ci sono e c'erano anche tanti tracciatori manuali quindi è un sistema molto più complesso il fatto che la sud corea sia una democrazia non è non significa che tutti i diritti e le libertà e la quella che noi definiamo come privacy sia tutelata così come la è da noi quindi ecco vorrei dire che questo che sta dicendo Stefano ci consente di fare anche un po' di chiarezza sul tanto lodato sistema di tracciatura sud coreana che è un sistema veramente incompatibile con la tutela della privacy sulle garanzie con le garanzie delle nostre libertà preferisco dirla in questo modo perché la privacy in questo momento non ce ne stiamo occupando con la garanzia delle nostre libertà che si realizza nel nostro ordinamento chiedo scusa Stefano per l'interruzione è giusto questo deve essere un dialogo siamo invitati in due è giusto che sia un dialogo anzi interrompimi tutte le volte che vuoi così ti ascolto e mi fa piacere come tu dicevi è una questione di libertà e anche di sensibilità la sensibilità asiatica rispetto alla privacy è semplicemente che la privacy non esiste fondamentalmente è il contrario cioè la privacy è perché gli altri rispettano beh 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 poi esageri un po' o sbaglio no Michele correggimi se sbaglio no no direi no l'affermazione per quello che io conosco tre o quattro paesi asiatici tra cui Cina Corea poco devo dire Cina e Giappone c'è molto più l'etica del rispetto tra le persone e del fatto di dire che ok tu sei lì davanti a me stai facendo una cosa ma siccome non sono fatti miei per me è come se non esistesse quindi ma direi che è la seguente quello che fai a casa tua è molto sacro quello che fai in pubblico molto di meno se posso provare una differenza con noi hai ragione hai ragione io ho notato una fortissima tendenza a tenere del tutto super privato quello che succede a casa e molto meno appunto queste cose sì sì questo hai ragione è comunque è comunque un altro l'aspetto pubblico della vita non l'aspetto sì è comunque una ragione e poi anche lì sempre nell'ottica di quello che diceva Stefano che è un concetto lui parlava di bilanciamento nell'ambito delle soluzioni tecnologiche è esattamente il bilanciamento tra diritti e libertà che vengono in gioco in qualunque soluzione in qualunque situazione ecco è che noi tra l'altro dobbiamo valutare anche nel prendere in considerazione questo strumento di tracciamento che comporta comunque da un lato il diritto alla salute dall'altro il diritto alla riservatezza dall'altro ancora il diritto alla libertà di circolare la libertà di circolazione esercita costituzionalmente ecco vorrei dire diciamo nei paesi asiatici il bene della collettività viene prima del bene dell'individuo e il bene dell'individuo concorre a quello della collettività e quindi nel bilanciamento fra le due esigenze diciamo che quella della collettività ha un peso maggiore io penso di interpretare in questo modo quello che Stefano stava dicendo insomma mi intrometto così la cosa quindi diciamo spostare questa cosa nel nostro no no Lucrezia vuole parlare Lucrezia non volevo no 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 se volete io così per ah non mi senti molto in ritardo forse Stefano tu senti Lucrezia zero la prima Vitalba non sentiva me adesso Stefano non sente Lucrezia sono stato maleducato ma involontariamente giuro ti faccio da tramite Lucrezia dimmi cosa vuoi chiedere così io poi lo chiedo a Stefano ma è un discorso un po' complicato adesso da tradurre a due però lo lo sintetizzo al massimo perché stiamo parlando di del nostro mondo e del mondo orientale volevo mettere un'altra variabile che è stata citata in questa giornata e cioè la Svezia come un modello completamente diverso dove però è sempre al centro la questione libertà dei cittadini no e credo che la parola centrale in quel caso ma non so che cosa ne pensate voi sia fiducia fiducia dello Stato rispetto ai cittadini io ti do delle raccomandazioni e poi faccio appello alla tua responsabilità al tuo senso civico in Italia mi pare di capire forse anche diciamo abbinato a tutto quello che abbiamo detto sullo Stato padrone edico padre e quante ne vogliamo si fa invece riferimento a un cittadino che è anarchico e disobbediente e quindi è inutile pensare di responsabilizzarlo e allora ci pensiamo noi a rimetterlo in riga no non c'è speranza che lui che lui sono tristissimo perché sono unico ok Stefano ti riassumo brevemente Lucrezia ha questo cioè inserisce un terzo elemento fra Oriente e Occidente l'elemento svedese disquisendo del fatto che comunque si tratta di una relazione di fiducia fra lo Stato e i cittadini e qui in Italia forse noi abbiamo una mancanza di fiducia nel senso civico del cittadino che poi io aggiunco si riflette nel fatto che siamo la scuola che forma di meno nell'ambito del senso civico e queste cose qua quindi insomma c'è anche una mancanza di fiducia simmetrica nei confronti dello Stato esatto 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 volevo dire a proposito a Lucrezia l'esempio svedese mi sta molto a cuore mi sta molto a cuore ciò che tu stai dicendo circa i concetti di fiducia e responsabilità lo Stato ha fiducia nei cittadini ma direi che è una fiducia ricambiata i cittadini hanno fiducia nello Stato per quale motivo? la fiducia nelle istituzioni tra cittadini e istituzioni si compone di un elemento essenziale che è l'elemento della trasparenza istituzioni trasparenti sono in grado di indurre fiducia nei cittadini istituzioni cui i processi decisionali siano sottoposti al sindacato dei cittadini istituzioni che nel loro iperdecisionale rendano partecipi i cittadini sono istituzioni che godono del consenso dei cittadini perché i processi partecipati sono processi democratici allora vi dico che la Svezia è stato il primo paese al mondo ad introdurre alla fine del Settecento tra fine Settecento e inizio Ottocento il Freedom of Information Act sapete quando è stato introdotto in Italia qualcosa di molto simile al Freedom of Information Act nel 2016 realizzato diciamo poi attuato messo in campo intorno al 2017 vi rendete conto di che cosa ha significato questo? cioè che i cittadini svedesi hanno potuto avere accesso ai cosiddetti interna corporis e dunque alla casa dell'amministrazione quella che per noi fino a due tre anni fa era una casa opaca anziché la casa di vetro che teorizzava Turati all'inizio del Novecento quindi da loro c'è una tradizione culturale di trasparenza e la trasparenza genera fiducia istituzioni trasparenti sono istituzioni accountable noi qui oggi dovremmo parlare di un'app di tracciamento di cui sappiamo poco o nulla del cui processo decisionale sappiamo direi zero quindi di cosa stiamo parlando di fiducia di trasparenza scusate mi sono dilungata un po' troppo ma penso che queste premesse istituzionali ordinamentali culturali fossero necessarie taccio no non tacere che era una lezione bellissima in realtà la cosa della trasparenza è fondamentale ma è fondamentale anche per la sicurezza nel senso che nel modello che noi pensiamo per questa cosa ci sono una serie quelli che noi chiamiamo di attori di minaccia threat actor e tutti quando pensano alla sicurezza pensano al tizio malvagio che sta da qualche parte remota nel mondo e che entra nei computer ma in realtà la sicurezza non funziona così per esempio in questo tipo di applicazione uno dei threat actor è lo stato nel senso che è vero che l'applicazione ha una sua necessità e tutto quello che è ma noi dobbiamo fare in modo di dal punto di vista del rapporto fiduciario per esempio tutelare i cittadini da qualsiasi ingerenza nella loro vita e questo si ottiene creando un rapporto di fiducia che vale sia dal punto di vista della fiducia civica costruita negli anni ma c'è anche la fiducia ottenuta per mezzo informatico per esempio aprendo il codice sorgente dell'applicazione in modo che quelli come me che sono curiosi possano andare a curiosare che è una cosa che abbiamo chiesto a gran voce poi l'hanno messa sul sito del ministro dell'innovazione a un certo punto è sembrato quasi come dire ma sì ma l'avevamo già cioè era già così però va bene e sarà anche stato già così però prima è servito una settimana di urla per ottenere che fosse dichiarato così c'è un altro elemento che è quello su cui ho cercato di spiegarmi con l'intervista con Massimo adesso non mi ripeto che è quello della centralizzazione o decentralizzazione dell'applicazione con zero dettaglio tecnico ma decentralizzazione significa tutti i dati usati dall'applicazione stanno sul cellulare della singola persona che quindi ne rimane completamente in controllo centralizzazione vuol dire che in parte questi dati vengono trasferiti verso un'autorità centrale che il ministro Boz da par suo ha definito un serverone nella caserma e io sul serverone nella caserma ho avuto un attimo di io non sono il turbo liberista come dice Rick Duffer ma sul serverone nella caserma ho avuto un attimo penso che abbia fatto venire il rischio di un coccolone a chiunque abbia un minimo a cuore il proprio cervello è stato un attimo è stato un momento difficile la mia vita di Silvio Servant è stato un attimo complicato però ecco la centralizzazione dei dati di cui gli informatici hanno discusso anche troppo forse indica proprio questo in un modello completamente decentralizzato il dato sta sul cellulare la segnalazione parte dal cellulare dell'utente autorizzato dall'autorità sanitaria che gli dice se sei stato positivo se inserisci questo codice nella tua app verrà segnalato che tu eri positivo in modo anonimo in modo completamente privo di riferimenti personali però verrà segnalato tutti i contatti che hai avuto epidemiologicamente rilevanti questo si può fare in modo completamente distribuito senza nessun nome attaccato a nessun identificativo e quindi non perché io faccio cyber security e sono un talebano della privacy un no tracks e altri epiteti anche meno eleganti ma perché è meglio fare così cioè se tu puoi fare la stessa cosa raccogliendo meno dati la fai raccogliendo meno dati il dato che non hai raccolto non ti può essere sottratto e non può essere abusato da chi? dalle aziende dallo stato dall'aggressore dall'hacker cattivo da chiunque non c'è non c'è quindi per per farlo essere cioè per per convincere uno come me ma anche uno che banalmente voglia studiare questa cosa in modo razionale a creare il dato centrale ci deve essere one hell of a reason ci deve essere una giustificazione il problema sì certo il problema è che nel paese dove ogni volta in cui si dice la parola perché tu stai parlando di una di un movimento di tipo federale cioè è una federalizzazione dell'uso dell'applicazione però sappiamo bene abbiamo discusso prima che in un paese dove ogni volta in cui si parla di federalismo in ogni senso viene in mente Bossi che dice che ce l'abbiamo ce l'abbiamo più bello degli altri è un casino e tutto si riconnette è federato non federale ecco sì sì esatto esatto comunque è un database federato quello che stiamo descrivendo e purtroppo il timore è quello che quello che diciamo prima cioè la mancanza di fiducia reciproca che c'è fra fra la parte centralizzata dello Stato e quella periferica quindi il cittadino si traduce poi nel fatto che chi attualmente ha il potere non solo vuole cercare di mantenerlo ma lo vuole rafforzare ora quello che tu hai detto le mancanze che tu hai esposto dell'applicazione di questa immuni che ripeto ci abbiamo messo dieci giorni per capire bene effettivamente quello che doveva e poteva essere si traduce poi in una serie di elementi che denotano mancanza di fiducia in ogni senso mi viene in mente tutta la questione autocertificazioni che è al tempo stesso il modo più deleterio per dire ok mi fido di te cittadino però poi che lascia totalmente all'arbitrio dell'autorità competente l'interpretazione di tutte quante quindi è veramente devastante ma in realtà appunto la discussione dal punto di vista informatico non si pone nel senso che dal punto di vista informatico tutto quello che si può fare con una applicazione centralizzata si può fare con l'applicazione decentrata peraltro la discussione è ridicola perché è già stata come dire scavalcata da Apple e da Google perché Apple e Google hanno detto ok per fare questa cosa in modo efficace noi dobbiamo implementare alcune cose nei nostri sistemi operativi certo noi lo facciamo e lo facciamo in modo da supportare soltanto un modello decentrato voi fatelo come volete ma quello decentrato funziona esatto meno esatto era quello che intendevo prima quando ho parlato con Forchielli e Scacciavillani se volete usare i nostri telefoni meglio che siete centrato perché noi bravissimo era quello che intendevo prima quando chiedevo del ruolo dei big all'interno della situazione con Forchielli e Scacciavillani cioè in realtà i big soprattutto su questi discorsi stanno avendo un ruolo importante perché stanno a priori comunque e giustamente incanalando un certo tipo di intervento di sapere di discorso che fortunatamente ecco per fortuna ci sono i big di questo tipo che incanalano già un discorso e impediscono a priori che poi pure efficienza più un po' devo dire per Google e Apple di queste cose che Stefano conosce meglio di me che a un certo punto di vista Silicon Valley 1980s quando ero giovane ma ho una osservazione per tornare però una cosa che in realtà è collegata adesso l'ho perso quindi non importa il nome ma il concetto io non sento più Vitalba non sento Vitalba ma cosa sta succedendo ma probabilmente Streamy Arcade ha qualche problema la mia domanda era per Vitalba però ecco adesso rientrerà vediamo in attesa di Vitalba ti dico cerca Rick un interessante commento di un tal John Spencer in puro Veneto di circa dieci minuti fa non volevo interrompere che aveva a che fare con l'applicabilità del metodo tracing digitale carte di credito che raccontava Stefano e suggeriva dice nel caso nostro bisogna fare impronte digitale sui schei perché la carta di credito qua noi usemo che è anche vero nel senso che in Italia ha visto l'abbondante utilizzo del contante in quasi tutti i piccoli servizi cioè quelli bar ristoranti dove poi il contatto random è più frequente quindi dove un tracing è più rilevante perché se il contatto è a casa tua non serve l'app vi sentite? sì sì Vitalba però io non sento Vitalba ma vabbè però voi la sentite quindi va bene nessuno la sente Vitalba ma forse c'è un problema di aggiustamento del microfono quando sei in sala d'aspetto perché questo aggiusta aggiusta guarda c'è la devi selezionare sulla rotellina il giusto microfono se c'è un microfono giusto non te lo offre non sente me quindi digli cosa deve fare è un problema io non sento lei nessuno e quindi se io non sento lei scriviamo nel frattempo che scrivete nella chat magari aggiornandola allora rilancio la questione ecco ci sente no fate voi fate voi io parlo con Vitalba qui no dicevo mi sembra secondo me in realtà la cosa che mi fa sorridere di tutta questa cosa che è difficile sorridere in questi giorni in realtà la comunicazione è che se prima di tutto questo qualcuno mi avesse detto ma facciamo implementare a Google ed Apple un modo per sapere chi ti è stato vicino negli ultimi fatti giorni io avrei fatto le barricate con il col cucile spianato quindi cioè ci rendiamo conto che già questo è una concessione straordinaria se noi ci togliamo dalla mentalità del problema corrente questa è una concessione straordinaria che stiamo facendo quindi quando qualcuno arriva e dice sì ma non basta prima vediamo che cosa si può fare con questo e soprattutto dimmi che cosa manca epidemiologicamente parlando e io ti dirò come implementarlo nel modo migliore possibile certo 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 tutte le volte qui c'è l'unica osservazione è ah ma se noi raccogliessimo più dati magari in futuro li possiamo usare per qualcos'altro certo e questo è esattamente il motivo per cui non devi raccogliere più dati certo 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 c'era Lucrezia che voleva dire qualcosa io Vitalba non la sento ancora allora sì no io parlo solo che Stefano non mi sente ecco Stefano adesso c'è Lucrezia che sta parlando tu non la senti quindi io ti faccio da tramite ok vai Lucrezia grazie a Dio che Rick ci sente tutti è incredibile e cioè volevo è troppo rapida scusami Lucrezia è troppo rapida devo chiamarla no nel senso che secondo me è troppo rapida e quindi non fa l'aggiustamento del vai vai ok allora vabbè Stefano non mi sente quindi traduco faccio intanto un'osservazione preliminare su questa idea di usare l'app in Italia quando il paese è assolutamente impreparato con la digitalizzazione di tutto e quindi l'idea che possa essere utile anche qua mi sembra molto relativa a problemi ancestrali invece volevo inserire un'altra variabile nel discorso di uno stato diciamo controllore che è quella legata alla morale cioè lo stato non solo ci vuole controllare per gestire l'emergenza sanitaria ma ha frammentato tutte le sue richieste diciamo per cercare di coprire lo spettro dei comportamenti umani immettendo un'altra variabile cioè la questione proprio del moralismo dove siamo noi adesso anche in controllore degli altri cioè non c'è soltanto lo stato che ci controlla le grandi aziende che vogliono i nostri dati e una sorta di realtà che si è trasformata in una puntata di black mirror ma c'è pure un trasformarci in controllori anche moralizzatori certo degli altri quindi forse c'è anche questa cosa etica dello stato etico proprio in un certo senso sì esatto cioè allora Stefano riassumere la domanda di Lucrezia è praticamente un'impresa impossibile dopo con tutta l'informatico mi sono collegato su youtube in streaming e ho sentito Lucrezia grande cazzo anche perché c'è un sacco di birra in corpo sono la terza birra guarda sarebbe stato impossibile di aver fatto un casino incredibile quindi vai perfetto no ma in realtà non è una domanda è un'osservazione eccezionale cioè è vero che tutto questo ci ha reso più aggressivi anche nel controllare il prossimo questo in parte magari psicologicamente ha anche senso la cosa che mi preoccupa è questa qui non è da informatico ma da persone che si occupano di sicurezza perché la security ha gli stessi pattern che tu parli di antiterrorismo che parli di sicurezza informatica funziona allo stesso modo per certe cose adesso non so se quanti di voi diciamo prima delle attuali condizioni hanno viaggiato l'ultima volta in aereo però una delle cose più fastidiose che succedono quando si viaggia in aereo è la questione dei liquidi del fatto di dover togliere i liquidi dalla borsa questa cosa che molti credono che derivi dall'11 settembre non deriva dall'11 settembre deriva dal caso di un povero disgraziato che ha provato a far esplodere un aereo mescolando liquidi in una toilette e non l'ha fatto esplodere post 11 settembre stava facendo l'iniziatore no non ha funzionato quindi non avendo funzionato la decisione giusta dal punto di vista della security sarebbe stato non fare niente in realtà noi abbiamo inserito una regola che è sbagliata è una regola che non ha nessun senso non troverete mai un esperto singolo di sicurezza antiterrorismo che vi dica che quella regola ha senso quella regola è letteralmente l'incarnazione del dobbiamo fare qualcosa e questo qualcosa deve essere il massimo di divieto che io posso fare senza rompere troppo le scatole ai viaggiatori e questo divieto ce lo teniamo tuttora sono passati 15 anni non serve a una mazza chiunque lo sa che non serve a nulla e ce lo teniamo tuttora quindi le cose che facciamo adesso nel corso dell'epidemia non è detto che se ne vadano alla fine dell'epidemia quindi il ragionamento non va fatto ah ma adesso siamo in emergenza facciamo tutto eh no perché quando fai tutto se lo fai in maniera tale che possa scusa Stefano ma tu sei sicuro che fai solo l'informatico non fai anche lo scienziato politico no non faccio lo scienziato politico ci va anche solo quella guarda no no scienziato politico no 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 quello che studia i politici come gli entomologhi studiano credo le formiche per un lavoro simile al mio io li studio li guardo sono delle formiche dei vernetti si ricordano una cosa fondamentale che stai dicendo che tutti continuano a escludere presi dal panico del oh mio Dio ed è ogni disastro è venuto fuori già tre volte nella discussione di oggi per altre cose simili forse Vitalba ci ha provato vediamo sentiamoci a Vitalba no no oggi non è il giorno di Vitalba porca loca tesoro mi sentite? sarebbe stata ah ora si aspetta per un momento mi sentite? ricca adesso ce l'hai tu spento ricca è in muto però ricca sei tu ti sentiamo Vitalba allora io vi sento bene benissimo io ho perso naturalmente un sacco di momenti di conversazione allora quello che vorrei che volevo dire prima quindi mi son persa e quindi scusatemi non ho sentito quello che avete detto nel frattempo con riguardo a ciò che diceva Stefano e quindi al fatto che comunque il sistema Apple e Google è un sistema che ovviamente è totalmente anonimizzato nel senso anonimo nel senso che comunque si scambiano i due cellulari i due codici non si sa niente ma quella è solo una parte del sistema di cui si sta parlando in Italia nel senso che noi stiamo da quello che si sa che come dico è poco il al tracing che ripeto secondo il sistema Google Apple non avrei nulla da ridire ecco il tracing deve seguire poi un'altra fase che è quella del testing ma tra la fase del tracing e la fase del testing c'è un enorme buco nero e noi non sappiamo cosa accade in quel momento e cioè come spiega la prima Stefano è molto facile nel momento in cui una persona che ha liberamente scaricato l'app sul proprio cellulare va a fare il test viene riscontrata positiva il medico le chiede di inserire il codice e questo codice manderà degli alert a tutte le persone con cui il soggetto certamente contagiato è entrato in contatto stretto nelle ultime due settimane il concetto di contatto stretto è definito dagli scienziati e l'app sarà strutturata in maniera tale da rispettare questi criteri benissimo a una a centinaia di persone arriverà questo alert tramite l'app che si stessi hanno scaricato sul loro cellulare cosa succede? qualcuno è in grado di dirci che cosa succede? perché uno stato ritorniamo al concetto di fiducia lo stato mi dice devi essere responsabile devi badare alla tua salute ma la tua salute è anche la salute degli altri nel momento in cui tu puoi contagiarli ecco uno stato di cui io mi voglio fidare con trasparenza mi deve dire che cosa succede dopo l'alert perché se io ricevo l'alert e quindi io so che potrei essere contagiata di una malattia che ha fatto morire decine di migliaia di persone e poi quello stato non mi dice cosa accade non mi dice se ci sarà un medico che verrà a visitarmi perché guardate io posso rivolgermi al mio medico di base il quale medico di base non è detto che abbia i dispositivi per entrare in casa di un sospetto contagiato e poi contagiare tutti gli altri suoi assistiti a chi mi rivolgo devo telefonare a qualche numero verde ecco guardate io ho esperienze di persone a me molto vicine in varie regioni d'Italia che stanno aspettando ancora che quei numeri verdi dei numeri indicati rispondano allora che cosa finirebbe per diventare questo alert se uno Stato non è in grado di dirmi non di garantirmi che domani mattina venga qualcuno ma di dirmi cosa accade di dirmi qual è un numero di telefono a cui io sicuramente potrò rivolgermi e potrò avere una qualche forma di assistenza perché vi dico anche questo io ricevo un alert e io sono un sospetto contagiato a quel punto se sono una persona responsabile io non mi muoverò di casa ma anche se io fossi una persona irresponsabile non dovrei muovermi di casa in attesa che qualcuno venga a visitarmi e non posso muovermi di casa perché c'è una norma di legge che pochi conoscono e che pure sta lì contenuta nel decreto legge numero 19 di 2020 la quale norma dice che i dpcm possono anche prevedere una quarantena obbligatoria per i soggetti che siano venuti a stretto contatto e questa parola stretto contatto la ritroviamo nel decreto legge che disciplina l'app per il tracing quindi obbligo di quarantena per i soggetti che siano venuti a stretto contatto con un contagiato la norma della quarantena per chi sia venuto a stretto contatto a contatto la ritroviamo nel dpcm quello che entrerà in vigore dal 4 maggio ma c'era anche nel dpcm del 10 aprile quindi io ho delle disposizioni per cui responsabile o meno non mi muovo da casa qualcuno mi dice vabbè ma l'obbligo giuridico di non muoverti da casa scatta quando un medico ti viene a visitare ma allora io cosa faccio in quello lasso di tempo che è il buco nero in attesa che un medico mi venga a visitare o esco e corro il rischio di infettare tutti oppure sto in casa in attesa che qualcuno dal servizio sanitario nazionale accolga la mia richiesta di aiuto e tutto il tempo che io passerò in casa attaccata al telefono perché qualcuno venga è una illegittima restrizione della mia libertà personale perché io in quel momento non sono una persona contagiata per cui se esco posso essere imputata di diffusione di virus quindi di una fattispecie penale io in quel momento sono un cittadino che è stato messo in una situazione ansiogena senza che nessuno mi sappia dare una risposta ma neanche un colloquio con un medico quindi io direi che in questo momento quel lasso di tempo quello che ho chiamato come buco nero fra il testing fra il tracing e il testing è l'incognita più grande io ho letto attentamente il decreto legge che disciplina l'app disciplina poi è una parola grossa quel decreto legge contiene dei principi dei macro principi ma noi la disciplina non la possiamo sapere da lì noi lì abbiamo visto che ci sarà una piattaforma presso il ministero della salute che il ministero della salute è il titolare del trattamento ai sensi del GDPR che saranno rispettati i principi del GDPR per carità come vedete io non ne sto facendo una questione di privacy la privacy può retrocedere tranquillamente a fronte del diritto alla salute lo prevede lo stesso GDPR però scusa mi sono fatta prendere dall'entra no guarda Vitalba è stato però adesso io non sento più Rick non sente più me fantastico fantastico mi vuole parlare della Svezia ma abbiamo finito il tempo ne parliamo io abbiamo lasciato abbiamo lasciato sforare la scaletta per la prima volta per così tanto perché in parte Vitalba non ha avuto il tempo di esprimersi e poi perché quello che ha detto è stato molto molto interessante quindi abbiamo abbiamo sforato il tempo quindi abbiamo sforato il tempo intenzionalmente ci sono Carlo che ci aspetta abbiamo un saluto Stefano io ti ringrazio tanto per per aver partecipato è sparita Vitalba hanno fatto il tempo a salutarla eh Vitalba è puff e sparisce adesso speriamo che torni e eventualmente noi la salutiamo da qua grazie Stefano è stato un piacere e grazie anche per le cose che ho imparato perché da Vitalba e da Lucrezia ho imparato delle cose sono sempre molto felice bene bene siamo contenti anche di questo ecco Vitalba Vitalba mi senti adesso mi sento sì bene no dicevo che sei l'unica ospite che ha sforato di molto la scaletta perché mi sono sentito di lasciarti andare eh no ma uno non hai avuto il tempo di scordi prima e due hai detto cose interessantissime quindi grazie mille per la partecipazione veramente e quindi grazie grazie veramente a entrambi grazie a entrambi ciao ok entriamo negli ultimi 90 minuti l'uomini è per bene di me sì assolutamente come? no non so se era un insulto nei miei confronti Lucrezia sei un gentiluomo tra gli altri perché ci abbiamo Merigliano che è tornato da voi non ci fosse la mia conta rossa stasera abbiamo Stefano Merigliano in ritorno dal campionamento di voi Patrizia e Carlo benvenuti rapida presentazione Patrizia presentati da sola così non faccio sbagli mi occupo sarò breve come si dice mi occupo da vent'anni di gestione organizzazione beni culturali ho gestito gestisco ho gestito musei sono il presidente dell'associazione nazionale delle imprese che si occupano appunto di questo settore chiamato cultura benvenuta benvenuta e Carlo Amenta benvenuto ciao buonasera a tutti faccio molto prima insegno economia e gestione delle imprese a Palermo e mi occupo un po' di marketing turismo faccio molto prima sono molto meno titolato a parlare di Patrizia ma insomma mi tiene Michele anche per la quota sud quindi diciamo mi sembrava giusto abbiamo già citato svariate volte oggi noi veneti finché si facevano lo sprint io invece sto con un'italianissima birra purtroppo perché non mi so fare neanche i cocktail non sono capace neanche di questo non sei un buon liberista allora Carlo no 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 per niente non neanche quello non sei scritto al partito come? guarda che io sono extra comunitaria addirittura sono sarda con madre veneziana madre veneziana ah beh allora padre piemontese mezzo un casino pazzesco incredibile praticamente sei per un momento che avessi detto col fatto che sei analcolica no no ho anche un marito veneto voglio dire e allora via 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 perché noi ci riconosciamo soltanto nella nazione dell'alcol giusto? io comunque prima di cominciare vorrei ringraziarvi perché non mettevo una camicia dai tempi in cui Churchill celebrò la vittoria di Ella Lamaine e quindi diciamo vi ringrazio per questa ragione che non usavo più le camicie da due mesi molto bene queste sono buone notizie buone notizie per partire parto io per rimettere in sesto le cose tra alcol impossibile impossibile abitus e abiti no io sono molto curiosa di sapere le vostre risposte perché il settore mi interessa molto in quanto mi occupo di un festival culturale di solito si svolge durante tutto l'anno ma in estate quindi siamo nel così stiamo navigando a vista nella nebbia quindi la prima domanda è c'è qualche spirale il 18 maggio riaprono biblioteche e musei per la cultura gli eventi dal vivo gli eventi culturali quelli diciamo del cosiddetto turismo culturale c'è qualche scenario qualche scenario diciamo previsto al governo qualche scenario che invece possiamo prevedere cioè domanda secchissima vacanze 2020 e cultura che fine fanno quest'anno la patata bollente il silenzio è indicativo il silenzio assordante Patrizia comincia tu comincia tu allora guarda io comincio con una frase che conoscete bene godetevi la guerra perché la pace sarà tremenda allora questa situazione qua in cui ci troviamo in una bolla distopica voglio dire alla fine dei conti è la fase più tranquilla il dopo sarà qualcosa di terremotante credo intanto voglio chiarire che in realtà questa data del 18 maggio non esiste non esiste nel DPCM non esiste da nessuna parte è un'ipotesi che peraltro ha fatto il ministero dei beni culturali ma è un'ipotesi allora si può dire che probabilmente stante voglio dire le verifiche dal 18 maggio si possono aprire musei e luoghi della cultura musei quali i privilegiati quelli che partiranno per primi saranno quelli che c'hanno i parchi i siti archeologici quelli che sono grandi diciamo e soprattutto anche con superfici esterne Pompei probabilmente il Colosseo o il giardino di Boboli ovviamente il resto dovrà verificare anche perché bisogna fare una serie di investimenti chiaramente nella sicurezza del personale che sarà all'interno e nella sicurezza del visitatore le linee guida da questo punto di vista non sono ancora uscite Confcultura ha pubblicato un vademecum insieme alla fondazione Italia di essere in salute sanitario di come dire norme basiche per applicare che possono essere applicate dappertutto il ministero deve ancora esprimersi tu parlavi dei festival giustamente parliamo dei concerti parliamo dei teatri il settore della cultura credo che sia il settore più parcellizzato di tutti ognuno sta andando per conto proprio abbiamo decine 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 di appelli tutti fanno gli appelli alcuni anche più come dire fantasiosi altri più seri per esempio P.G. Battista sul Corriere della Sera ha ripreso una serie di appelli lanciando lanciando insomma questa idea che poi tanto idea non è quella di un fondo voglio dire esclusivo per la cultura poi ci sono delle proposte creative Zanda senatore della Repubblica propone di dare in garanzia i nostri beni culturali musei teatri ma anche palazzi del governo come garanzia per avere soldi aiuti o meglio per avere fondi da dare in aiuto a questo settore ha anche fatto un'ipotesi di valore una sessantina di miliardi ovviamente molti l'hanno preso per Totò insomma che vendeva la fontana di Trevi no? eh vabbè ti vendi la fontana di Trevi però te la puoi rivendere tante volte in fondo forse non era nemmeno un'idea malvagia che ne so si poteva trovare qualche sceicco che era disponibile come dire a mettere un chip immaginifico eh vabbè appunto il settore è creativo e come tale deve proporre delle soluzioni creative facciamo invece i confronti dando i numeri no? eh allora un benchmark per tutti la Germania la Germania ha immediatamente finanziato creato un fondo per il settore di 50 miliardi di euro mettendoci dentro non soltanto i sussidi dell'emergenza appunto voglio dire quella parte della guerra in cui ci troviamo adesso ma creando un fondo di recovery fund diciamo così a medio termine per ritornare oppure per ricominciare oppure per fare qualcosa di nuovo ma in senso di sviluppo invece l'Italia ha semplicemente codificato quello che era già il FUS fondo appunto dello spettacolo 130 milioni per lo spettacolo dal vivo ma era già stato previsto quindi da questo punto di vista dal punto di vista dei numeri dal punto di vista dei numeri siamo a zero in questo momento che è molto semplice a parte i sussidi che sono stati dati a tutti cioè i 600 euro alle partite IVA e così via ma tutto quello che poi significherà io so di teatri che stanno eliminando la platea per vedere di ospitare gli spettacoli sono nei palchi so l'auditorium di Roma per esempio lo sta facendo proprio in questi giorni diciamo che la situazione sta diventando molto molto creativa e questo è positivo tutti si sono dati al web c'è una fioritura su web che credo non abbiamo mai quasi una bulimia ahimè tutto questo però è gratuito quindi come mettere a reddito questa parte qua e chiaramente che cosa sta venendo fuori ora faccio come dire un po' un salto da cavalletta sta venendo fuori una voglia pazzesca di nazionalizzazione come è stato fatto per l'Italia voglio dire perché il settore della cultura non può essere lo stesso e abbiamo anche un ministero che spesso si è come dire dimostrato come io lo chiamo il gentil organizateur del club mediterraneo no? Veri bello ce l'avete presente eh mamma mia ogni volta che qualcuno dice veri bello un grafico muore nel mondo quindi attenzione 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 quindi voglio dire c'è una tentazione no? in un certo senso le imprese che ho Patrizia scusa cioè il settore della cultura è quello in cui lo Stato negli ultimi decenni ha messo sempre di più il naso cioè nel senso voglio dire proprio il settore che è più martoriato dalla questa tentazione quindi mamma mia assolutamente assolutamente che è un settore che anche nei momenti di benessere vive moltissimo di enormi e ingenti finanziamenti pubblici quindi è un grande male di questo settore sì 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 a parte vive di finanziamenti sussidi ma vive proprio di rapporto col pubblico il festival voglio dire tu devi andare a parlare con l'ente locale il comune piuttosto che la regione la provincia sia per avere il suo pubblico per avere i permessi tutta la burocrazia voglio dire che all'interno di questo settore dipende tutta dal pubblico e anche appunto la sopravvivenza e anche la vita spesso e volentieri quindi questa voglia di nazionalizzazione che c'è è come dire anche una sorta di via di fuga verso il comodo no? qualcuno che mi deve sostenere ci deve essere e questo pone un problema le imprese che per esempio io rappresento anche che sono concessionarie dei servizi all'interno dei musei in realtà non sono mai riuscite a diventare mercato perché il mercato è stato impedito dal settore pubblico le imprese che sono entrate dentro i musei per gestire i servizi io dico sempre si sono pubblicizzate perché sono diventate una longa mano sostanzialmente del pubblico adeguandosi a quello peraltro con entrate i ricavi dei musei italiani che hanno i servizi sono 200 milioni l'anno certo stiamo parlando della metà del solo Louvre proviamo a sentire anche sì anche vai vai Lucrezia vai poi sentiamo anche Carlo volevo aggiungere solo una cosa così per per esperienza è chiaro che ecco ci sarà una selezione naturale in questo campo terribile e vinceranno solo quelli che hanno già le spalle coperte gli altri proprio affonderanno è verissimo l'altro giorno alla cafoscari per un seminario ho raccontato lo storytelling della quarantena cioè tutti questi artisti intellettuali del mondo della cultura che si sono buttati online all'inizio galvanizzati con il piglio del andrà tutto bene e ora sempre più depressi dicendo esistiamo ogni corporazione fa il suo appello volevo aggiungere soltanto sulla questione delle amministrazioni e del turismo che anche lì c'è un grandissimo populismo molto spesso nel dire investite nel settore della cultura o vi interessate della cultura per l'estate quando dovreste investire interessarvi di cose ben più importanti in questo momento e perché quell'investimento diciamo delle amministrazioni di tempo soldi è diciamo non ha anche quella ricaduta sul turismo che normalmente si aspettavano come i teatri che aprono a capienza limitata sì ma chi può aprire a capienza limitata chi non non sopravvie con l'incasso no comunque caro la patata è sempre più bollente non so come puoi prenderla in mano adesso no in realtà io posso solo peggiorare la situazione ho spogliato per questo no nel senso nel senso che a me sembra quando si parla di fase 2 un po' parafrasando Orwell tutti i settori sono uguali ma alcuni settori sono più uguali degli altri il caso della cultura che io assimilo al turismo perché buona parte della domanda turistica è una domanda di turismo culturale quindi di cultura in realtà non fai conti con un tema fondamentale che secondo me è proprio quello della domanda cioè quando noi parliamo di riaprire le manifatture o di riaprire alcune anche alcuni servizi che possono essere fatti smart working stiamo parlando di roba che alla fine si può fare con modalità nella quale la domanda è qualcosa che sta lontano dal processo di produzione nel turismo e nella cultura la domanda è una parte integrante del processo di produzione una delle caratteristiche del marketing dei servizi che io purtroppo tormento con la quale tormento sempre i miei studenti è che il momento della produzione di un servizio coincide col momento della fruizione per questa ragione il problema fondamentale secondo me che sta alla base è ma questa domanda di turismo o di cultura continuerà a esserci o le condizioni mutate di questo maledettissimo covid 19 ci porteranno ad avere una domanda talmente spaventata che per riuscire a soddisfarla noi dobbiamo porci in un'ottica completamente diversa Patrizia volo fa giustamente parlava di quella fruizione i parchi archeologici o di quelle situazioni nelle quali è possibile avere in qualche modo un'offerta più sicura ma dando per scontato la possibilità e la necessità di dare a tutti una sicurezza nella fruizione ma davvero noi immaginiamo che la visita a un museo che io perché io sono una bestia quindi non faccio testo per carità ma veramente uno dei momenti in cui uno davvero non pensa all'ordinario possa essere regolamentata con mascherine distanza sociale in maniera tale da essere in qualche modo privata di un aspetto che è fondamentale se pensiamo al turismo io penso agli alberghi il turismo ha un'altra complessità che è quella che dicevamo prima che cos'è il prodotto turistico il fondo è il prodotto turistico è qualcosa che non è fatto da chi produce dentro quel settore l'albergatore è una parte del prodotto intero il museo è una parte di quel prodotto il trasporto la destinazione è una parte di quel prodotto cioè il prodotto turistico è talmente complesso che in qualche modo l'idea di fondo è che io posso fare il turista posso fare il turista anche quando una delle cose principali che fanno i professori qual è? girare il mondo facendo finta di lavorare mandandosi a guardare le più belle città questa è una delle cose che io ho imparato a giocare a golf perché ho detto facendo il professore vado fuori stai diventando autobiografico tu che sei un professore vero viaggi molto più di me quello che non giochi a golf ma questo è un tuo difetto uno dei pochi diciamo allora allora il tema cioè guarda se immagino Michele con una mazza da golf in mano immagino già una persona a fianco a lui a terra priva di sensi ma anche tu alimenti questa cosa che io sono violento non è vero non è vero non attacco mai per parlare non attacco mai per prima vedi Michele sei malizioso io non ho mica detto perché la persona è priva di sensi a fianco a te cioè vedi che subito subito sei tu che ecco io non ho detto niente io non so veramente da dove tu abbia non avrei mai insinuato niente del genere no e allora qui secondo me non lo dico io perché non lo posso dire più però il tema diciamo a questo punto secondo me in qualche modo il tema dell'intervento pubblico a sostegno di questo settore in qualche modo cambia prospettiva secondo me e mi spiego meglio su questo non possiamo non lasciare liberi gli imprenditori di questo settore di intercettare la domanda secondo quella che è in qualche modo la visione imprenditoriale di questi soggetti cioè chi meglio di Patrizia può sapere come rassicurare la sua domanda di visitatori al museo chi meglio dell'albergatore può sapere come provare a rendere più sicuro e quindi meno ansiogeno lo stare in una camera d'albergo cioè il tema secondo me qui è ancora una volta quello di liberare dall'intervento dello Stato non di peggiorare l'intervento e mi spiego in qualche modo meglio cioè la mia idea è che ognuno di questi operatori del settore deve essere libero al netto dei problemi che avremo dico l'organizzazione mondiale del turismo parla di meno 30% per darvi un'idea meno 30% degli arrivi internazionali turismo per darvi un'idea la crisi finanziaria ha portato un meno 5% quindi parliamo di uno scenario pazzesco va bene su questo non c'è dubbio c'è sicuramente forse una domanda non so se ho audio per far bloccarti da dove viene questa stima? è l'organizzazione mondiale del turismo meno 30% per l'Italia 2020 no tutto il mondo tutto il mondo e noi avremo meno 60% io parlo in generale del mondo stiamo parlando diciamo per l'international tourist arrivals nel mondo e per fare un esempio la crisi finanziaria portò a meno 5% quindi comunque diciamo diamoci una regolata su queste cose qua di un paese come Michele Giustante dottolineava l'Italia ha una media di impatto del turismo sul fil di circa il 13% la media mondiale è ben sotto questo 13% è al 10% la Sicilia da cui io vi parlo siamo al 22% è una Grecia diciamo inserita nell'Italia ma più o meno diciamo quello siamo allora l'idea che mi sono fatto io è che in realtà sia in termini di intervento normativo stimoli le battute però ma noi da soli finiremmo come la Grecia non è che saremmo lo sai noi siamo una piccola veniva inserita sussidiata dall'Italia ma andiamo avanti no ma tu sai anche non lo so se lo sai ma Tremonti che tu non ami molto ogni volta che vedeva il governatore della Sicilia Cuffaro ogni volta che vedeva Cuffaro diceva sempre il mio governatore della Grecia perché era il governatore della Sicilia quindi più o meno allora l'idea secondo me è che in questo settore l'intervento pubblico deve essere finalizzato il più possibile a un mix di contributi a fondo perduto per recuperare questi mesi di totale incapacità di aprire e poi invece con una parte anche di debito ma finalizzata a processi di innovazione lasciati agli imprenditori e la Sicilia lo ha già fatto ho visto che se ne parla anche a livello nazionale questi voucher ai turisti cioè l'incentivo economico al turista perché su tre notti ne abbia una gratis non servirà assolutamente a nulla perché il turista non sono le 100 euro in più le 200 euro in più che lo convincerà a venire in un posto rischiando come pensa lui in questo clima assolutamente di panico totale di morire lasciamo agli imprenditori la capacità di rassicurare il turista allora se dobbiamo prendere risorse diamole a chi lavora in questo in questo settore perché gli animal spirits diranno come fare a intercettare questa domanda esatto e aggiungo anche che anche sulla domanda ci sono delle leggende perché faccio l'esempio la la azzolina ha nel suo decreto ha detto che le scuole a parte che forse torneranno a settembre fino a dicembre non possono uscire quindi non potranno andare voglio dire ai teatri ai musei eccetera eccetera dall'altra parte l'altra metà del turista o del visitatore se vogliamo che è quello della terza età se ne starà a casa perché è impaurito voglio dire dalla recrudescenza o comunque dalla possibilità di beccarsi di nuovo il virus quindi pure quell'altra parte che era una delle parti maggiori di questa frequentazione non c'è la scuola è via la terza età via resta l'età di mezzo cioè resta l'età delle persone che vanno a lavorare e quindi saranno impegnate nel lavoro allora come diceva giustamente Carlo sono d'accordissimo ci deve essere uno sforzo di innovazione ci deve essere uno sforzo di uscire dalla scatola pensare out of the box vogliamo fare orari completamente diversi da quelli che sono stati fatti finora perché i musei devono essere tutti aperti dalle 10 del mattino alle 19 ma chi lo ha detto sono cambiate le cose forse dobbiamo aprire dalle 17 a mezzanotte e quindi poi non voglio parlare qui di problemi sindacali perché ne hanno parlato tutti oggi nella maratona però è chiaro che tutto questo ha cascata dei problemi però bisogna andare verso queste soluzioni che sono completamente diverse se noi continuiamo a rimanere ancorati ai custodi dei musei quindi alle esigenze dei custodi dei musei come è stato finora perché gli orari dei musei sono stati calibrati sui custodi non sul pubblico negli ultimi anni si è cominciato a pensare voglio dire in questo modo ma insomma c'è ancora strada da fare beh ci sono le ci sono le mi viene in mente per esempio non so il Mart a Rovereto fa ogni tanto le mostre in pigiama cioè nel senso fa delle nottate aperte ed è sempre un successo ci sono stato una di queste sono bellissime però io sono pienamente d'accordo con queste dopo cena è sempre stato uno dei miei sogni meraviglioso meraviglioso esatto e sta lì e dormi nel senso con le tende in museo meraviglioso la notte in museo proprio perché no purtroppo credo che credo che il settore noi qui stiamo toccando uno dei settori più anzi due dei settori più conservatori in Italia cioè quello della cultura e quello del turismo sono due settori che hanno una paura maledetta di innovarsi e infatti è per quello che dicevo prima sono anche più attaccati ai piccoli piccoli privilegi ultimi decenni perché poi sono piccoli privilegi se gli tocchi vanno fuori di testa ed è un problema molto grosso e credo che questo sia anche il riflesso di una tendenza che è molto massificata voglio dire in questi giorni faccio una piccola premessa io occupandomi comunque facendo conferenze e cose del genere per lavoro quando mi chiamano per fare eventi cose del genere io lavorandoci devo chiedere un compenso è inevitabile ok ieri in periodo non di crisi quando capitava una volta su dieci che una persona mi rispondeva quando io gli mandavo il mio cash e mi diceva ma no ma stiamo scherzando pensavo che lo facessi soltanto a rimborso spesa addirittura gratuitamente ecco oggi questa cosa si è moltiplicata enormemente nel senso ancora di più io ho tanti amici grafici artisti cosa del genere le richieste di lavoro gratuito sono esplose in virtù di un malcelato senso di solidarietà malcelato mal riposto senso di solidarietà che non è solidarietà ma è quasi la necessità di dire oh guarda ascolta tu fai un lavoro che è cultura la cosa veramente interessante è che arriva da gente che lavora nel campo della cultura e che ti dicono tu devi fare sacrifici il sacrificio non è veniamoci incontro il sacrificio è che tu sei sicuramente l'ultima ruota del carretto e quindi devi fare tutto a gratis ed è una e questa cosa si traduce poi istituzionalmente nel fatto che veramente questo è un settore dove chi è riuscito ad acquisirsi dei piccoli privilegi 30 anni fa 20 anni fa riesce ancora a mantenerseli ma tutti i new players sono lasciati allo sbango ed è terrificante il lato di selezione naturale che diceva prima Lucrezia non è selezione naturale è selezione innaturale perché i criteri di sopravvivenza sono legati non ad un mercato non alla competizione non alla concorrenza che sono cose sane cioè se io vengo estromesso da un mercato perché faccio il mio lavoro male mi dispiace per te ma è un bene ok no in realtà oggi veniamo estromessi da questo mercato perché non abbiamo acquisito dei privilegi ieri e quindi è una selezione totalmente innaturale ed è il vero pericolo il vero pericolo è che questa crisi che crea questa sorta di circolo vizioso faccia sopravvivere non quelli che riescono a sopravvivere grazie alle loro forze ma quelli che riescono a sopravvivere perché c'hanno quelli ammanicati ed è una roba terribile rischiamo di avere fra un anno un settore culturale ancora più devastato e secondo me scusami Rick aggiungo questa cosa andando anche a quello che diceva poco fa Patrizia sulla digitalizzazione e sull'innovazione è un settore nel quale quelli che insegnano marketing dicono la P di people la P delle persone è particolarmente importante e allora stiamo attenti questo è un settore in cui high tech high touch vale molto cioè il ruolo anche nell'innovazione in questo settore dico il turismo dico la cultura il ruolo della persona non possiamo fare la visita al museo virtuale faccio un esempio e va di moda per cui io sto seduto e guardo il museo per i fatti miei sul pc perché immagino che una persona come Patrizia che mi può spiegare quest'opera o quest'altra opera abbia un senso cioè anche nell'innovazione non dobbiamo stare attenti invece che il ruolo delle persone che è importante nel marketing dei servizi e della cultura resti lo stesso i podcast del professore Barbero di storia dico una cosa diciamo sono fantastici perché è lui che ce li racconta quindi lui vale molto di più di qualcun altro allora questo modello di business Patrizia diceva giustamente è tutto gratis beh se cominciamo a fruire in maniera diversa non può essere tutto gratis mi do la zappa sui piedi perché a me non mi vorrà nessuno per spiegare nulla però voglio dire è bene che le persone vengano pagate perché l'innovazione non significa non ho più bisogno di te ma anzi diventa un elemento centrale ma voglio far notare anche quanto sarebbe facile in questo periodo innovare perché innovare in realtà non significa dover ristrutturare completamente la propria mentalità no per esempio c'è un musicista ok che cosa ha fatto in questi giorni me l'hanno ricordato anche in chat ha fatto un concerto su Twitch ok su Twitch e ha avuto milioni di persone collegate ad ascoltare il suo concerto fatto esattamente come l'avrebbe fatto dal vivo ok ma fatto su Twitch e ha beccato un sacco di soldi perché poi su Twitch ci sono le donazioni e via dicendo gli abbonamenti ora in realtà c'è un lassismo da un punto di vista mentale nel campo della cultura del turismo per cui non si riesce neanche a vedere quei piccoli sforzi che ti permetterebbero di innovare senza dover rivoluzionare completamente tutto no invece ci si tiene a grapparti e infatti ultima cosa poi vi lascio la parola perché io veramente mi triggero come si dice in questi casi su questo campo però per esempio io ho visto un dibattito su Facebook in cui volevo prendere a testate lo schermo poi non l'ho fatto per fortuna e in cui c'erano delle persone che si occupano di arte digitale che dicevano a cavolo ma a causa di questa situazione il mio lavoro ne ha risentito e quando è che arrivano gli aiuti per noi queste sono persone che lavorano completamente completamente in digitale quindi persone che esattamente come la mia parte del lavoro sul web non sono state toccate in modo così forte eppure anche lì si chiede l'intervento dello stato bloccatelo bloccatelo che abbiamo 4 minuti perché adesso siamo arrivati però abbiamo 5 minuti di ritardo su tutto è molto tranquilla abbiamo 5 minuti di ritardo su tutto quindi abbiamo 10 minuti ancora eh ma YouTube eh no ma abbiamo gli ultimi 10 minuti di lasso tranquillo Mike siamo tranquilli abbiamo ancora 10 minuti il capo ha aggiunto 10 minuti di lasso allora io mi adeguo però hai perfettamente ragione mi adeguo come diceva un compagno una volta Rick ha perfettamente ragione il problema è proprio che è il settore stesso che vuole vivere nella burocrazia perché la burocrazia è rassicurante quindi qui c'è una sorta di sindrome di Stoccolma della burocrazia e pensate anche all'insistenza per esempio di inserire tutti compresi nuovi mestieri completamente innovativi diversi eccetera dentro i codici a teco un altro errore terrificante se non hai un codice a teco non esisti vai in banca senza il codice a teco ti chiami Mark Zuckerberg e dici mi sono inventato Facebook e ti dicono vabbè ma chi sei portami la firma di tuo padre perché siamo a questi livelli però questa parte qua della burocrazia in realtà è un qualcosa che rassicura rassicura lo stesso settore quindi è veramente forse l'occasione questa per demolire questo qui bottom up non più up top down ecco no io chiudo chiudo soltanto perché appunto poi il tempo è tiranno ma in realtà secondo me è poi una cosa importante sul turismo da non dimenticare che alla fine tempo fa il ministro credo sia l'attuale ministro Franceschino ha fatto un piano piano del sviluppo turizio e sembrava un po' un piano dell'Unione Sovietica con tutta una serie di cose in cui fondamentalmente si decideva al posto del turista cos'era bene per il turista che è una cosa tipica del governo allora io quello che dico sempre ai miei studenti è che alla fine il turista non vuole niente di diverso da quello che vuole il cittadino cioè in fondo chi è turista va in un luogo per viverlo così come lo vivono i cittadini e allora dando per scontato che noi non avremo delle città vivibili per un po' di tempo io spero pochissimo ho visto un sacco di roba che mi fa essere ottimista perché io sono ottimista allora attrezziamoci per sostenere chi può essere sostenuto perché ha un'idea per stare in piedi per il futuro perché stiamo attenti una cosa importante è questa non è vero che andrà tutto bene qualcuno finirà male e c'è il problema redistributivo su cui Michele spesso interviene qualcuno finirà male e allora facciamo in modo che chi può restare in piedi sia colui che ha già una capacità di innovazione ma ricordiamoci il turismo può ripartire soltanto quando le città saranno di nuovo quei centri meravigliosi di comunità di relazione di stare insieme che servono ai cittadini che vivono lì e alle persone che vanno a visitarle perché nessun turista vuole andare a vivere in un posto perché è un posto scusate l'espressione di merda ma perché deve essere un bel posto diciamo in cui i cittadini vivono bene quindi da questo punto di vista interveniamo ma interveniamo su chi ha l'idea per restare in piedi chi deve morire purtroppo non può essere salvato concludo soltanto c'è in chat qualcuno che sta dicendo tipo Mauro Concas la qualità di internet non è uguale a quella di un teatro ci vedi l'orchestra della scala suonare con la stessa qualità ma ragazzi ma porca mia ma collegate il cervello di Polpostrelli prima di scrivere queste robe ma scusatemi scusatemi nessuno sta dicendo che da oggi in poi tutti i concerti saranno su internet stiamo dicendo che nel momento di crisi in cui o non ti mangi la pagnotta ci sono un sacco di mezzi e dopo domani quando finirà questa ma lasciami per me un attimo perché non è solo la crisi un concerto su youtube o in video è comunque meglio di non concerto assolutamente costi diversi allarghi la sfera per carità ovvio cioè a tutti piacerebbe stare nel super teatro con la super orchestra è una merce rarissima la vogliamo andare a vederla in milioni e quindi ci sono delle gradazioni cioè anche io vorrei che tutte le mie macchie tutto quello tutti vogliono tutto il top c'è un grande problema psicologico al momento cioè tutti i problemi che avete detto sono verissimi ma dal punto di vista degli artistici c'è anche che non hanno mai sperimentato altri mezzi brava 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 è verissimo grazie 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 il Guggenheim il Guggenheim ha aperto tutto il suo catalogo in un sito in dove puoi vedere le cose non solo in altissima definizione ma pure in virtual reality ora è ovvio che non è la stessa roba c'è un problema culturale molto molto profondo cioè cambiare il paradigma non è non è semplicissimo però possiamo mettercela tutta però cioè devi cambiare anche la la mentalità ma almeno questa roba qui ci sarà servita a cambiare questo cioè per quanto fa schifo quantomeno bigliamoci ste cose buone ma si ma cavolo cioè approfittiamo ecco cioè io ho fatto ho fatto tre presentazioni di libri sul web e c'erano centinaia c'erano più persone che non dal vivo cioè adesso obiettivamente ma compriamo anche i cataloghi delle mostre da sempre alcuni sono fatti benissimo certo non è come andare alla mostra e stare lì dodici minuti davanti a Bracchi che ti piace tanto però sai piuttosto di niente diceva mio nonno meglio piuttosto cioè credo che sia uno non esclude l'altro bravissimo non è che uno esclude l'altro sembrano cose talmente ovvie a quanto pare no bisogna essere elastici ecco è quella ci vuole un po' di elasticità è come diceva Patrizia giustamente una cosa non esclude l'altra e soprattutto bisogna essere disposti a imparare a fare nuove cose che non è necessariamente un sacrificio magari anche un arricchimento magari tu cerchi di farlo come sacrificio e poi scopri che è una figata cioè credo che il tizio che ha fatto il concerto su Twitch ce ne farà altri centinaia e poi tornerà anche a fare concerti dal vivo come è giusto che sia insomma vabbè non è per tutti questo cioè non c'è questo spazio per tutti online non c'è secondo me al momento ma per tutti ci saranno ben poche cose Lucrezia per tutti ci saranno ben poche cose cioè o prima lo accettiamo è meglio cerchiamo di capire che dobbiamo fare di diverso ma guarda quando mi ascolterà qualcuno parlerò su YouTube per noiosi professori come Amenta e i suoi research assistant come me no io sono d'accordo con voi però dico le strategie per riaprire creative le idee secondo me al momento sono prioritarie perché di concerti online attualmente è pieno il mondo di presentazione online è pieno il mondo continuiamo giustamente a farle inventarci cose ma la strategia della riapertura per i musei per i festival per i teatri sono sono dimenticate guarda non deve essere un sostitutivo cioè nel senso non è un sostitutivo è semplicemente un'aggiunta un fatto che tu impari a fare oggi e poi però quelle al momento sono zero cioè come giustamente è stato detto è cioè neanche gli scenari mentre per il resto almeno qualche scenario sono questo 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 è la prima cosa che ho detto infatti cioè abbiamo il benchmark della Germania 50 miliardi sul settore culturale per lo sviluppo non soltanto per l'emergenza e noi non abbiamo né uno scenario né una strategia questo è il problema per lo sviluppo si parla del turismo della cultura che poi sono connessi chiaramente fondamentali e poi nessuno ha un'idea questo è il problema sono assolutamente d'accordo bene credo che adesso siamo arrivati alla fine di questa sezione è importante è importante una conclusione credo me è la sintesi perché proviene da Carlo Sagnaro che era qui con noi un po' fa Carlo non l'ha vista no no non l'ho vista Carlo ha testimoniato pubblicamente che dal vivo sei molto più sexy che in video ringrazio ringrazio faccio così guarda cavolo questo mi mette in difficoltà perché già l'ho trovato tanto sexy grazie grazie Enrico grazie 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 a tutti ciao 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 grazie stefano merigliano buonasera carissimi benvenuti buonasera 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 allora stefano merigliano lo conoscete perché ha già partecipato anche alla scorsa maratona lo vediamo molto pixeloso ma è qui fra noi quindi bentornato stefano e e flavia a Bruce Bustreo se Flavia vuole presentarsi giustamente per dire chi è che cosa fa ok grazie è una grande opportunità grazie dell'invito Michele è un piacere conoscerti ric io sono medico laureata a Padova vorrei dire vista l'occasione sono epidemiologa specialista in malattie infettive e ho lavorato per tantissimi anni quasi tre decenni con organizzazioni internazionali per salute pubblica internazionale soprattutto con l'organizzazione mondiale della sanità di cui dal 2010 al 2017 sono stata vice direttrice con il mandato per la salute della famiglia delle donne e dei bambini e in quella capacità sono stata anche vice presidente dell'organizzazione che si chiama Gaby l'alleanza contro i vaccini per i vaccini e soprattutto ho avuto l'onore il piacere di guidare il lavoro per lo sviluppo del vaccino dell'Ebola contro l'Ebola attualmente sono vice presidente di una fondazione Botnari in Svizzera e vivo a Ginevra da cui vi sto raggiungendo bene benvenuta allora Stefano se vuoi velocemente presentarti così beh io ci siamo già visti sono il presidente della scuola di medicina di Padova e come dice qualche volta il mio rettore in questo momento faccio l'apprendista virologo nel senso che supporto averne di apprendisti così no no supporto il così l'etereo professor Crisanti nella parte operativa di tutti questi progetti che stiamo facendo eccetera e tanto per rompere un pochettino il ghiaccio visto che si era parlato prima perché nonostante la stanchezza perché oggi siamo partiti per fare il terzo tamponamento di Voh con alcune cose che poi vi racconterò perché sono rimasti impressionanti visto che si parlava prima di Spritz Veneti eccetera vi faccio vedere una cosa incredibile che mi è arrivata oggi questa è grappa al 71% messa in convenzione spray per sterilizzare perché i Veneti ci tengono alla sterilizzazione in spray per potersi sterilizzare la mano con la grappa potrai diventare il più grande sterilizzatore del mondo devo dire che uno l'ha subito vista come il rasentin di eccellenza magari il coronavirus ci prende gusto con la grappa non è il caso esattamente comunque devo dire che ci facciano osservare che è sempre pieno di Veneto che Stefano sospettavo fosse Veneto quando mi è stato dal fratellone che tra l'altro ti ha mandato i saluti Stefano il suo fratello più piccolo è un mio vecchio amico quindi lo sospettavo Flavia l'ho scoperto la prima volta che ci siamo parlati perché non avevo la più vaga idea non ero andato a controllare né dove fosse nata né niente vive nel mondo quindi Lucrezia è l'unica non Veneta di questa sezione Lucrezia in questo momento di nuovo l'unica non Veneta ma è non è un caso c'è anche il fatto che avendo due organizzatori veneti insomma le bolle hanno anche una dimensione locale eh sì giusto beh allora lascerei parola a Lucrezia così insomma diamo parola alle minoranze e visto che tutta la giornata ha girato sotto i mille aspetti economici culturali organizzativi addirittura di diritto di tecnica informatica di un problema che alla fine è sanitario ci è sembrato giusto chiudere è giusto avere insomma la sanità dulcis in fondo ricordate il tema è andare avanti quindi vediamo cosa avete da insegnarci quello che è Lucrezia vai Lucrezia allora vado io non senza aver premesso che io sono laureata a Padova quindi non scherziamo con la questione Veneto quindi in cerchio si chiude in cerchio si chiude sono laureata a Padova poi sono scappata dopo tre anni perché io e Lucrezia ci siamo conosciuti a Padova quando abbiamo fatto l'università e poi ci siamo ritrovati a distanza di anni quindi sì sì volevo precisarlo perché a questo punto non vorrei poi essere esclusa da successivi eventi torniamo seri oggi abbiamo tanto parlato di tamponi di campionamento abbiamo parlato dell'app abbiamo parlato di come riaprire in sicurezza proprio facendo riferimento a questa questione e allora chi meglio di voi può aiutarci a capire come siamo messi a livello tamponi a livello campionamento diciamo qual è la situazione e soprattutto insomma siamo pronti a gestire la riapertura da questo da questo punto di vista non so chi vuole chi vuole chi vuole aprire le danze lascio lascio la signora prima di di passare a questo aspetto che è ovviamente importantissimo volevo segnalare a tutti e anche a chi ci sta seguendo speriamo che se ne siano ancora tanti nonostante la maratona lunghissima volevo segnalare un aspetto che siamo di fronte ad una pandemia completamente inedita non abbiamo avuto esperienze di questo tipo in passato in cui la presenza di infezione in diverse regioni nel mondo in diversi paesi nel mondo durante la stessa stagione abbiamo visto epidemie di coronavirus la SARS e la MERS nel mondo sono state generalmente localizzate geograficamente anche contenute in termini di stagionalità e non hanno causato nessuna pandemia di questo genere quindi il punto primo da segnalare prima di entrare nella discussione come ci muoviamo come possiamo essere liberi è da segnalare che siamo in presenza di una situazione completamente inedita in cui ancora la scienza sta scoprendo molte cose non abbiamo attualmente nessun trattamento che assolutamente ci permetta di dire possiamo trattare questa malattia con sicurezza e punto terzo stiamo ancora cercando ci sono tantissimi candidati per un vaccino però ancora non abbiamo un candidato vaccino da poter utilizzare neanche in fase sperimentale come abbiamo fatto per esempio col vaccino contro l'egola quindi bisogna tenere presente la situazione contingente poi è una situazione in cui i paesi cosiddetti tra virgolette sviluppati tra cui anche il nostro l'Italia sono stati particolarmente colpiti da questa infezione e attualmente il paese con il più alto numero di casi il più alto numero di morti sono gli Stati Uniti d'America per cui in questi paesi emergenze di questo tipo non sono successe da decenni mentre per esempio abbiamo visto l'epidemia dell'influenza dell'influenza suina della SARS in paesi asiatici e anche l'egola nei paesi dell'Africa subsahariana in questi paesi non abbiamo avuto esperienze recenti di difesa quindi il tutto è per iniziare con una voce di cautela poi passo la parola al collega che sicuramente può spiegare molto meglio l'esperienza reale e anche eccellente che hanno messo in campo soprattutto a partire dall'esperienza di voi però nota iniziale di questa conversazione cautela ho finalmente uno dell'OMS che dice una cosa intelligente spariamo subito l'organizzazione mondiale della sanità anzi nel senso che quello che ha detto la 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 dottoressa Bustreo è la vera fotografia di questa situazione è un'epidemia completamente diversa dalle epidemie degli ultimi due secoli e quindi è fuori di discussione che siamo non in un terreno incognito di più e siccome vi sto ascoltando da un po' di tempo mi è piaciuto moltissimo non so chi era perché mi sono un po' perso un po' stanco chi diceva che l'errore più grosso e dobbiamo ritornare alle basi dell'epidemiologia test trace and therapy siccome la therapy l'unica che abbiamo è l'isolamento restano test e trace che possono essere fatti tra l'altro effettivamente in centomila modi quindi si possono fare eccetera e soprattutto si possono fare molto bene quando ci sono pochi casi per cui nel momento in cui noi abbiamo ridotto il numero di casi oggi nel Veneto ce n'erano 90 di nuovi vuol dire che siamo possibili a fare il tracing vero e quindi quello che è l'isolamento della cosa quindi assolutamente sì prudenza perché quando io vedo la gente che pensa che tutto sommato si possa ripartire e devo dire che peraltro abbiamo anche alcune cose facili l'ebola aveva un rischio biologico bestiale ci si contaminava con tutto eccetera sulla SARS c'erano anche lì problemi di contaminazione con tutti i liquidi biologici qui abbiamo una contaminazione solo con le goccioline di flughe con con gli sputini con le goccioline per cui sembra strano ma una barriera come la mascherina chirurgica portata da tutti sempre già abbatte del 90% ma non sul naso ma io sono all'aperto ma io sono a un metro sempre sempre quindi la prudenza assoluta se noi abbiamo questo cosa vuol dire sempre cioè dovrei averla adesso non ce l'hai tu non ce l'hai nessuno arrivo anche a quello come ha detto la dottoressa Bustreo è talmente nuova ed è adesso a parte gli scherzi una delle cose che ha tratto in inganno le prime norme che non erano solo dell'OMS tutte le epidemie del secolo scorpo di due secoli fa venivano dai malati dalla manzoniana memoria della peste fino all'evole eccetera è il malato che trasmette la malattia il bambino col bambillo con la scarrattina è positivo quando si desquama quando quando ha la malattia manifesta questa purtroppo si trasmette per il 50% da completi asintomatici quindi noi dobbiamo proteggerci a prescindere come direbbe Totò dobbiamo portare la mascolina dobbiamo avere la cautela che non vuol dire non riaprire dobbiamo proteggerci quindi io credo e contemporaneamente aumentare enormemente la capacità di diagnosi e la diagnosi è solo il tampone sarà una sarà un'immagine in questo momento ma è questo il momento che ci permette la sierologia tutto quello che abbiamo ci dirà tante altre cose oggi abbiamo siamo partiti con il terzo tamponamento per gli epidemiologi è un sacro graal ormai sta diventando perché è una popolazione chiusa il primo giorno rimasta chiusa per tre mesi tamponata ora è zero ora è 15 eccetera ma noi non siamo andati a fare i sieri oggi siamo andati a fare gli studi genetici sulla popolazione della base immunitaria siamo andati a vedere la genomica del virus perché questo è il futuro dal punto di vista ricerca perché anche per capire e anche oggi sono andato in delle famiglie dove la moglie è positiva da un mese positiva con alta carica virale e il marito gente di 35 33 34 anni il marito convivente è negativo da un mese negativo a quattro tamponi successivi e voi non volete che questo sia un virus strano eccetera quindi magari ci sono stati attenti no no vivono in una casa normalissima pensa che il giorno che hanno fatto il tampone alla moglie siccome avevano un po' di bronchite tutti e due hanno usato lo stesso aerosol per farsi l'aerosol uno è positivo l'altro non è positivo allora sulla base di queste di queste affermazioni che avete fatto che sono interessantissime io avrei una questione da porne allora noi abbiamo capito alcune cose abbiamo capito che per il vaccino dobbiamo aspettare sicuramente il 2021 comunque sarà un processo molto lungo abbiamo capito che le risposte definitive della scienza su per esempio la resistenza alla temperatura l'immunizzazione dovranno attendere e abbiamo capito lo stiamo capendo che non possiamo chiuderci nelle nostre piccole realtà isolarci fino a che non avremmo queste risposte definitive quindi la questione che pongo è la seguente voi da medici da scienziati come state vedendo il fatto che il governo italiano sta in qualche modo almeno dal mio punto di vista nascondendosi dietro questa necessità di dire bisogna ascoltare la scienza come non bisogna ascoltare gli economisti gli ingegneri e le persone cioè c'è una totale mancanza c'è quasi una compartimentazione del discorso intorno alle soluzioni che ci fa dimenticare e il discorso di Conte è emblematico che la questione coronavirus non è soltanto una questione medica non è soltanto epidemiologica o virologica è anche una questione educativa è anche una questione civica è anche una questione economica e però sembra che tutti quanti ce ne dimentichiamo sulla base di una retorica che ci dice non come voi giustamente dite siate prudenti ci dice spaventatevi e questo è terrificante dal mio punto di vista posso correggerti un attimo ci mancherebbe lanciare un po' più di ottimismo sulla scienza attualmente non abbiamo nessun vaccino però attualmente abbiamo 115 candidati per i vaccini e ci sono gruppi come i Gavi come i Sepi che stanno lavorando per il coordinamento della ricerca sulla possibilità di usare nuovi vaccini anche ieri il più esperto degli Stati Uniti il dottor Fauci ha quotato una possibile data dall'inizio di gennaio del prossimo anno io penso sia realistica perché siamo riusciti a fare a sviluppare un vaccino e usarlo nella fase finale di estinzione della malattia di Ebola nel paese della Guinea-Bissau intorno a circa un anno e abbiamo fatto utilizzato il vaccino con una metodologia cosiddetta grapolo aggiungendo alla strategia che il collega ha spiegato molto bene che è quella del test e tracing cioè identificare i pazienti positivi identificare i contatti e inocularli con il vaccino quindi capisci che quando hai una situazione di questo tipo che non è così lontana potrebbe essere tra 6-8 mesi avremo delle armi completamente diverse nel frattempo giustamente sottolineavi che non è non si tratta soltanto di una crisi sanitaria di morti da coronavirus per avvallare la tua tesi volevo dire che per esempio per quanto concerne la salute dei bambini abbiamo già dei dati dall'isolamento che questi bambini a Wuhan nella provincia di Hubei hanno avuto in relazione alla presenza della malattia che segnala che circa il 30% dei bambini intervistati riporta dei sintomi da cosiddetta sindrome post-traumatica da stress quindi esiste un fenomeno psicologico sociale per i bambini e poi c'è un altro fenomeno che vorrei ricordare anche perché non si è sentito in questa trasmissione almeno per quel pezzo che ho sentito io prima della nostra sequenza che è il fenomeno che chiamiamo della pandemia nella pandemia cioè l'isolamento e il confinamento in situazione domestica ristretta non fa scomparire il fenomeno della violenza contro le donne e contro i bambini anzi lo accento a questo lo sappiamo da precedenti pandemie lo sappiamo da precedenti crisi socio-sanitarie ed economiche e quindi questo per avallare la tua tesi che la situazione che abbiamo vissuto che stiamo vivendo è una situazione delicata che ha bisogno di trovare delle soluzioni per esempio nel caso della violenza essere sicuri che ci siano le hot phone le hotline perché le persone possono raggiungere in certi paesi stanno sperimentando per esempio il governo francese ha sperimentato con la disponibilità di alberghi di stanze di albergo per avere donne che si trovano all'interno di una violenza domestica che non riescono a sopravvivere di poter essere temporaneamente in isolamento in situazioni come per esempio una struttura alberghiera quindi assolutamente da tenere in considerazione e poi questa se mi permetti questa contraddizione io non so se l'avete trattata precedentemente ma sono sicura che magari Michele punzeccherà su quello tra salvare la vita e salvare l'economia secondo me non è una contraposizione molto valida perché alla fine salvare la vita e creare le condizioni di salute per le donne per i bambini e per le persone è assolutamente necessario per creare economia non si può non sono prescindibili questi allora mettiamo la questione mettiamo la questione per quello che è qui non è questione di infatti le questioni non vanno impostate continuo a dirlo in questi termini 0 1 mi dispiace perché tutte le volte che le si imposte in questi termini estremi si apre il fianco a soluzioni che in realtà non sono però Michele un attimo Stefano la questione oggi in Italia è molto semplice il paese è chiuso a tre mesi il vaccino verrà quando verrà alcune cose le avete o si sono apprese rispetto agli effetti di questo di questo virus la domanda vera da porsi è trovare tutte le indicazioni possibili che permettano alle persone ma non è l'economia nel senso purtroppo retorico di questi affaristi con la bava la bocca le mani sudate no è proprio la gente che deve lavorare e vivere molto banale milioni e milioni di persone che non sono a stipendio garantito che non sono pagati dal sapore pubblico che non ricevono lauti stipendi come io le quali nelle condizioni attuali semplicemente non possono sopravvivere per più a questo punto molti e quindi il problema va impostato così in maniera molto concreta questa è la domanda che io faccio le stranezze del virus sono rilevanti se solo se hanno rilevanza sociale e statistica se sono stranezze sono rilevanti perché ho fatto una carriera su stranezze matematiche dei sistemi economici però hanno scarsa rilevanza per decidere se poi quando il settore turistico italiano di cui abbiamo appena finito di parlare potrà o non potrà riaprire i musei con qualche modalità però Michele allora proprio per darti una risposta e per anche rompere un pochettino di depressioni perché ne abbiamo già abbastanza in realtà siccome io sono poi alla fine sono un chirurgo non ho sentiato guardo i numeri allora l'ospedale di Padova ha 8000 persone l'ospedale di Padova ha visto passare quasi un migliaio di persone covid è stato il centro di riferimento con 40 persone in rianimazione ne sono passati quasi un migliaio tra intensiva e non intensiva abbiamo 8000 persone le abbiamo testate tutte le abbiamo testate isolate ogni volta che c'era con tutta la tecnica della cipolla abbiamo tenuto aperto l'ospedale abbiamo fatto tutta l'attività chirurgica di alto livello come negli anni precedenti e abbiamo l'1% di positivi il che vuol dire che dentro un ospedale covid con una capacità semplicemente di test e tracing e con le attenzioni normali delle protezioni normali abbiamo assolutamente condotto una vita quasi normale all'interno di un sistema altamente critico quindi non in una cosa il che vuol dire che in realtà secondo me il metodo per ripartire esiste ed è basato sulla capacità di testing quindi perdiamo meno tempo a farsi le seghe epidemiologici sui sieri le ricerche di falsi patenti di immunità che tra l'altro con la sierologia attuale non si testano gli anticorpi neutralizzati perché non sappiamo se lo sono mentre i tamponi allora io mi sto anche chiedendo tante volte invece che perdere tempo perché il Veneto tra un mese arriva a 30.000 tamponi al giorno 30.000 tamponi al giorno il che vuol dire che puoi avere un test immediato praticamente su tutti e ci sono ancora la Lombardia per non dire il Piemonte che fanno il test proprio su al malato e ancora non vanno a fare il test alla moglie ai figli ai conviventi all'appartamento allora il metodo c'è si chiama test tracing quindi quello che si diceva prima la cipolla la cosa andiamo a andare avanti in maniera positiva mi devo dire che con questo sistema noi possiamo aprire quasi tutto andiamo per ordine vediamo cosa vuol dire aprire quasi tutto perché allora potremo tu e io in altre interviste ne abbiamo parlato potremmo farlo anche qua sarebbe facile per entrambi e anche per gli altri tre che sono con noi mettere in evidenza le enormi mancanze del settore pubblico la Lombardia credo che a questo punto sia acquisito quindi proviamo a essere magnanimi e facciamo finta che insomma c'è ovviamente un modello a me a me personalmente magari a Lucrezia e Ric no ma a me davvero interessa la frase che dice potremmo aprire quasi tutto io voglio capire come mascherina e capacità di test per cui al primo dubbio che c'è tu tamponi lui e le persone io riapro una fabbrica la prima quindi lasci che ti fermo capacità di test vuol dire costruire quindi qui c'è un problema di investimento serio sanitario se capisco non avviato che vuol dire moltiplicare di gran lunga il numero di persone capaci di fare test e la disponibilità di test in modo da averle rapidamente nel territorio giusto o sbagliato le macchine sono automatiche basta acquisirle Lucrezia vuole chiedere qualcosa devi accendere il microfono non ci chiediamo Lucrezia scusatemi anche a te è capitato anche a te è capitato alla fine sto cedendo anch'io è stata la perfetta della cosa non ha fatto uno sbaglio alla fine sto capitolando velocissimamente volevo ringraziare la dottoressa per aver citato un argomento a cui tengo tantissimo cioè la violenza domestica ho usato Shining nei giorni precedenti per dire che guardate la casa della Mulino Bianco non è la casa di tutti e quindi sì salute con il coronavirus ma anche salute mentale tema completamente scomparso dal dibattito invece volevo aggiungere per far rispondere sulla questione riapertura test la questione terapie intensive io vivo nelle Marche il dibattito attuale è legato al nuovo ospedale covid che stanno costruendo tutto con donazioni tra l'altro nessuna spesa del pubblico per dire l'emergenza sanitaria per riaprire per stare con le spalle coperte stiamo aumentando i posti della terapia intensiva cioè è vero che il terzo punto è questo cioè se si riapre e i posti oppure è completamente fuori dalla dalla questione è completamente ma la cosa importante che stiamo cercando di spiegare siamo assolutamente nella stessa linea col collega Merigliano è che la battaglia contro queste malattie effettive come il coronavirus si deve vincere nel territorio è assolutamente importante avere la capacità del servizio sanitario di rispondere con strutture ospedaliere di alto livello le cure intensive quelli sono fondamentali però per estingue in questa fase in cui stiamo progressivamente scendendo per estinguere la trasmissione della malattia nel nostro territorio bisogna assolutamente seguirla con quello che chiamiamo la sorveglianza attiva cioè essere capaci di detettare le persone i casi che sono i contatti dei casi e poi l'isolamento oppure seguirli in modo tale da vedere che non sviluppino la polmonite interstiziale e siano da ricovero assoluto in condizioni gravi che richiede terapia intensiva quindi la battaglia bisogna assolutamente vincere nel territorio questo è quello che hanno fatto anche gli altri paesi e per rispondere un po' a Michele quello che si fa è che si aprono progressivamente si può cominciare dalle scuole si può cominciare ad alcune aspetti di lavoro e si continua a sorvegliare attivamente per non avere l'epidemia di ritorno perché come sapranno tutti quanti ormai dai telegiornali dalle notizie quando abbiamo che una stazione epidemiologica in cui un caso infetta più di un altro caso ripartiamo con la curva di crescita esponenziale quindi dobbiamo mantenerci in quella fase con prudenza e ovviamente cercando di essere certi che il sistema di sorveglianza attiva è capace di redettare i casi la cosa importante è che questi sistemi di sorveglianza attiva sono dei sistemi e non so se questo hai detto Michele che è stato molto discusso però sono dei sistemi che soltanto un sistema di sanità pubblica è in grado di mettere in piedi essere efficace e collegato perché i sistemi di sanità privata sono sempre focalizzati sulla risposta terapeutica perché non c'è domanda per un sistema di sorveglianza non c'è mai stata magari ci sarà adesso in relazione a questa situazione particolare quindi una cosa che secondo me è assolutamente importante in questa dinamica attuale è quella di preservare e conservare gli investimenti nel sistema sanitario pubblico di cui per fortuna l'Italia è dotata ed ha fatto investimenti di decenni e metterlo effettivamente in condizione di funzionare al meglio sì poi c'è c'è da dire anche che è stato dimostrato noi noi l'abbiamo visto eravamo arrivati alla disponibilità di quasi 80 posti letti di terapia intensiva non siamo mai riusciti a superare i 32 perché perché abbiamo scoperto che tanto prima incomincia a trattarli il che vuol dire che li identifichi prima tanto meno grave la malattia tanto prima riesci a portarli in una semi intensiva cioè il casco la NIV eccetera perché quelli che arrivano in terapia intensiva in realtà sono quelli che poi moriranno perché hanno multifatolarità di patologie eccetera quindi il fatto di tracciarli il fatto di tenerli sul territorio il fatto di iniziare la terapia a casa anche riduce il problema è un falso problema quello delle terapie intensive quanto è costato tra l'altro di privato senza nessuna logica senza nessuna indicazione è costruire un posto da 80 100 posti letti di terapia intensiva a Milano mai usato 8 letti sono stati usati perché poi tra l'altro i posti di terapia intensiva hanno bisogno di personale altissimamente non basta uno torino che attacca la macchina eccetera ok lascia che ti fermi qua perché siccome abbiamo poco tempo e tanta fame no scusa scusa un attimo perché devo cercare allora eliminare la questione di terapia intensiva come la ragione per tenere chiuso tutto altrimenti esplode già un enorme passo avanti rispetto al debito al dibattito nazionale diciamolo l'intero dibattito nazionale la giustificazione anche nell'ultimo rapporto tecnico io non so se non vi ascoltano a Padova quelli di Roma però l'ultimo rapporto tecnico me lo sono letto ma a me ha fatto impallidire perché hanno fatto le stime senza mai dire cosa hanno usato dicendo assumiamo di qua assumiamo di là come se fossero numeri che cadono dal pero la chiave di tutto è guai a voi se si riapre si fa arrivano cento cos'era il numero centosessantacinque mila in terapia intensiva ed è la fine del mondo ora sento due persone direi da due angoli tra l'altro molto diversi che mi dicono questo si può tranquillamente evitare non tanto moltiplicando i posti di terapia intensiva ma giocando sul territorio la prevenzione eccetera assolutamente sarebbe il caso signora e signore cioè dottoressa e dottore insomma come voi che diciamo mi facciamo anche per nome di dirlo è forte perché capite che noi abbiamo un paese paralizzato a livelli folli e incapace di prendere decisioni da tre mesi perché non abbiamo le terapie intensive allora Michele io ricordo il primo giorno che parlai con Crisanti il 22 di febbraio lui era in Australia e disse chiaramente volete eliminare il virus o volete convivere con il virus perché se volete eliminare il virus lo tracciate lo isolate e lo chiudete e si spegne se invece lo lasciate correre non lo tracciate dovrete convivere e speriamo che non consumi risorse questo virus nella sua sfiga lasciato correre è un grande consumatore di risorse ma non è lì che si vince tanto è vero e faccio un esempio concreto l'Emilia Romagna ha fatto gli stessi numeri della Lombardia cioè la metà dei tamponi nostri ma il sistema territoriale più grande d'Italia perché il 30% del personale è sul territorio che ha avuto dei risultati non così brillanti come i nostri che abbiamo un ottimo sistema territoriale e tantissimi test ma non è andato in crisi perché se tu pensi di risolvere il problema curandoli hai creato dei macro focolai che sono gli ospedali e hai creato scusami perché tutte queste cose almeno chi segue questo canale e il dibattito che abbiamo qui ormai da tre mesi ce l'hanno chiarissimo credo di essere stato uno dei primi almeno fuori dall'ambiente medico a dire ai giornalisti in febbraio sta succedendo dei disastri negli ospedali guardate gli ospedali sono in focolai poi quando abbiamo parlato con te e con altri ho capito che infatti dall'esperienza vostra gli ospedali io però voglio capire adesso perché qui scusatemi se sono infatico ma vorrei arrivare al punto perché mi oscillate fra due posizioni una molto generale che però sono d'accordo però in questo momento l'abbiamo acquisita è nuovo è difficile non sappiamo il vaccino le risorse tutto d'accordo tutto d'accordo non discutiamo neanche siamo d'accordo e un'altra più tecnica che è quella che viene fuori dal ragionamento che appena ha fatto Stefano citando Andrea Crisanti che dice volete convivere o volete isolarlo mi sembra plateale che oggi quel problema lì ammesso e non concesso che si ponesse l'8 febbraio a mio avviso c'era già tanto ma non importa magari aveva ragione Crisanti era eliminabile oggi il problema non si pone oggi c'è sì che si può la tua prospettiva è che oggi in Italia si pone il problema di una cancellazione cioè è possibile cancellare la presenza del virus e rimanere indenni da seconde o terze ondate forever se tu se tu attui una serie politica di test tracing ed isolamento ma abbiamo metà delle regioni che sono a un caso due casi tu vuoi dirmi che nella regione dove c'è un caso due casi tre casi non li puoi isolare e conclavare e a quel punto sì o Marche Emilia Romagna Piemonte Lombardia bisogna bisogna continuamente isolarli e tracciarli 25 milioni di persone lo puoi fare ci sono gli esempi di altri paesi che sono riusciti a ridurre i casi a zero come ad esempio la Corea del Sud e poi l'altra cosa importante su cui volevo intervenire è che la pericolosità di questo virus e soprattutto la mortalità legata a questo virus le conoscenze che abbiamo fino a questo momento hanno dimostrato che in Europa per esempio i dati dell'OMS della regione europea dimostrano che circa la metà delle morti sono in persone sopra gli 80 anni quindi noi in questa strategia di prevenzione nel territorio dobbiamo anche includere una protezione speciale o no più speciale per le persone che sono le più anziane perché sono quelle che come è stato detto in tante occasioni hanno altre patologie concomitanti e nel caso contrariano anche l'infezione da coronavirus sono purtroppo le più deboli e possono mancare in questo in aggiunta a questa situazione che tu hai segnalato Michele che gli ospedali sono diventati un po' diciamo hanno rappresentato dei micro focolai nel territorio non solo gli ospedali ma anche le case per anziani le case di riposo perché in alcune regioni come si è visto ma non soltanto in Italia anche in altri paesi del mondo molti malati che gli ospedali non riuscivano più a tenere perché avevano una domanda molto alta di ingressi hanno parcheggiato quote in quote le persone non completamente guarite nelle case di riposo e nelle case per anziani e in questo caso hanno creato una situazione di vero focoraio anche perché queste strutture non sono equipaggiate normalmente come gli ospedali con tutte le misure per esempio di protezione di equipaggiamento protettivo per gli operatori non hanno neanche le conoscenze e le capacità che gli ospedali dovrebbero avere ok un attimo solo allora devo intervengo su questa cosa qua perché sulla cosa che ha detto Stefano e anche su questa su questa considerazione di Flavia io ho un enorme dubbio scusatemi ma io sono filosofo quindi di queste questioni tecniche magari sono un po' fuori però nel paese dell'applicazione immuni nel paese dell'autocertificazione scritta nel paese abbiamo visto delle scene incredibili già di per sé io dubito fortissimamente che si riesca a contingentare in maniera da isolare in modo efficace 25 milioni di persone che effettivamente fra Lombardia Piemonte via dicendo hanno contratto il virus ma poniamo anche il caso che sia fattibile ok per me non lo è però poniamo il caso che sia fattibile come la mettiamo col fatto che il mondo cioè perché questa è la pandemia il mondo è a diverse velocità e che se vogliamo isolare all'interno del territorio nazionale i contagiate significa anche inevitabilmente a tempo quasi indeterminato dover chiudere i confini con gli altri stati perché poniamo il caso che riusciamo ad isolare le persone qui in Italia come facciamo poi a impedire che paesi come la Bulgaria come la Romania che sono in ritardo su questo tipo di misure non portino con sé dei focolai all'interno del nostro paese cioè per me è talmente eclatante dal mio punto di vista di osservatore comunque si informa il fatto che siamo già molto in ritardo nei confronti dell'idea di poter isolare il virus al punto che come dicevo prima cioè nel senso noi dobbiamo convivere con il rischio e mi ricordo un video di Stefano Merigliano con Michele in cui si diceva chiaramente noi dobbiamo convivere col virus e siamo già molto tardi nel treno dell'eventuale isolamento come possiamo pensare di poter frenare il virus al punto di isolarlo in questo momento dove ripeto siamo già a 10 12 13 diverse velocità soltanto in Europa allora bisogna anche che ci ricordiamo e questo ci insegnano le esperienze di altre malattie effettive che le epidemie hanno normalmente una curva una curva campana cioè si comincia con pochissimi casi poi cominciano a crescere esponezionalmente perché si raggiunge il picco e poi si comincia a scendere quello che non sazione ci sono già anche altri paesi che hanno superato il picco stanno cominciando a scendere questo quello che sappiamo di questo coronavirus ha ancora tante incertezze però per il momento sicuramente possiamo prevedere che per quanto riguarda l'Italia noi avremo una fase in cui cominceranno e hanno già cominciato a ridursi i nuovi casi quando si entra in questa situazione è importante la fase che stiamo spiegando con il dottor Merigliano nella fase iniziale importantissima e nella fase finale molto importante se per esempio tra qualche mese saremo in condizione di avere anche dei vaccini potremo cominciare veramente a distinguere la distribuzione all'interno della popolazione nel frattempo bisogna hai ragione bisogna cercare di convivere con le precauzioni che abbiamo cercato di spiegare con un occhio particolarmente di riguardo per le persone che sono sopra gli 80 anni perché hanno una fragilità speciale per esempio per loro probabilmente sarà suggerito e sarà importante continuare a limitare le uscite avere il distanziamento sociale che è necessario in modo da proteggersi dalla possibilità di infezione portare le mascherine usare tutti i metodi che abbiamo a nostra disposizione Ricca il problema è questo certamente non lo elimino dal mondo però certamente non lo elimino dal mondo ma oggi ho i dati nel Veneto ci sono 64 nuovi casi 64 su 5 milioni di cui la metà in case di riposo vuol dire che ce ne sono 40 sul territorio se io riesco ad andare a tamponare e a fare il tracing di quelli 80 più i suoi parenti probabilmente il giorno dopo ne ho molti mail e questo è il sistema per aprire cioè avere la certezza che tu sei in grado di fare il tracing dei nuovi casi il che vuol dire vuoi far arrivare i turisti ma notti 14 giorni in quarantena scendono dall'albergo gli faccio il tampone scendono dall'aereo gli faccio il tampone dopo 6 ore io so chi è positivo e chi non è positivo sì però con questo metodo con questo metodo che io in linea teorica potrei anche abbracciare allora intanto dobbiamo ribadire come dicevo prima presupporre una forza incredibile dell'istituzione cioè nel senso veramente quello che hai appena detto è la forza della salita pubblica è la forza e non è solo la salita pubblica il Veneto non è l'Italia sì ma non è l'Italia scusate scusate mi intrometto anche io perché da scienziato sociale ai due medici ragazzi provate a ragionare avete presente qual è il traffico in arrivo all'aeroporto non dico di di francoforte o di un aeroporto grande un aeroporto piccolino come vedete nei sei mesi estivi certo allora se avete presente quello è meglio che ragioniate perché la soluzione la soluzione ideale per il medico scusami Flavia scusami Flavia scusami la soluzione se il medico continua a richiedere la soluzione ideale è una situazione di dittatura dei medici quella in cui viviamo in cui poi politici incapaci si nascondono dietro al medico che chiede la perfezione per dire tanto non facciamo niente tanto io lo stipendio ce l'ho garantito questa cosa non si fa capite perché il traffico aeroportuale anche solo dall'aeroporto di Venezia richiederebbe decine di migliaia di operatori sanitari a disposizione nell'arco delle 24 ore questo avrebbe un costo tale che chiudiamo tutto il resto cioè se voi pensate che sia ragionevole un approccio a questo problema del tipo praticamente spendere il 30% del prodotto interno lordo che sarà a quel punto il prodotto interno lordo metà di quello attuale nel puro settore sanitario per militarizzare con gli operatori sanitari che fanno tamponi a go go e si Stefano prova a ragionare prova a pensare ai numeri prova a pensare a cosa che c'è Marco Polo anche solo Marco Polo che poi al mondo ci sono aeroporti ben più grandi un tampone costa 30 euro ma non è il quanto di un turista che non sta a Venezia una settimana cosa scusami allora un turista che sta a Venezia una settimana quanto ti porta d'indotto rispetto ai 30 euro che costa il tampone ma non è il 30 tampone Stefano è il personale che costa è tutto è tutto quello che ci sta intorno che costa è per quello cioè ripeto poi comunque no io non credo che sarà pensabile io vivo in Svizzera attualmente e vedo che la maggior parte delle organizzazioni degli avvenimenti per quest'anno 2020 hanno rallentato tantissimo non prevedo che l'estate 2020 possa avere l'aeroporto di Marco Polo come la ma certo ma ci mancherebbe ma non è quello ma non è quello che stiamo dicendo quello che non si sta osservando è che ci sono circa in cui progressivamente si potrà far ripartire anche del dei voli delle attività e ha gettata ci sono alcuni milioni decine di milioni di persone che vivono di queste attività il fatto che dei medici dicano non potete lavorare né vivere né mangiare per i prossimi tre anni credo non sia una soluzione ma nessuno di noi l'ha detta non abbiamo detto questo non abbiamo detto questo ragazzi se la proposta è teniamo tutto chiuso perlomeno fino a giugno del 2021 no non abbiamo detto abbiamo detto ci vuole estrema cautela procediamo parole apriamo alcune filiere se vogliamo chiamarle così abbiamo mettiamo l'accento sulla sorveglianza attiva il tracciamento di contatti in modo da l'abbiamo capito io sto cercando di trasformare queste parole generali in operatività politica cioè mettendo dei numeri scusa Michele a me sembra io la butto poi in realtà dovremmo perché saremo verso la chiusura adesso però io vorrei dire solo questo io dal punto di vista medico capisco perfettamente questa prospettiva il problema è che perdonatemi ma io ci vedo una grande ingenuità politica da questo punto di vista perché nel paese dove da sempre si approfitta della minima apertura per abusare di alcuni tipi di potere il rischio enorme è quello di dare il là a una serie di misure che non avranno un effettivo intento medico e sanitario ma avranno altri intenti e credo che questo sia molto rischioso perché in fin dei conti dobbiamo trovare dei punti di compromesso io dalla vostra visione non sto vedendo i punti di compromesso è quello scusatemi posso dirti il pubblico promesso vedo che ci siano due minuti dacci un tempo qual è il coefficiente di rischio che tu accetti allora il tabunamento totale è 100% di sicurezza scendiamo 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 arriviamo al 90% allora il 90% richiede una percentuale minore quindi io il primo giorno che mi ha chiesto Michele ragionevolezza e coefficiente di rischio allora tu puoi scendere ma siamo tutti consapevoli che abbiamo un coefficiente di rischio è ovvio che con il coefficiente di rischio del 10% accettiamo una percentuale di pazienti che dovrai essere pronto eccetera puoi trasformare il controllo con i tamponi col controllo con la temperatura mantieni un coefficiente di rischio un po' più basso il sistema e quindi i tamponi sono quelli che hanno più di 37 e mezzo di temperatura benissimo quindi è un rapporto come sempre nella vita costo beneficio esatto ma su questo siamo d'accordo Stefano abbiamo detto fino all'inizio il problema che io sto cercando siccome ormai è tardi in Italia siamo al primo maggio e si continua a ragionare per principi generi guarda vedo che un ascoltatore William Blake ha fatto lo stesso calcolo che ho fatto io e abbiamo lo stesso numero solo dato il traffico del 2017 quindi un traffico vecchio di Venezia tamponare tutti vorrebbe dire fare solo all'aeroporto di Venezia 40.000 tamponi al giorno allora si fa la temperatura e la fai a metà o a un terzo o a un quinto io l'invito che mi sento di fare in chiusura poi lascio la parola agli altri qua a voi due è davvero però io siccome sono estremamente preoccupato quello che sta succedendo in Italia è estremamente preoccupato perché si oscilla fra negare il problema e delle forme di massimalismo totale occorre che specialmente chi nel campo medico che oggi viene ascoltato a mio avviso in maniera esclusiva e lo dico con tutto il rispetto che ho per voi due e per tanti altri questo è un terribile errore un terribile errore che la gente sta facendo di cui la classe politica si sta avvantaggiando per nascondersi dietro al dito è necessario che facciate uno sforzo chi fra di voi ha come dire status per far capire che esattamente il problema è coefficiente di rischio e ragionevolezza e che occorre passare dalle affermazioni generali a delle affermazioni che siano come dire dei piani veri che forse 10.000 tamponi si possono fare adesso non lo so neanche quello ma non 40.000 e che quindi occorre che l'autorità pubblica lavori su questa direzione mi fermo quindi ecco avete visto pubblico avete visto anche un bel dibattito in cui siamo stati in disaccordo decisamente in disaccordo e questo credo ci è stato bene ma io vorrei dare la parola in chiusura ai nostri due ospiti perché è giusto e a Lucrezia che abbiamo un po' soffocato con gli interventi un po' troppo maschili no allora io posso dire una cosa una cosa una battuta di chiusura e poi chiudiamo noi perché il dibattito è stato molto sull'Italia però un paese vicino come la Svizzera che peraltro soprattutto nel canton vicino ha visto un'infezione significativa ha già iniziato la fase di riapertura dal 26 di aprile Michele hanno iniziato ad avere un'apertura per esempio di alcune di alcuni cantieri hanno riaperto le strutture sanitarie diciamo non urgenti hanno riaperto i parrucchieri e si sono dati altre due o tre settimane con sorveglianza attiva per vedere se ci sarà incremento di casi per riaprire le scuole obbligatorie e tra circa un mese riaprire i ristoranti quindi non penso che in Italia sia così lontana e così impossibile Flavia tu sai che in Italia certamente mi hanno abbattuto la Svizzera è sempre stata un altro mondo sicuramente sicuramente ne sono cosciente però non sarà non sarà l'Italia non sarà in questa situazione di centinaia di morti giornaliere per ancora per tanto ne sono convinta poi lo spero unicamente Stefano no no io è un discorso molto lungo hai perfettamente ragione tu sai che io ho aiutato le aziende a costruire il protocollo per la riapertura delle aziende sono assolutamente convinto di questo il che vuol dire che dobbiamo semplicemente definire qual è il coefficiente di rischio è vero che il 50% delle persone sono asintomatiche sapate quel 50% di rischio per cui noi abbiamo tra l'altro degli altri elementi che possono essere quindi è un coefficiente di rischio ma bisogna avere però la capacità di fare di fare il tracing e di fare il di fare il tracing di fare la mappatura di fare i test quindi quando tu ce l'hai poi accetti perché così se per caso ti scoppia un piccolo focolaio lo puoi immediatamente lo puoi immediatamente chiudere stiamo lavorando per esempio con i nostri statistici per calcolare qual è il coefficiente di rischio in un'azienda di 200 persone se viene una persona e i coefficienti di rischio sono molto bassi quindi potrebbe anche essere che tu apri con la capacità di monitorare sapendo che se ti nasce un focolaio lo circondi è il concetto dell'incendio cioè tu hai spento con i canadeari il grosso ma adesso devi avere le squadre che stanno in giro e che sono pronte appena nasce il focolaio di circondarlo questa è un'altra delle tecniche il problema è che l'incendio si propaga da un centro verso le periferie e questo è un incendio che arriva anche da periferie esterne e quindi in realtà è un po' più complicato Italia che deve essere in grado di spegnere e progressivamente certo che se hai la Spagna che è messa peggio di noi è un grosso problema va bene purtroppo non possiamo guarda questo dibattito è stato la cosa positiva è che da noi non verranno non ci abbiamo più tempo mi sa che no perché se riabbiamo se riabbiamo è un tema potenzialmente infinito ma lo sapevamo chiudere con la sanità in un'emergenza sanitaria avrebbe riaperto tutti tutti i tempi però posso dire in chiusura che oggi abbiamo visto che l'Italia intanto è molto diversa e è un mondo di no di soluzioni diverse anche di competenze diverse e secondo me un pochino siamo riusciti anche a rispondere a Conte non so se vi ricordate un po' di giorni fa la giornalista che polemizzava con le sue risposte ha detto non abbiamo sbagliato nulla ci venga lei a fare a fare il mio lavoro se se lo sa fare no e e forse oggi un po' abbiamo dimostrato che un sacco di gente in giro saprebbe dare qualche qualche risposta in più che non siamo proprio così imbambolati come come ci hanno fatto passare in queste settimane no e e alla fine non si può sentire solo una campana ma ci sono interessi in gioco veramente tanto variabili e e la vita è pure molto complessa non c'è solo quella della salute ma c'è anche una dignità ulteriore però mi sembra che era giusto secondo me chiudere anche con appunto stiamo vivendo una situazione problematica cioè noi potevamo dare solo risposte positive del riapriamo ma è chiaro che le domande sono comunque comunque tante no però secondo me oggi abbiamo inanellato tante soluzioni e fino fino a queste tante tante prospettive come dicevamo alla scorsa maratona di fronte alla complessità si esce soltanto mettendo insieme tante prospettive diverse volte anche discordanti da cui poi uscirà una sintesi non egheliana mi raccomando ma una sintesi magari che funzioni una sintesi che funzioni che dopo la sintesi egheliana ha bisogno della contraddizione di nuovo non finisci mai bene è troppo tardi per fare il discorso filologico io e Stefano dobbiamo andare in barca a Lignano portate anche me bastardi portate anche me però organizzeremo la gita tra regioni anche le donne sanno andare in barca non ve lo dimenticate Stefano se provi qualche altra donna in più va bene va bene ok facciamo lo yacht però Stefano tu prova a farmi il tampone e ti denuncio i studi più recenti hanno dimostrato che i paesi con leadership femminile hanno avuto una risposta più favorevole aria 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 a tutti qua a Merkel cercate di invitare qualche altra donna che magari ha qualche saggezza da portare ne altri tesoro facciamo il possibile va bene va bene la prossima volta mi taglio i baffi questo è il canale è l'unico canale questi canali qui coinvolti in Italia insomma i quattro canali coinvolti sono gli unici fan di Angela Merkel in tutto il paese esattamente esattamente la invitiamo la invitiamo allora io adesso dobbiamo chiudere grazie mille a Flavia Bustreo a Stefano Merigliano è stato interessantissimo il dibattito molto bene specialmente per l'ora veramente grazie mille a tutti i 1800 spettatori alle 22.10 che sono ancora online incredibili grazie veramente i canali che vedo io circa 24.000 passati in queste ore grazie grazie veramente fantastici Lucrezia non saremo menzana ma insomma visto che siamo a un livellino leggermente più attento Lucrezia ci ha sopportati e ci ha supportati in maniera eccezionale durante questa grazie grazie Flavia grazie Stefano grazie veramente carissimo ciao ciao adesso suppongo che YouTube ci scaccia e quindi buonanotte ecco